capitolo 1 incontro con un uomo morto ero proprio nauseato dall'esistenza quel giorno quando rincasai verso le tre del pomeriggio dopo una corsa nella city tre mesi trascorsi nella terra natale erano bastati a ridurmi così in una situazione spirituale che superava ogni previsione più nera e che contrastava apertamente con la mia indole non mi sembra il caso di indagare le ragioni del mio profondo disgusto ma credo che dipendesse dal clima ingrato dalla conversazione monotona dei miei compatrioti e dal mio stile di vita che non era quello di un uomo d'azione anche le attrattive londinesi mi parevano insipide come acqua di soda lasciata al sole per un po di tempo dove erano andati a finire i grandi progetti concepiti durante gli ultimi anni del mio soggiorno a bulawayo nel sud africa non avevo altro sfogo oltre quello di mordermi le dita e di rivolgermi energiche ramanzine che cominciavano invariabilmente così richard enney amico mio ti sei messo sulla strada sbagliata e bisogna che tu ne esca quando stavo costruendo la mia modesta fortuna altri avrebbero preteso di più ma io ho saputo rispettare il limite che mi ero imposto mi ripromettevo di ricavarne tanto piacere quante erano state le privazioni che avevo sopportato mio padre mi aveva condotto lontano dalla scozia all'età di sei anni ed allora non era più tornato in patria l'inghilterra mi appariva perciò come un sogno da mille e una notte e contavo di stabilirmi ci appena possibile per il resto dei miei giorni ma ben presto le illusioni se ne erano andate in capo una settimana ero stanco di ammirare le rarità della città e dopo un mese mi ritrovai ad averne abbastanza dei ristoranti dei teatri e delle corse di cavalli la mia noia dipendeva senza dubbio dal fatto che non avevo un vero amico che mi tenesse compagnia molte persone mi invitavano a casa loro ma non si interessavano granché ai fatti miei mi rivolgevano due o tre domande sul sud africa dopodiché tornavano ai loro affari personali grandi dame mi invitavano ai loro ricevimenti dove incontravo istitutori della nuova zelanda direttori di giornali di vancouver e mi tediavo terribilmente ed ecco perché io a 37 anni sano e robusto provvisto di tanto denaro da potermi permettere ogni divertimento sbadigliavo dalla mattina alla sera sino a scandinarmi la mascella ed ero sul punto se le cose fossero andate avanti così di rifare i bagagli per tornare nel sud africa essendo l'uomo più annoiato del regno unito quel pomeriggio avevo litigato con il mio agente di cambio per centi impieghi di denaro ma col solo scopo di sollevarmi un po' lo spirito prima di ritornare a casa entrai al mio circolo una specie di osteria per essere esatti che accettava tra i suoi membri coloniali lì presi un aperitivo mentre davo una scorsa ai giornali della sera essi non parlavano che dei conflitti in oriente e tra gli altri ce n'erano vari articoli sul carolidè il primo ministro della grecia quel bel tipo mi andava a genio egli era sotto ogni aspetto il solo uomo di primo piano un po' interessante inoltre era lecito dire che il suo gioco era leale cosa questa che non si poteva affermare di molti altri appresi che egli era odiato come un'autentica bestia nera a berlino e a vienna ma che noi eravamo disposti a sostenerlo un giornale arrivava ad asserire che si doveva vedere in lui l'ultima barriera tra l'europa e la catastrofe mi venne fatto di chiedermi se non ci fosse una probabilità di impiego per me da quelle parti l'albania mi seduceva come l'unico paese che potesse salvarmi dalla noia verso le 6 rientrai in casa e mi cambiai pranzai al caffè reale dopodiché entrai in una sala da ballo lo spettacolo era disgustoso donne caprioleggianti e uomini che facevano smorfie scimmiesche non c'era nulla di più attraente per questo me ne andrei subito la notte era dolce e limpida mi avviai a piedi verso l'appartamento che avevo preso in affitto presso portland place intorno a me la folla camminava lungo i marciapiedi attiva e rumorosa e io invidiavo quella gente e le sue occupazioni quei galoppini quegli impiegati quei giovani eleganti quei poliziotti avevano almeno uno scopo che li faceva muovere diedi mezza corona a un mendicante che sbadigliava considerandolo un fratello di dolore in oxford circus chiamai il cielo primaverile a testimone e feci un voto accordai un giorno ancora la mia vecchia patria per procurarmi qualche cosa che facesse per me se nulla mi fosse accaduto ero deciso a imbarcarmi sulla prima nave diretta città del capo il mio appartamento occupava il primo piano di un nuovo palazzo posto dietro langan place c'era una scala comune con un portinaio e un ragazzo per l'ascensore all'entrata ma non c'era né ristorante né alcunché di simile e ogni appartamento poteva essere considerato assolutamente indipendente dagli altri non potendo sopportare i domestici che abitano in casa avevo preso al mio servizio un giovanotto che giungeva la mattina prima delle otto e solitamente se ne andava alle sette di sera perché io non cenavo mai a domicilio avevo appena introdotto la chiave nella top quando un uomo apparve al mio fianco non lo avevo visto avvicinarsi così che la sua improvvisa apparizione mi fece trasalire era uno sparuto individuo con una barba bruna e due piccoli occhi azzurri e penetranti riconobbi lui l'individuo dell'ultimo piano col quale avevo già scambiato qualche parola sulle scale posso parlarvi chiese mi permettete di entrare un minuto faceva uno sforzo per parlare piano e la sua mano picchiettava rapidamente il mio braccio aprì la porta e lo feci entrare aveva appena varcato la soglia che prese lo slancio verso la camera di fondo dove abitualmente mi intrattenevo a fumare a scrivere la mia corrispondenza poi ritornò sui suoi passi rapido come una freccia la porta è ben chiusa domandò febbrilmente e mise la catena con le sue proprie mani sono veramente umiliato aggiunse poi con tono modesto ho l'impressione di prendermi un'eccessiva libertà ma mi sembra che possiate capire non ho cessato un momento di osservarvi da otto giorni vale a dire da quando le cose si sono guastate dite volete essermi utile sono disposto ad ascoltarvi feci io ecco tutto ciò che posso promettervi quel brav'uomo nervoso con le sue smorfie mi irritava parecchio egli scorse sulla tavola vicino a lui un vassoio su cui c'erano alcune bottiglie di liquore e si versò un whisky e soda forte lo inghiottì in tre sorsi e ruppe il bicchiere deponendolo sulla tavola scusatemi disse sono un po agitato questa sera mi sta succedendo questo vedete che mentre vi sto parlando in questo stesso momento sono morto sprofondai in una poltrona accesi la pipa e che effetto vi fa chiesi cominciavo a convincermi di avere a che fare con un pazzo un sorriso passeggero illuminò il suo viso contratto no non sono pazzo perlomeno non lo sono ancora sentite un po signore mio io vi ho osservato e credo che siate un uomo fornito di un discreto sangue freddo credo anche che siate un uomo onesto e che la prospettiva di giocare una partita pericolosa non sia tale da preoccuparvi mi confiderò con voi ho bisogno di essere protetto più di qualunque altra persona al mondo e voglio sapere se posso contare sul vostro aiuto so via raccontatemi la vostra storia risposi dopo vi saprò dire qualche cosa parve che si raccogliesse per compiere un grande sforzo dopodiché cominciò un racconto sorprendente da principio non ci capì niente dovette interromperlo più volte per fargli qualche domanda ma ecco sommariamente i fatti era nato in america nel kentaki terminati gli studi e disponendo di una discreta fortuna si era messo in viaggio per il mondo aveva scritto qualche libro era stato corrispondente di guerra di un giornale di chicago e aveva trascorso un anno o due nell'europa sud orientale mi accorsi che era un discreto poliglotta che doveva aver frequentato molto l'alta società di quei paesi e infatti citava familiarmente molti nomi che ricordavo di aver letto sui giornali in seguito si era invischiato nella politica prima di tutto perché essa lo interessava in secondo luogo per un'invincibile attrazione mentre parlavo io indovinavo in lui un uomo vivace di spirito inquieto e desideroso da andare sempre fino in fondo alle cose era di fatti andato un po più in là di quanto avesse desiderato riporto qui quello che egli mi raccontò pressa poco per quel tanto che mi riuscì di capirne secondo lui oltre e dietro i governi e gli eserciti esisteva un potente movimento occulto organizzato in un ambiente temibilissimo quel tanto che incidentalmente egli ne aveva scoperto lo aveva appassionato si era spinto più innanzi e aveva finito con lasciarsi afferrare la sua opinione era che l'associazione contasse nelle sue file molti di quegli anarchici istruiti che hanno la mania delle rivoluzioni che a fianco di questi c'erano poi certi finanzieri i quali non miravano ad altro che al denaro e che un uomo abile può realizzare guadagni notevoli su un mercato in ribasso perciò egli diceva le due categorie se la intendevano per diffondere la discordia in europa lo sconosciuto mi rivelò parecchi fatti strani che spiegavano bene una quantità di cose che mi avevano lasciato perplesso fatti che si erano prodotti durante la guerra balcanica e cioè come uno stato avesse preso improvvisamente una posizione di preminenza rispetto ad altri perché alleanze si fossero annodate e spezzate per quale ragione taluni uomini fossero scomparsi e come e da chi veniva preparata la guerra lo scopo finale di tutta la macchinazione era di mettere alle corde la russia e la germania gliene chiesi la ragione mi rispose che gli anarchici erano convinti di trionfare grazie alla guerra essi speravano di approfittare del caos quanto ai capitalisti essi avrebbero accumulato denaro acquistando i rottami e poi diceva dietro il capitale c'era il giudeismo e il giudeismo detestava la russia come il diavolo niente di strano esclamò da 300 anni sono perseguitati gli ebrei sono dappertutto ma è necessario scendere sino in fondo alla scala di servizio per scoprirli per esempio prendete una grande casa commerciale tedesca se vi trovate a trattare con essa la prima persona che vi si parerà dinanzi sarà il principe von e zu tal dei tali un giovanotto elegante che parla l'inglese più universitario ma senza alcuna ostentazione se il vostro affare importante dietro questo primo personaggio incontrerete un westfaliano con la fronte sfuggente questo è il classico uomo d'affari tedesco che fa tanta paura ai vostri giornali ma se si tratta per voi di un affare serissimo per il quale siete obbligato a vedere il vero padrone si può giocare dieci contro uno che vi troverete in presenza di un piccolo ebreo pallido con occhi da serpenti assonagli affondato in una poltrona di vimini sì signore questo è l'uomo che dirige il mondo in questo momento e quest'uomo sogna di pugnalare l'impero degli zar perché la sua vita è stata violentata e suo padre percorso con lo knut in una casa qualsiasi sulle rive del volga non potei fare a meno di dirgli come mi sembrasse che i suoi ebrei e suoi anarchici avessero guadagnato assai poco terreno sì e no e si sono avanzati sino a un certo punto ma sono andati a cozzare contro qualche cosa di più forte della finanza contro qualcosa che non si può comperare e cioè contro i vecchi istinti combattivi essenziali dell'umanità i soldati balcanici hanno preso la cosa a cuore e questo ha buttato all'aria il bel piano elaborato a berlino e a vienna a onta di ciò i miei buoni amici sono ancora ben lontani dall'aver giocato l'ultima carta posso garantirvi che tengono nascosto l'asso nella manica e a meno che io non riesca a rimanere vivo ancora per un mese giocheranno e vinceranno ma credevo che voi foste morto interruppi io mors iano a vite la morte e la porta della vita disse lui sorridendo arriverò anche a questo ma debbo prima informarmi di una quantità di cose se leggete i giornali non potete ignorare il nome di costantino carolide a queste parole drizzai le orecchie poiché come ho detto quello stesso pomeriggio mi era capitato di leggere alcuni articoli sul ministro greco è l'uomo che ha fatto fallire tutti i progetti di cui vi ho parlato è il solo grande intelletto di tutta la banda politica e a questo sia da aggiungere che si tratta di un uomo onesto per queste ragioni sono già due mesi che la sua morte è stabilita questa scoperta non mi è costata fatica alcuna poiché essa era la portata dell'ultimo degli imbecilli ma io ho anche scoperto il metodo adottato per l'uccisione e questa scoperta è pericolosa ecco perché dovevo morire beve un nuovo whisky e soda me ne preparai uno anch'io quel diavolo di un uomo pazzo visionario che fosse cominciava a interessarmi il 15 giugno egli deve venire in questa città il foren office ha avuto l'idea di dare alcuni ricevimenti internazionali il più importante dei quali è fissato per quella data ora si conta su carolide come principale invitato e se i miei amici potranno mettere in atto il loro piano egli non rivedrà mai più i suoi entusiasti compatrioti ma mi pare semplice dissi avvertitelo di rimanere a casa sua così facendo asseconderei il loro gioco rispose vivamente infatti se lui non viene essi possono dirsi vittoriosi poiché lui è la sola persona capace di sbrogliare la loro matassa di intrighi e nel caso si avvertisse il suo governo che ignora l'importanza della riunione del 15 giugno è quasi certo che la partenza di carolide sarebbe impedita e perché non avvertite invece il governo britannico chiesi non credo che i nostri governatori abbiano l'abitudine di permettere che i loro ospiti vengano soppressi avvisateli e saranno prese le necessarie precauzioni pessima soluzione sono giunto a conoscere sino all'ultimo particolare di questa infernale macchinazione e posso dirvi che non si è mai vista perfidia più raffinata ma nulla avverrà se un certo individuo che conosce tutto l'ingranaggio della faccenda si troverà ancora vivo a londra alla data del 15 giugno e questo individuo non è altri che colui che ha l'onore di parlarvi franklin p scudder devo ammettere che questo curioso ometto cominciava a piacermi le sue mascelle fecero rumore secco simile a quello di una trappola che si chiude l'ardore della lotta brillava nei suoi occhi acuti se tutto ciò che mi aveva narrato era la fantasticheria di una mente malata bisogna riconoscere che era un ottimo attore chi vi ha raccontato tutto ciò gli chiesi ebbi i primi sospetti in un albergo dell'achensi in tirolo la cosa richiamò la mia attenzione raccolsi nuovi documenti in un magazzino di pelliccerie del quartiere galiziano a buda poi al circolo degli stranieri di vienna e in una piccola libreria vicina alla rachnistras all'ipsia infine completai la raccolta delle mie prove dieci giorni fa a parigi non posso esporvele nei particolari adesso perché sarebbe un affare lungo quando fui pienamente convinto giudicai che fosse mio dovere sparire e mi recai in questa città facendo un giro inverosimile lasciai parigi giovane franco americano alla moda e mi imbarcai come commerciante di diamanti ebreo ad hamburgo in norvegia ero un inglese innamorato di ibsen occupato a raccogliere materiali per le mie conferenze ma alla mia partenza da bergen ero un viaggiatore appassionato di film alpinistici arrivai qui da leif recando nella mia borsa una notevole quantità di offerte di pasta di cellulosa per fabbricare carta destinata ai giornali di londra sino a ieri ero convinto di avere sufficientemente confuso le mie tracce e ne ero felicissimo ma sembro che questo ricordo lo turbasse tranguggiò un altro bicchierino colmo di whisky ma ho visto un uomo appostato nella via di fronte a questa casa di solito io rimanevo chiuso nel mio appartamento tutta la giornata e non uscivo che un oro o due dopo che era discesa la notte sorvegliai l'uomo in questione per parecchio tempo dalla mia finestra e credetti di riconoscerlo egli entrò e parlò al portinaio ieri sera ritornando dalla passeggiata trovai un biglietto da visita nella mia cassetta da lettere recava il nome dell'uomo che meno desidero incontrare su questa terra lo sguardo che sorpresi negli occhi del mio interlocutore la paura dipinta sul suo volto finirono per convincermi alzai la voce di un tono per chiedergli che cosa avesse fatto dopo capì subito di essere stato preso né più né meno come un pesce nella rete e come non mi restasse che un solo modo di cavarmela non avevo altra strada che quella di morire se mi avessero creduto morto i miei persecutori avrebbero certamente rallentato la loro vigilanza e come avete fatto raccontai all'uomo che mi fa da cameriere che mi sentivo malissimo e mi sforzai di prendere un'aria da moribondo la cosa mi riuscì facilmente dato che non sono un cattivo attore poi mi procurai un cadavere c'è sempre modo di procurarsi un cadavere a londra quando si sa chi convenga rivolgersi lo portai a casa in carrozza chiuso in un baule e fui obbligato a farmi aiutare per salire sino al mio piano bisognava capite bene che io accumulassi testimonianze in vista dell'inchiesta mi misi a letto e ordinai al mio cameriere di prepararmi una tisana soporifera dopodiché lo rimandai a casa sua egli voleva andare in cerca di un dottore ma io mi arrabbiai e dichiarai che non potevo soffrire le medicine il morto aveva la mia corporatura siccome mi pareva che dovesse essere passato a miglior vita per eccessivo uso di bevande alcoliche disposi bene in vista nella camera varie bottiglie la mandibola era il punto debole della somiglianza tra me il cadavere ma io gliela feci saltare con un colpo di rivoltella domani si troverà senza dubbio qualcuno pronto a giurare di aver sentito la detonazione ma siccome io non ho vicini sul mio piano credetti di poter rischiare la cosa lasciai dunque il morto sul letto dopo averlo vestito col mio pigiama e abbandonai la rivoltella sulle coperte poi mi vesti con un abito che tenevo in serbo per ogni occasione non osai radermi la barba per paura di lasciare un indizio e d'altra parte era assurdo che uscissi di casa si del mattino avevo pensato molto a voi e non vedevo altra via di scampo oltre quella di pormi nelle vostre mani spiai dalla finestra il vostro ritorno poi scesi le scale per venirvi incontro e ora signore si può dire che voi ne sappiate pressa poco quanto me di questa faccenda si sedette sbattendo le palpebre come una civetta trepidante di nervosismo e non di meno risoluto ero ormai del tutto convinto della sua franchezza il suo racconto era assolutamente inverosimile ma avevo troppe volte inteso raccontare cose balorde delle quali più tardi mi era stata dimostrata l'autenticità per cui mi ero ripromesso di giudicare il narratore anziché la narrazione nel caso specifico pensavo che lo sconosciuto se avesse avuto l'intenzione di prendere alloggio nel mio appartamento per farmi la pelle avrebbe certamente scelto una storia più credibile datemi la vostra chiave voglio dare un'occhiata al cadavere scusate la mia diffidenza ma ci tengo a riscontrare con i miei occhi l'esattezza di quel che mi avete raccontato ero certo che me l'avreste chiesta rispose scadder scotendo il capo con aria desolata tuttavia non l'ho presa è rimasta attaccata alla mia catena sul tavolo dato letta dovevo lasciarla dato che bisognava evitare ogni indizio atto a destare sospetti le persone che hanno a che fare con me sono singolarmente astute per questa notte dovete credermi sulla parola domani avrete tante prove quante ne vorrete almeno per quanto riguarda il cadavere riflettei per qualche istante sia vi crederò sulla parola per questa notte vi chiuderò in questa camera e porterò con me la chiave un'ultima parola signor scadder io credo nella vostra lealtà ma ponendo il caso che mi sbagliassi sul vostro conto debbo prevenirvi che so maneggiare assai bene la rivoltella vi credo rispose alzandosi con una certa vivacità io non ho il piacere di conoscere il vostro nome ma permettete che io vi dica che siete un uomo in gamba vi sarò grato se vorrete prestarmi un rasoio lo precedetti nella mia camera da letto che misi a sua disposizione in capo a mezz'ora ne uscì un personaggio che feci fatica a riconoscere solo i suoi occhi penetranti ardenti erano gli stessi si era rasato la barba ai baffi aveva diviso i capelli con una scriminatura in mezzo alla testa si era tagliato le sopracciglia inoltre stava eretto come un soldato in parata e sembrava compreso il colorito oscuro il tipico ufficiale britannico che ha soggiornato a lungo nelle indie levò di tasca un monocolo che incastrò nell'orbita ogni traccia di americanismo era scomparsa dal suo linguaggio parola d'onore signor scadder balbettai non più il signor scadder rettificò ma il capitano teofil digby del quarantesimo garcas attualmente in congedo vi sarò grato signore sebbene ricorderete gli improvvisai un letto nel mio fumare mi coricai anch'io provavo una felicità che da circa un mese non avevo provato perbacco mi dicevo succede dunque qualche cosa anche in questa maledetta metropoli il mattino seguente fui svegliato dal baccano indiavolato che faceva paddock il mio cameriere accanendosi contro la porta del fumare paddock era un ragazzo che avevo salvato nel selauki e portato con me in inghilterra in qualità di cameriere si esprimeva con l'eleganza di un ippopotamo e non aveva che una idea molto vaga dei suoi doveri di cameriere ma perlomeno potevo contare sulla sua fedeltà basta con questo baccano paddock gli dissi c'è un mio amico il capitano e il capitano mi fu impossibile ricordarne il nome che dorme lì dentro prepara la colazione per due e poi parleremo raccontai al bravo paddock una bella storia secondo la quale il mio caro amico un pezzo grosso era stressato dal troppo lavoro e quindi desiderava godere il più assoluto riposo nessuno doveva sapere che era in casa mia perché altrimenti sarebbe stato assalito dalle comunicazioni del segretario delle indie del primo ministro e allora dio tranquillità debbo riconoscere che scadder durante tutta la colazione recitò la propria parte meravigliosamente egli fissò paddock attraverso il suo monocolo come avrebbe fatto un vero ufficiale inglese lo interrogò sulla guerra contro i boeri e mi inflisse una quantità di aneddoti su decine di camerati fantastici paddock non era mai arrivato a chiamarmi sir ma a scadder diede questo titolo subito e continuamente quasi che da ciò dipendesse la sua salute eterna più tardi lasciai il mio ospite in compagnia di un giornale e di una scatola di sigari e me ne andai alla city quando allora di pranzo tornai a casa il ragazzo dell'ascensore mi accolse con un'aria veramente solenne brutto affare quello di stamane signore l'inquilino del numero 15 si è piantato un proiettile nella testa l'hanno appena portato alla murg ora di sopra c'è la polizia salì al numero 15 dove trovai due agenti e un commissario intenti a raccogliere indizi feci loro qualche domanda stupita ed essi si affrettarono a mandarmi via mi fermai allora col giovanotto che aveva servito scadder per rendermi conto di quel che pensasse dell'affare ma mi convinzi subito che non aveva il minimo sospetto era un tipo melanconico con una faccia da sacrestano mezza corona valse però a consolarlo alquanto il giorno dopo assiste all'inchiesta il direttore di una casa editrice dichiarò che il defunto si era recato da lui per offrirgli certa pasta per fabbricare carta e che egli lo credeva al servizio di un'azienda americana la decisione del fu che si trattava di suicidio dipendente da un eccesso di delirio febbrile i pochi averi del morto furono trasportati al consolato degli stati uniti affinché il console ne disponesse per il meglio raccontai dettagliatamente la faccenda a scadder che si divertì molto egli rimpiangeva di non aver potuto assistere all'inchiesta perché diceva la cosa gli sarebbe parsa tanto grottesca quanto leggere il proprio annuncio funebre durante i primi due giorni che trascorse in casa mia egli fu molto tranquillo leggeva fumava o scribacchiava abbondantemente sopra un tacquino ogni sera facevamo una partita a scacchi nella quale io perdevo sistematicamente credo che gli tentasse di calmare i propri nervi che erano stati sottoposti a una prova assai dura ma il terzo giorno mi accorsi che ricominciava a essere inquieto egli stese una lista dei giorni che mancavano per giungere al 15 giugno e li segnò con la matita rossa l'uno dopo l'altro aggiungendo al lato qualche nota stenografica più volte lo trovai immerso in cupe fantasticherie con gli occhi perduti nel vuoto questi periodi di meditazioni erano seguiti da un grande abbattimento non tardai ad accorgermi che egli era di nuovo sulle spine al minimo rumore tendeva l'orecchio e mi chiedeva continuamente se ci si poteva fidare di paddock una volta o due si mostrò molto bisbedico ma poi se ne scusò non gliene servai rancore mi sentivo pieno di indulgenza per quell'uomo che si era incaricato di un compito così arduo la sua salute personale lo preoccupava assai meno della riuscita del piano che aveva concepito quel piccolo uomo era un vero ciottolo duro arido senza il minimo punto debole una sera assunse un'aria molto grave e mi disse sentite ennai penso che sia mio obbligo mettervi un po più al corrente di questa faccenda mi dispiacerebbe assai di scomparire senza lasciar qualcuno a proseguire la lotta dopo di ciò mi espose nei particolari quel che mi aveva già raccontato per sommi capi devo dire che non gli prestai soverchi attenzione la verità era che le sue avventure mi interessavano assai più della sua politica e in fondo pensavo che carolide e i suoi affari non mi riguardavano granché e per questo mi affidavo pienamente a scadder capì perciò assai poco di quel che mi disse tuttavia ricordo che egli fu preciso su questo punto il pericolo per carolide non cominciava che dal momento del suo arrivo a londra e questo pericolo sarebbe venuto dalle sfere più alte dove neanche l'ombra di un sospetto avrebbe potuto giungere fece anche il nome di una donna giulia ceceni come quello di una complice importantissima lei avrebbe dovuto servire da richiamo e sottrarre carolide alla sorveglianza delle sue guardie inoltre scadder mi parlò di una pietra nera di un uomo che parlando strascicava la esse e mi descrisse minuziosamente la figura di un individuo che non poteva evocare senza fremere un vecchio fornito di una voce giovanile con lo sguardo acuto come uno spardiero poi parlò molto della morte si preoccupava eccessivamente di assolvere sino in fondo il suo compito ma non temeva proprio che la vita gli fosse tolta prima morire immagino che debba essere come addormentarsi dopo una grande fatica e svegliarsi in uno di quei bei giorni d'estate nei quali l'odore del fieno entra dalla finestra ho spesso ringraziato dio per qualche mattino di questo genere in altri tempi nel paese dell'erba azzurra e penso che lo ringrazierò anche risvegliandomi sull'altra sponda del giordano il giorno dopo fu molto più gaio e lesse continuamente la vita di stonewall jackson io usci per cenare con un ingegnere minerario che dovevo vedere per certi affari e rientrai verso le dieci e mezzo in tempo cioè per fare la nostra partita a scacchi prima di andare a letto mi ricordo che nel momento in cui aprì la porta del fumoir avevo il sigaro tra le labbra la camera era buia cosa che mi parve strana mi chiesi se scadder non si fosse già coricato girai l'interruttore non c'era nessuno ma nell'angolo più lontano della stanza scorsi un oggetto alla vista del quale lasciai cadere il sigaro mentre un sudore freddo mi imperlava la fronte il mio ospite giaceva a supino un lungo coltello che gli attraversava il cuore lo aveva inchiodato al pavimento capitolo 2 il lattaio si mette in viaggio sul punto di svenire mi lasciai cadere su una poltrona questa sensazione durò cinque minuti e fu seguita da un accesso di folle terrore la visione di quella miserabile faccia bianca e di quegli occhi spalancati mi era insopportabile riusci finalmente a prendere un telo col quale copri il cadavere poi titubante mi avvicinai alla dispensa ferrai una bottiglia di cognac e ne bevi parecchi sorsi non era certo la prima volta che vedevo un uomo morire di morte violenta io stesso ne avevo uccisi parecchi durante la guerra in sud africa ma questo delitto compiuto freddamente a porte chiuse era una cosa ben diversa tuttavia riuscì a calmarmi guardai il mio orologio erano le dieci e mezzo solo allora mi venne l'idea di esplorare la casa non c'era nessuno né riuscì a trovare traccia alcuna del passaggio di qualche persona chiusi e sprangai tutte le finestre e misi la catena alla porta mentre macchinalmente facevo tutte queste cose andavo riacquistando la presenza di spirito e con essa la facoltà di pensare ma mi ci volle quasi un'ora per rendermi conto esattamente della situazione del resto non c'era bisogno di affrettarsi perché esclusa la possibilità di un ritorno offensivo dell'assassino avevo tempo sino alle 6 del mattino per riflettere ormai ero in ballo evidentemente bisognava dunque ballare ogni dubbio sulla veridicità di quanto mi aveva narrato scadder era ormai scomparso la prova di questa storia era lì sotto quel telo le persone che sapevano quel che egli sapeva lo avevano scoperto avevano scelto il mezzo migliore per assicurarsi il suo silenzio tutto ciò non faceva una grinza ma egli aveva abitato quattro giorni in casa mia e i suoi nemici dovevano supporre che mi avesse confidato tutto era dunque il mio turno anch'io avrei dovuto passare a miglior vita forse quella stessa notte o domani o dopo domani ad ogni modo la mia sorte era decisa ed improvviso mi resi conto di un'altra probabilità io sarei potuto andare subito all'ufficio di polizia o lasciare questa incombenza paddock che avrebbe certo scoperto il corpo al mattino dopo ma in entrambi i casi che cosa avrei potuto raccontare nei riguardi di scadder avevo già indotto in errore paddock presentandogli il mio ospite sotto falso nome e sentivo che tutta la faccenda sarebbe apparsa singolarmente oscura se poi scegliendo di dire la verità avessi raccontato alla polizia quello che avevo appreso da scadder ero certo che tutti si sarebbero fatti beffe di me avevo mille probabilità contro una di vedermi accusato d'assassinio e le prove materiali erano sufficienti per farmi condannare a morte poche persone in inghilterra mi conoscevano non potevo contare su un solo vero amico disposto a deporre in mio favore forse i nemici segredi di scadder avevano calcolato anche questo erano capaci di tutto e una prigione inglese era un mezzo come un altro per sbarazzarsi di me fin dopo il 15 giugno un mezzo che valeva almeno quanto una coltellata nel petto e ammesso che nel migliore dei casi che la storia di scadder fosse creduta raccontandola io avrei fatto il gioco degli assassini carolide sarebbe rimasto a casa sua ed era quello che essi desideravano scartai tutto ciò la sola visione del volto di scadder morto mi aveva ispirato una fede definitiva nel suo disegno egli non viveva più ma da vivo aveva riposto la sua fiducia in me così che io non avevo altra via che quella di proseguire nel suo compito qualcuno potrebbe giudicare fuori posto questo scrupolo specie in un uomo in pericolo di vita ma questo era il mio modo di vedere io sono un uomo come ce ne sono tanti né coraggioso né più vile di tanti miei simili ma c'è una cosa che non sopporto quella di vedere un buon campione abbattuto pensavo che malgrado quel lungo coltello tutto sarebbe finito per scadder se io avessi giocato la partita al suo posto dopo un'ora o due di riflessioni la mia decisione fu presa era necessario che io sparissi in un modo o nell'altro e che mi rendessi introvabile sin verso la fine della prima quindicina di giugno epoca nella quale avrei dovuto mettermi in qualsiasi modo il rapporto con le persone del governo per ripetere loro quello che scadder mi aveva confidato rimpiangevo con tutto il cuore in quel momento che egli non me ne avesse raccontato di più e di non avere ascoltato con maggiore attenzione il poco che egli mi aveva detto e in fondo io non conoscevo che i fatti essenziali c'erano molte probabilità ammesso sempre che io evitassi gli altri pericoli che nessuno mi credesse tuttavia io dovevo affrontare questo e qualunque altro rischio nella speranza che qualche accidente favorevole tale da confermare le mie asserzioni agli occhi del governo si producesse al momento opportuno il mio primo dovere era quello di tener duro ancora per tre settimane dato che si era il 24 maggio dovevano trascorrere 20 giorni buoni durante i quali era necessario che mi nascondessi prima di poter fare un tentativo per avvicinare le problematiche autorità prevedevo che due categorie di persone mi avrebbero cercato i nemici di scadder per togliermi di mezzo e la polizia che non poteva non vedere in me l'assassino di scadder quella che stava per iniziare si annunciava dunque come una caccia vertiginosa ma questa prospettiva anziché abbattermi mi serviva da sprone ero rimasto ozioso per tanto tempo che non potevo accogliere senza gioia l'occasione di tornare alla mia attività consueta certo se fossi stato obbligato a rimanere indefinitivamente solo con quel cadavere che giaceva lì raccomandandomi al caso il mio valore non avrebbe superato quello di un lombrico schiacciato ma in quel momento la sicurezza della mia vita dipendeva dalla mia sola intelligenza mi sentivo pronto ad affrontare la lotta con gioia esaminai poi la possibilità che scadder avesse con sé qualche carta atta a fornirmi dati più certi sollevai il telo che copriva il cadavere ed esplorai le tasche dei suoi abiti quel corpo freddo non produceva più in me alcuna ripugnanza il suo volto era meravigliosamente calmo per essere quello di un uomo colpito da una morte violenta nelle tasche esterne della giacca non c'era niente in quelle del panciotto trovai alcune monete e un portasigari le tasche dei pantaloni contenevano un piccolo temperino e qualche altra moneta un vecchio astuccio per sigari in pelle di coccodrillo si trovava nella tasca interna della giacca nessuna traccia del piccolo tacquino nero nel quale avevo veduto scadder prendere delle note non dubitai che l'assassino se ne fosse impossessato ma alzando gli occhi vidi i cassetti della scrivania spalancati pensai subito che mai scadder li avrebbe lasciati così poiché avevo potuto constatare durante la nostra breve convivenza che egli era il più ordinato dei mortali l'assassino vi aveva dovuto cercare qualcosa forse il tacquino ripercorsi l'appartamento e scoprì che qualcuno aveva frugato ovunque tra le pagine dei libri nei cassetti nei ripostigli perfino nelle tasche dei vestiti del mio guardaroba e nella credenza della sala da pranzo in nessun luogo scoprì il tacquino ne conclusi che il nemico lo aveva trovato ma non sulla persona di scadder allora presi un grande atlante consultai una carta delle isole britanniche il mio progetto era quello di raggiungere una regione selvaggia nella quale mi fosse possibile mettere a frutto la mia conoscenza delle foreste africane sapevo che in una città sarei stato come un topo in gabbia la scozia mi parve fare al caso mio poiché essendo la mia famiglia scozzese mi sarebbe stato facile passare ovunque per uno scozzese qualsiasi da prima pensai di farmi credere un turista tedesco la cosa mi sarebbe stata agevole perché mio padre che aveva avuto alcuni soci tedeschi mi aveva insegnato a parlare correttamente la lingua nell'esercizio della quale mi ero anche perfezionato grazie ai miei tre anni di commercio di ottone nel damacland germanico ma mi convinsi che mi sarei fatto meno notare come scozzese e che questo avrebbe reso più difficile alla polizia identificarmi quanto alla regione scelsi il gallway era la parte selvaggia della scozia più vicina per quanto mi era dato giudicarne e secondo la carta la popolazione non doveva certo abbondarvi da un esame dell'orario appresi che un treno partiva dalla stazione di san pancra alle 7 10 del mattino il che mi avrebbe permesso di scendere in un posto qualsiasi del gallway verso sera la combinazione mi soddisfaceva ma si trattava ora di sapere come avrei potuto arrivare a san pancra poiché era certissimo che nemici di scadder sorvegliavano la casa questo problema mi tenne sovra pensiero un momento poi mi venne un'ispirazione in seguito alla quale me ne andai a letto per dormire due ore in un pessimo sonno mi alzai alle 4 e apri le persiane della mia camera da letto la limpida luce di un bel mattino d'estate invadeva il cielo e i passeri già pigolavano per un attimo mi sentì indotto a lasciare andare le cose per la loro strada con la speranza che la polizia inglese sapesse vedere la faccenda sotto una luce ragionevole ma ricapitolando gli avvenimenti non trovai più alcun argomento per combattere la mia decisione della notte per cui decisi con la bocca arida di mettere in esecuzione il mio piano scovai un abito lucido estinto un paio di solide scarpe chiodate e una camicia di flanella col collo rovesciato ficcai nelle tasche del vestito una camicia di ricambio un berretto di stoffa qualche fazzoletto e uno spazzolino da denti due giorni prima avevo ritirato dalla banca una discreta somma in oro nel caso che scadder avesse avuto bisogno di denaro presi da questa somma 50 sterline in sovrane che misi in una cintura portata dalla rodesia ero certo che non avrei avuto bisogno di più poi feci il bagno e mi tagliai all'americana ai baffi che solitamente portavo lunghi e cadenti di solito paddock arriva puntualmente alle sette e mezzo e apriva egli stesso la porta di cui aveva le chiavi misi una pipa in tasca e mi disposi a rifornire la mia borsa di tabacco prendendone da un vaso in cui ero solito conservarlo e che si trovava sul tavolo presso il camino ed ecco che manipolando il tabacco la mia mano incontrò un corpo duro era il piccolo tacquino di scadder la cosa mi parve di buon augurio sollevai il telo che copriva il cadavere mi meravigliai di vedere tanta pace e tanta dignità su quel viso cereo addio vecchio camerata gli dissi mi accingo a fare tutto quello che è possibile per accontentarti augurami buona fortuna dovunque io vada poi nell'anticamera mi misi ad attendere il lattaio passarono le 6 e mezzo poi le 6 e 40 ma il lattaio non arrivava tra tutti i giorni quell'imbecille aveva scelto questo per essere in ritardo finalmente quando le 6 e 45 erano passate da un minuto udì sulle scale il rumore dei bidoni apri la porta del pianerottolo l'uomo era lì fischiettava mentre sceglieva il mio bidone tra quelli che portava la mia apparizione lo fece trasalire entrate un momento gli dissi devo dirvi due parole e lo feci entrare nella sala da pranzo immagino che voi siate un appassionato di sport ripresi e ho bisogno che mi facciate un piccolo favore prestatemi il vostro camiciotto il vostro berretto per dieci minuti e questa sovrana è per voi alla vista dell'oro i suoi occhi si spalancarono e la sua bocca si incurvò in un sorriso di che gioco si tratta chiese una scommessa non ho tempo per darvi spiegazioni ma vi basti pensare che per vincerla io debbo essere lattaio per dieci minuti tutto quello che voi dovete fare di attendermi qui sino al mio ritorno farete un po' tardi è vero ma questo non farà male a nessuno e quanto a voi vi guadagnerete questa moneta d'oro va benissimo esclamò allegramente non sarò certamente io a tirarmi indietro quando c'è da ridere a voi signori eccovi miei cenci indossai il suo berretto azzurro e il camiciotto bianco mi caricai dei bidoni chiusi la porta e scesi le scale zufolando al piano terreno il portinaio mi consigliò di smetterla il che mi convinse che il mio travestimento rispondeva allo scopo in un primo tempo mi pare che non ci fosse nessuno nella via ma poi vidi un poliziotto cento metri più là e un vagabondo che trascinava le sue scarpe verso la casa di fronte alla mia e a una finestra del primo piano scorsi un volto il vagabondo passando al solo sguardo io credetti di scorgere un segnale attraversai la via fischiettando allegramente e imitando l'andatura del lattaio ma alla prima svolta presi una via trasversale la percorse sino a che giunsi in un terreno deserto assicuratemi che nei dintorni non ci fosse nessuno scaraventai i bidoni al di là della palizzata e lanciai a far loro compagnia il berretto e il camiciotto mi ero appena messo in testa il mio berretto da viaggio che un portalettere sbuccò da una via laterale gli augurai il buongiorno ed egli mi rispose con aria naturale in questo momento suonarono le sette al campanile di una chiesa vicina non avevo più un attimo da perdere non appena giunsi a houston road allungai il passo l'orologio di houston station segnava le sette e cinque a san pancra non potei prendere il biglietto tanto più che ignoravo ancora la mia destinazione un facchino mi indicò la banchina e vi giunsi che il treno si metteva in moto due impiegati della stazione cercarono di sbarrarmi la via ma io li evitai e saltai sul predellino dell'ultima vettura tre minuti più tardi mentre il treno filava rombando sotto le gallerie del nord un controllore maleducato mi interpellò da costui ottenne un biglietto per newton stewart nome che mi si presentò alla memoria per miracolo dovetti però passare dallo scompartimento di prima classe in cui mi ero accomodato in uno di terza per fumatori occupato da un naio da una grossa donna con un bambino il controllore si allontanò irritato e io asciugandomi la fronte feci notare ai miei vicini nel più stretto linguaggio degli scozzesi che era un affare ben difficile afferrare un treno recitavo già la mia parte io domando e dico se si può essere più maleducati di quel controllore esclamò la donna per fortuna però c'è qualche bravo scozzese per sistemarlo non voleva farmi pagare il biglietto per questa piccolina che avrà un anno giusto nel mese di agosto e impedire al signore di sputare il marinaio approvò con aria flemmatica così che io cominciai la mia nuova vita in un'atmosfera di rivolta contro le autorità e mi ricordai che otto giorni prima giudicavo il mondo noiosissimo capitolo 3 l'avventura dell'albergatore letterato quel giorno c'era un tempo magnifico per viaggiare nel nord c'era un bel cielo azzurro tutti i biancospini erano fioriti e io mi domandavo come allorché ero ancora un uomo libero avessi potuto rimanere sempre a londra rinunciando a godere di un paese così bello non osando comparire nella vettura ristorante acquistai a leeds un cestino da viaggio che divisi fraternamente con la grossa donna approfittando della stessa fermata comprai giornali del mattino i quali recavano pronostici per il derby e le prime notizie della stagione di cricket oltre a qualche trafiletto sugli affari balcanici e sulla visita della squadra inglese a kiel dopo aver scorso i giornali levai di tasca il piccolo tacquino di scadder e lo esaminai era fitto di note composte principalmente da segni algebrici tra i quali spiccava qua e là un nome in caratteri ordinari ad esempio le parole off guard l'unville ritornavano spesso e più ancora la parola pavia ora siccome non potevo supporre che scadder avesse fatto qualche cosa senza una ragione mi persuasi che le note dovevano essere scritte in codice convenzionale la crittografia è una cosa che mi ha sempre molto interessato e di cui mi ero servito un po anch'io in altri tempi come agente di informazioni a delogabei e durante la guerra boera posso dire inoltre di avere qualche attitudine per gli scacchi le sciarade e i giochi analoghi e mi lusingavo di avere una discreta abilità nel decifrare i crittogrammi quello che avevo sott'occhio mi pareva dovesse appartenere al genere numerico nel quale le lettere dell'alfabeto vengono rappresentate mediante serie di segni ma siccome qualunque uomo un po intelligente e in grado di trovare la chiave di un documento del genere in un'ora o due di applicazione non potevo credere che scadder si fosse accontentato di un procedimento così semplice perciò mi misi a studiare le parole scritte in tutte le lettere poiché è possibile comporre un comunissimo crittogramma numerico servendosi di una parola chiave che suggerisce la serie di lettere i miei tentativi durarono parecchie ore ma nessuna delle parole in questione mi aiutò allora mi addormentai per risvegliarmi a dunfrir appena in tempo per saltare dal treno e cacciarmi in quello per galloway sulla banchina c'era un uomo il cui volto mi parve poco rassicurante ma egli non mi degnò di un solo sguardo ne capì la ragione quando scorsi la mia faccia nello specchio di un distributore automatico con la mia carnagione scura i miei vecchi abiti e le mie maniere grossolane somigliavo come una goccia d'acqua a uno di quei contadini delle montagne che si pigiano nelle vetture di terza classe viaggiai con una mezza dozzina di tipi del genere in un'atmosfera odorosa di tabacco ordinario e di pipe di gesso costoro tornavano dal mercato e non parlavano che di prezzi li sentii parlare della quantità di agnelli nati nelle vallate del caern del deuch e di altri 10 o 12 fiumi altrettanto ignoti i miei compagni di viaggio avevano per la maggior parte abbondantemente pranzato ed esalavano un forte odore di whisky ma nessuno fece attenzione a me viaggiammo lentamente attraverso una regione di piccole vallate boscose poi attraverso una grande estensione di deserti scoperti rotti qua e là da uno splendore di acque stagnanti e chiusi tra le alte e cime azzurrine levantisi sull'orizzonte verso nord verso le 5 lo scompartimento si svuotò e io rimasi solo come desideravo alla prima stazione discesi era una casetta modesta perduta in mezzo alle paludi non mi curai nemmeno di leggere il nome scritto sulla facciata mi parve d'essere in una di quelle piccole stazioni sperdute che avevo trovato in fondo al carro un vecchio a capostazione zappava nel giardinetto e fu con la zappa sulla spalla che accorse all'arrivo del treno e prese in consegna la borsa della posta dopodiché tornò alle sue patate un monello di dieci anni ritirò il mio biglietto all'uscita e mi trovai su una strada che tutta bianca si inoltrava tra la cupa versura era una meravigliosa sera primaverile nella quale ogni montagna spiccava con una purezza ad ametista l'aria a onta dell'inebriante odore delle erbe palustri frizzava come in alto mare produsse su di me un effetto singolare mi sentì improvvisamente il cuore leggero mi sentivo quasi un ragazzo in vacanza invece di un uomo di 37 anni attivamente ricercato dalla polizia mi sentivo nello stesso stato d'animo di quando in altri tempi partivo per la lunga cavalcata nell'alto veld e la mattinata era gelida chi vorrà credermi mi crederà certo è che io mi misi a camminare su quella strada bianca fischiettando non avevo in mente nessun piano particolare tranne quello di andare avanti per questo meraviglioso paese montano olezzante di rustici profumi e a ogni chilometro percorso il mio buon umore aumentava nell'attraversare un boschetto mi fermai per tagliarmi un bastone di nocciolo e abbandonai ben presto la strada maestra per un viottolo che risaliva il corso di un torrente tumultuoso mi credevo ancora al riparo da qualunque inseguimento e nulla per quella sera mi impediva di divertirmi a mio piacimento ero a digiuno da molte ore e la fame cominciava a farsi sentire quando giunsi a una casa di contadini annidata in una cavità della montagna presso una cascata una donna con il viso cotto dal sole era sulla porta e mi salutò con quella gentilezza che è abituale nelle genti della landa quando le ebbi chiesto ricovero per la notte e la mi rispose che sarei stato il benvenuto nel letto del granaio dopodiché mi servì subito un pasto frugale composto di uova al lardo pane di segale e latte la sera il marito giunse dalla montagna era un buon gigante che con un solo passo faceva tanta strada quanto con tre un semplice mortale essi non mi fecero domande di sorta poiché avevano il tatto squisito di quanti vivono nella solitudine ma mi accorsi che mi prendevano per una specie di mercante e io feci di tutto per confermare questa opinione alle 22 vacillavo nella mia sedia il letto del granaio ricevette un uomo sfinito che non aprì più gli occhi sino alle 5 del mattino ora nella quale il levar del sole svegliò tutta la piccola famiglia i miei ospiti non vollero ricevere nulla da me e alle 6 dopo aver fatto colazione mi misi di nuovo in marcia verso sud il mio progetto era quello di raggiungere la linea della ferrovia uno o due stazioni più in là di quella alla quale ero sceso la sera prima e riprendere il treno in senso inverso giudicavo che questo mezzo fosse il più sicuro poiché la polizia doveva naturalmente supporre che io tendessi ad allontanarmi da londra in direzione di qualche porto dell'ovest mi lusingavo di avere un buon vantaggio poiché secondo il mio ragionamento dovevano essere necessarie parecchie ore per avanzare l'accusa contro di me e un lasso di tempo altrettanto lungo per identificare l'individuo che aveva preso il treno a saint pancras il tempo si manteneva puro e l'aria tersa e fresca mi rendeva del tutto incapace di sentirmi preoccupato dovevo riconoscere che da parecchi mesi non ero stato di buon umore camminai a lungo su una striscia di brughiera che correva lungo il fianco di un'elevazione chiamata da quelli del paese kersmoor on fleet chiurli formicolavano di giovani agnelli tutta la stanchezza dei mesi precedenti era scomparsa e io mi sentivo giovane come a dieci anni così raggiunsi un dirupo che digradava dolcemente verso un piccolo corso d'acqua e a un chilometro di distanza sulla lambda scorsi il pennacchio di fumo del treno più mi avvicinavo alla stazione più raggiudicavo ideale per il mio piano la brughiera infoltiva tutto intorno e non lasciava libero che il posto per la strada ferrata a linea unica il binario morto una sala d'aspetto un ufficio la piccola casa del capostazione e un minuscolo quadrato poeticamente coltivato a uva spina e fiorito di garofani nessuna strada pareva condurre alla stazione e per completare la desolazione del quadro la lieve increspatura di stagno frusciava contro una sponda di granito a mezzo chilometro di distanza aspettai nascosto tra l'erba alta finché vide avvicinarsi il fumo del treno che si dirigeva verso est allora mi avvicinai allo sportello e presi un biglietto per dumfries nella vettura non c'era che un vecchio contadino col suo cane una bestia dagli occhi vacui della quale sentivo di fidarmi l'uomo dormiva e sul sedile vicino a lui era spalancato la scotsman del mattino me ne impossessai avidamente nella speranza di trovarvi qualche cosa c'erano due colonne dell'assassinio di portland place che così era chiamato il mio buon paddock aveva dato l'allarme e fatto arrestare il lattaio mi parve di capire che quel povero diavolo doveva aver pagato cara la sua sovrana denaro che da parte mia potevo considerare ben collocato poiché la polizia si era occupata di lui per gran parte della giornata nelle recentissime trovai nuovi particolari sulla faccenda il lattaio era stato rilasciato quanto all'assassino sulla cui identità la polizia manteneva il segreto egli aveva secondo i più lasciato londra con un treno diretto verso nord un breve trafiletto mi designava come il proprietario dell'appartamento nel quale si erano svolte gli avvenimenti vidi in questa inserzione un'astuzia grossolana della polizia tendente a convincermi che non mi si sospettava colpevole del delitto il giornale non conteneva altro di interessante niente sulla politica estera né sul carolide niente sulle questioni che avevano interessato scadder lo rimisi sul sedile e mi accorsi che il treno si approssimava la stazione dove ero sceso il giorno prima il treno diretto a ovest attendeva per lasciar passare il nostro ne erano scesi tre uomini che interrogavano il capo stazione piantatore di patate e indovinai che appartenessero alla polizia locale che questa avvisata da scotland yard aveva seguito le mie tracce sino a questo paese sperduto ben celato nell'ombra non perdevo di vista il gruppo uno dei tre uomini prendeva alcune note su un taccuino il vecchio piantatore di patate sembrava molto seccato e il ragazzo al quale aveva consegnato il mio biglietto parlava con volubilità tutti guardavano verso la brughiera nella direzione della via bianca e io speravo di vederli seguire le mie tracce da quella parte il nostro treno stava lasciando la stazione quando il mio vicino si svegliò mi lanciò uno sguardo interrogativo obbligò il suo cane a tacere con una pedata e mi chiese dove fossimo arrivati evidentemente aveva bevuto molto ecco che cosa vuol dire appartenere alla società di moderazione concluse con l'amarezza del rimpianto gli espressi la mia meraviglia di vedere in lui uno di quei coraggiosi apostoli è così appartengo alla società moderata e con una grande convinzione disse con tono aggressivo ho prestato giuramento il giorno di san martino e da allora non ho toccato un bicchiere di whisky neanche l'ultimo dell'anno e sì che ne avevo una gran voglia non posso nasconderlo allungò le gambe sotto il sedile a fondone cuscini la testa scarmigliata e badate io non ho che quel che merito gemette un cranio più ardente del fuoco dell'inferno e due occhi che guardano ciascuno dalla sua parte e a che cosa dovete tutto ciò gli chiese gentilmente al beveraggio che si chiama acquavite nella mia qualità di moderato ho evitato il whisky ma ho tracannato acquavite tutto il giorno e adesso purtroppo mi ci vorrà certo almeno una quindicina di giorni per rimettermi in buono stato la sua voce si perse in un gemito e la spietata mano del sonno si appesantì di nuovo sui suoi occhi avevo pensato di scendere qualche stazione più in là ma una migliore occasione mi si offrì di lì a poco poiché il treno si fermò di botto all'entrata di una trincea dominante o rumoroso torrente color birra bionda guardai fuori e vidi che tutti i finestrini erano chiusi e che nessuna forma umana si mostrava l'orizzonte aprì perciò lo sportello e saltai nel folto dei noccioli che fiancheggiava la strada ferrata tutto sarebbe andato magnificamente senza quel maledetto cane persuaso che io fuggissi portando con me il bagaglio del suo padrone esso si mise ad abbaiare per poco non mi addentò il fondo dei pantaloni il contadino risvegliato dal rumore si drizzò nella cornice dello sportello urlando che io mi ero ucciso mi mossi attraverso il folto delle fronde raggiunsi la sponda del torrente e nascosto dagli arbusti mi allontanai di un centinaio di passi poi dal fondo del mio nascondiglio guardai indietro e vidi il capotreno e qualche viaggiatore raggruppati dinanzi alla porta aperta della mia vettura costoro guardavano nella mia direzione la mia sparizione sarebbe stata meno notata se me ne fossi andato con la banda in testa dopo aver suonato tre squilli di tromba per fortuna il contadino beone richiamo su di sé l'attenzione dei presenti egli e il suo cane che teneva legato con una catena alla cintura caddero d'improvviso a capofitto dalla vettura sulla massicciata e rotolarono a qualche distanza da me sino alla sponda del torrente durante le operazioni di salvataggio che si resero necessarie il cane morse qualcuno perché udì un grido di dolore e uno scoppio di bestemmia violente tutto questo valse a farmi dimenticare e quando mi arrischiai dopo aver camminato curvo per mezzo chilometro a gettare un'occhiata indietro il treno si era rimesso in moto e spariva nella trincea mi trovavo in un vasto semicerchio di brughiera del quale il fiume giallo segnava il diametro e le cime del nord formavano la circonferenza nulla che rivelasse una presenza umana nessun rumore oltre quello delle acque che scorrevano il cinguettio continuo degli uccelli e tuttavia cosa bizzarra per la prima volta la paura di essere inseguito si impadroni di me non era la polizia che mi ispirava questo sentimento ma coloro che mi sapevano in possesso del segredo di scadder e che dovevano essere decisi a non lasciarmi vivere ero certo che mi avrebbero seguito con una perspicace e una vigilanza sconosciute la polizia inglese e che se fossero giunti a impadronirsi di me non avrei avuto più alcuna speranza guardai ancora dietro di me ma il paesaggio era deserto l'acciaio delle rotaie e i ciottoli bagnati del torrente brillavano nel sole non sarebbe stato possibile immaginare scena più pacifica non di meno mi misi a correre dissimulandomi entro la cavità del pantano corsi tanto che il sudore finì per accecarmi questa crisi di terrore non passò se non quando raggiunsi l'emiciclo delle montagne qui mi gettai ansimante su una roccia che dominava il corso nascente del fiume giallastro dal mio posto di osservazione scoprivo tutta la landa che si stendeva sino alla strada ferrata e più lontano i verdi campi coltivati che si perdevano oltre la brughiera e benché io possegga occhi d'aquila non scoprì in tutta quella distesa un solo oggetto mobile allora guardai verso est al di sopra della cresta di rocce e vidi un paesaggio completamente diverso erano molli vallate verdeggianti ricche di abeti tra i quali in certe strisce polverose rivelavano le strade dopodiché alzai gli occhi all'azzurro del cielo e quello che vi scoprì affrettò i palpiti del mio cuore basso sull'orizzonte verso sud un monoplano si alzava nel cielo capì come se qualcuno me lo avesse detto che quell'aeroplano cercava me e che non apparteneva alla polizia per un prima sorvolò a bassa quota le cime delle rocce poi descrissi alcune spirali serrate al di sopra della vallata che avevo risalito e infine parvi rinunziare alle ricerche e salendo molto in alto sparì verso sud questo spionaggio aereo mi dispiacque e mi diede un'opinione meno buona della regione che avevo scelto come rifugio queste colline con la loro vegetazione rada e bassa non potevano in alcun modo nascondermi ai nemici che venivano dall'alto era necessario che cercassi un asilo d'altro genere l'aspetto del paese che si stendeva di là dallo spartiacque mi ispirava maggior confidenza là io avrei potuto trovare boschi e case verso le sei di sera abbandonai la brughiera per un bianco nastro di strada che seguiva il corso incassato di un fiume di pianura a poco a poco gli argini addolcirono la loro pendenza il burrone si mutò in alto piano ed arrivai finalmente su una specie di colle sul quale un tetto solitario fumava nel crepuscolo la strada passava su un ponte un giovanotto stava addossato al parapetto costui fumava una lunga pipa di terracotta e contemplava l'acqua attraverso gli occhiali aveva in mano un libretto sul quale il suo dito segnava la pagina e clamava lentamente e come un ipogrifo che traversa i deserti per monti e per vallate con la sua marcia alata egli inseguiva la rima piano al rumore dei miei passi sulle pietre del ponte egli si volse bruscamente e mi mostrò un volto da adolescente abbronzato e simpatico vi auguro buonasera disse gravemente è una bella notte per correre le vie del mondo dalla casa mi giungeva l'odore della torba che brucia mischiato a quello di un arrosto è un albergo questo gli chiesi per servirvi signore rispose educatamente io ne sono il proprietario e spero che vorrete passarvi la notte perché se devo dirvi la verità sono otto giorni che non vedo passare un viaggiatore mi sedetti sul parapetto del ponte riempì la mia pipa mi pareva di capire che in quel giovane potevo trovare un alleato siete ben giovane per essere un albergatore dissi mio padre è morto un anno fa e io ho continuato la sua attività vivo con mia nonna questo è un mestiere ben sedentario per un giovanotto e la mia vocazione sarebbe tutt'altra e quale sarebbe egli arrossì vorrei scrivere dei libri rispose perbacco a che cosa potreste desiderare di meglio esclamai per conto mio ho sempre pensato che un albergatore si trovi in ottime condizioni per fare romanziere e non certo nei nostri giorni rispose con vivacità una volta forse quando pellegrini e trovatori correvano le strade con gli assassini e le corriere ma i giorni nostri qui non capitano che automobili piene di grandame che si fermano per pranzare poi in primavera qualche pescatore in autunno i cacciatori quel che vorrei sarebbe vedere il mondo viaggiare e scrivere libri sul genere di quelli di kipling e di conrad ma sino oggi non ho composto che qualche poesia pubblicata su chambers journal guardai l'albergo che dorato al tramonto spiccava tra le colline oscure ho girato parecchio il mondo e sento che non disprezzerei un eremitaggio come questo credete davvero che non si possa incontrare l'avventura se non ai tropici l'avventura chissà che proprio in questo momento essa non vi sia più vicina di quanto immaginate e appunto quel che afferma kipling disse con gli occhi scintillanti e mi citò qualche verso de il romanzo portatomi dal treno delle 9 45 ebbene esclamai ecco per voi un racconto vero e del quale tra un mese potrete fare un romanzo installato sul ponte nel suave crepuscolo di maggio improvvisai per quel bravo giovane una storia deliziosa essa d'altronde nelle sue grandi linee era vera e io non ne travisai che i particolari secondari mi spacciai per un pezzo grosso delle miniere di kimberly che aveva avuto grandi seccature da parte dell'idb per avere smascherato una banda nera gli affiliati di questa mi avevano inseguito anche al di qua dei mari avevano ucciso il mio migliore amico e in quel momento erano purtroppo sulle mie tracce raccontai molto bene la storia specie per quel tanto di fantasia che vi introdussi descrissi la mia fuga verso l'africa tedesca attraverso il kalahiri i giorni ardenti senza una goccia d'acqua le meravigliose notti di velluto azzurro improvvisai un attentato contro la mia vita durante il viaggio di ritorno e misi insieme a un capolavoro di orrore con la faccenda di portland place voi cercavate l'avventura esclamai ebbene mi pare che l'abbiate trovata quei diavoli sono sulle mie tracce e la polizia se unite a loro è una corsa che ho intenzione di vincere dio mio sospirò il giovane respirando appena tutto ciò è degno di ridder aggarda e di conan doyle voi dunque mi credete chiesi soddisfatto naturalmente vi credo e mi tese le mani io credo tutto quello che esce dal comune soltanto le cose quotidiane meritano di essere guardate con diffidenza quel bravo ragazzo era davvero molto giovane ma dava soddisfazione credo di aver fatto perdere provvisoriamente le mie tracce ai miei persecutori ma bisogna che rimanga nascosto per un paio di giorni potete alloggiarmi il giovanotto per tutta risposta mi strinse tra le braccia e mi trascinò verso l'albergo sarete più nascosto qui che se foste sotto terra inoltre veglierò affinché nessuno chiacchieri e voi mi racconterete ancora qualcuna delle vostre avventure l'albergatore letterato mi assegnò una camera nella parte posteriore della casa con una bella vista sull'altipiano e mi misi a mia disposizione il suo studio nel quale erano ammucchiate le edizioni economiche dei suoi autori preferiti non vidi la nonna e supposi che fosse costretta a letto una vecchia che si chiamava margherita mi recava i pasti quanto all'albergatore rozava intorno a me continuamente per avere un po' di tranquillità gli affidai un'incombenza siccome possedevo una motocicletta lo inviai ogni mattina ad acquistarmi il giornale che arrivava la sera con la posta gli raccomandai di stare in guardia e di osservare bene tutte le persone sconosciute che gli capitasse di incontrare sorvegliando specialmente le automobili e gli aeroplani dopodiché mi immersi con tutta l'attenzione nello studio del taccuino di scadder il mio amico tornò a mezzogiorno con lo scotsman il giornale non conteneva niente di interessante per me a parte un nuovo interrogatorio di paddock e del lattaio e una conferma della notizia pubblicata il giorno prima secondo la quale l'assassino si era diretto verso nord vi trova inoltre un lungo articolo riportato dal times relativo a carolide e agli affari i balcanici ma nel quale non si parlava affatto del suo viaggio in inghilterra nel pomeriggio mi liberai di nuovo dell'albergatore poiché il crittogramma mi appassionava sempre di più come ho già detto si trattava di un crittogramma numerico e una laboriosa ricerca aveva finito col rivelarmi il significato degli zeri e dei punti l'incognita era ancora per me la parola chiave e quando pensavo alle varie centinaia di migliaia di parole di cui scadder aveva potuto servirsi mi sentivo sul punto di rinunciare alle mie ricerche ma verso le tre ebbi un'improvvisa ispirazione il nome di giulia ceceni mi attraversò la mente scadder vedeva in questa donna la chiave di volta del caso carolide e io pensai di applicare questo nome alla cifra i risultati furono ottimi le cinque lettere del nome giulia mi diedero la posizione delle cinque vocali a valeva j decima lettera dell'alfabeto rappresentata da x nella cifra e valeva u uguale x x i e così di seguito la parola ceceni mi diede l'ordine numerico delle principali consonanti segnai questi risultati su un pezzo di carta e mi misi a decifrare le pagine di scadder passò un'ora e io leggevo ancora mi sentivo pallidissimo e le mie dita battevano nervosamente ritmicamente sul tavolino gettai un'occhiata fuori dalla finestra e scorsi una grossa automobile da turismo che risaliva la vallata nella direzione dell'albergo la vettura si fermò dinanzi alla porta e nella casa si sentì un rumore di gente che si precipitava all'entrata i viaggiatori erano due due uomini con impermeabile passamontagna due minuti dopo l'albergatore entrò nella mia camera con l'espressione eccitata e ci sono giù due individui che vi cercano mi disse a voce bassa li ho lasciati nella sala da pranzo davanti a due bicchieri di whisky e soda mi hanno chiesto vostre notizie asserendo che voi avevate dato loro un appuntamento qui se sapeste come vi hanno descritto bene non hanno dimenticato né le vostre scarpe né la vostra camicia ho raccontato loro che eravate giunto qui ieri sera ed eravate ripartito stamane in motocicletta allora uno dei due individui si è messo a bestemmiare come un facchino mi feci descrivere i due individui uno era giovane magro con occhi neri e sopracciglia folte l'altro sorrideva continuamente parlando strascicava la s nessuno dei due era straniero su ciò il mio informatore era categorico presi un pezzo di carta sul quale scrissi queste parole in tedesco come se fosse una lettera pietra nera scadder possedeva questa informazione ma non poteva agire prima di una quindicina di giorni per ora non credo di poter fare nulla di utile tanto più che carolide non è ancora certo di quel che farà ma se mt lo desidera farò del mio meglio scrissi tutto ciò in modo che il pezzo di carta avesse l'aria di essere stato stracciato da una lettera personale poi dissi all'albergatore portate giù questo diti a quei signori che l'avete trovato nella mia camera e pregateli di restituirmelo casomai riuscissero a raggiungermi tre minuti dopo udì l'automobile che si rimetteva in marcia e stando dietro le tende potei vedere i due messeri l'uno era sottile l'altro grassoccio ma io non li conoscevo l'albergatore riapparve sovra eccitato il vostro pezzo di carta ha fatto loro un bel effetto disse ridendo il bruno è diventato pallido come la morte e ha vestemmiato come un turco l'altro ha fatto una faccia mi hanno dato mezza sovrana per le due consumazioni e se ne sono andati senza aspettare il resto ecco quel che dovreste fare adesso dissi prendete la vostra motocicletta filata newton stewart e chiedete del commissario capo dategli i connotati dei due uomini e ditegli che sospettate che essi non siano estrane all'assassinio di londra saprete trovare bene qualche ragione per giustificare quest'opinione quanto a quei due signori torneranno non dubitate non certo questa sera poiché ora sono occupati a rincorrermi e lo faranno almeno per 40 miglia egli se ne andò obbediente come un bambino mentre io mi rimettevo a studiare le note di scader quando tornò pranzammo insieme e non potei fare a meno di lasciarmi interrogare tuttavia mentre istruivo quel caro ragazzo sulla caccia al leone e la guerra d'africa pensavo come queste avventure fossero insignificanti paragonate a quella nella quale mi trovavo coinvolto in quel momento quando l'albergatore se ne andò a letto rimasi alzato tentando di decifrare il tacquino di scader mi fu impossibile dormire rimasi sino all'alba seduto in poltrona fumando ininterrottamente la pipa verso le 8 del mattino potei assistere all'arrivo di due agenti e di un brigadiere costoro aiutati dall'albergatore misero la loro automobile in una rimessa dopodiché entrarono in casa 20 minuti più tardi vidi dalla mia finestra giungere sull'altipiano un altro automobile dalla parte opposta a quella di cui era arrivata quella della polizia la nuova vettura non si fermò dinanzi all'albergo ma 200 metri più in là all'ombra di un gruppo di alberi osservai che i due occupanti prima di scenderne ebbero cura di voltarla di lì a due minuti senti la ghiaia stridere sotto i loro passi il mio disegno era di rimanere nascosto nella mia camera in attesa degli avvenimenti pensavo che se fossi riuscito a mettere alle prese la polizia con gli altri miei persecutori che erano poi più temibili mi sarebbe senza dubbio accaduto qualcosa di favorevole ma in quel momento ebbi un'ispirazione che mi parve migliore scarabocchiai due righe di ringraziamento per il mio ospite apri la finestra e mi lasciai cadere senza rumore su alcuni arbusti di uva spina senza essere visto varca il fiume camminai sulla sponda di un corso d'acqua secondario e raggiunsi la via maestra presso il gruppo di alberi l'automobile era lì nuova fiammante sotto il sole mattino a onta della polvere che rivelava una lunga corsa mi misi al volante accesi il motore e filai lentamente lungo l'altipiano quasi subito cominciò la discesa e io persi di vista l'albergo tuttavia il vento mi portò gli scoppi di due voci furiose capitolo 4 l'avventura del candidato radicale ed eccomi in un radioso mattino di maggio occupato a far sì che un'automobile da 40 a cavalli sviluppasse tutta la velocità di cui era capace sulle strade faticose della brughiera da principio lanciai qualche occhiata dietro di me al di sopra della mia spalla ma ben presto guidai con sicura indifferenza con quel tanto d'attenzione che valesse a mantenermi nel mezzo della strada e che pensavo intensamente a quello che avevo letto sul taccuino di scadder e il bravo uomo mi aveva raccontato una quantità di frottole tutte le sue storie relative ai balcani agli ebrei anarchici alla conferenza di foreign office erano una serie di imbrogli e altrettanto si poteva dire per quanto riguardava carolide mistificazioni sì ma non del tutto come apparirà chiaro in seguito io avevo ascoltato con una fede assoluta queste storie e scadder si era fatto gioco di me la versione che mi aveva dato il suo taccuino era ben diversa e a questa versione a onta del proverbio che dice il gatto scottato dall'acqua calda a paura di quella fredda credevo senza riserve perché non lo so è che tutto in essa aveva un'aria di verità e la prima versione era anch'essa nonostante la sua falsità vera nelle linee essenziali il giorno 15 giugno doveva essere una data importante qualche cosa di grave doveva avvenire ma più grave della morte di un levantino riconosciuta questa gravità io non potevo in coscienza biasimare scadder di avermi voluto tener fuori dal gioco per vincere la partita da solo non dubitavo minimamente che questa fosse stata la sua intenzione quel che mi aveva raccontato aveva abbastanza l'aria di un grosso affare ma la realtà era così smisuratamente più grande che avendo la scoperta era logico egli volesse tenerla per sé non gliene servavo rancore quel che egli cercava al di sopra di tutto era il pericolo le note contenevano la storia completa ben inteso con lacune che egli contava di riempire a memoria vi erano indicate le fonti di informazioni alle quali per una singolare mania egli attribuiva valori numerici che poi sommava insieme il risultato corrispondeva al grado di credibilità ad ogni sviluppo della storia stessa i quattro nomi scritti in caratteri ordinari erano i suoi punti di riferimento vi era per esempio un tale dacrosn che otteneva cinque punti su un massimo possibile di dieci un altro non arrivava a tre il taccuino conteneva tutti gli elementi principali della faccenda e oltre questi un'espressione bizzarra che ritornava tra virgolette una decina di volte 39 scalini questa era l'espressione e l'ultima volta che la doperava scadder la completava così 39 scalini li ho contati alta marea alle 22 17 mi pareva che non ci fosse niente di utile da trarre da queste parole la prima cosa che appresi fu che nulla poteva evitare la guerra essa doveva aggiungere tanto sicuramente quanto la festa di natale la cosa era stata decisa affermava scadder sin dal febbraio del 1912 la guerra avrebbe dovuto scoppiare in seguito alla morte di carolidè questa era inevitabile egli sarebbe stato spedito all'altro mondo il 14 giugno vale a dire due settimane quattro giorni dopo quel mattino di maggio e io conclusi dopo aver letto le sue note che nulla avrebbe potuto impedire che il fatto avvenisse in secondo luogo questa guerra doveva essere una sorpresa assoluta per l'inghilterra la morte di carolidè avrebbe appiccato l'incendio nei balcani e vienna in seguito a ciò avrebbe lanciato il suo ultimatum la russia non avrebbe accettato la cosa e ne sarebbe seguito uno scambio di minacce quanto a berlino il suo compito sarebbe stato quello del pacere e come tale avrebbe versato olio sulle onde fino a quando trovato improvvisamente un buon pretesto per litigare lo avrebbe afferrato e ci sarebbe piondato addosso in cinque ore questo piano era combinato magnificamente tanti bei discorsi e poi un colpo a tradimento avremmo parlato delle buone intenzioni della germania e frattanto le nostre coste sarebbero state subdolamente circondate di mine e un sommergibile sarebbe stato in agguato per ognuna delle nostre navi da guerra ma tutto ciò dipendeva da un terzo fatto che doveva accadere il 15 giugno confesso che non avrei mai capito niente di questo terzo elemento della faccenda se in altri tempi non avessi stretto amicizia con un ufficiale di stato maggiore dell'esercito francese di ritorno dall'africa occidentale il quale mi aveva raccontato molte cose questa tra le altre che malgrado tutte le assurdità dette in parlamento esisteva effettivamente un'alleanza segreta tra la francia e l'inghilterra che i due grandi stati maggiori si incontravano di tanto in tanto e prendevano disposizioni in vista di una guerra e di un'azione combinata ora in giugno un pezzo grosso doveva venire da parigi per ritirare niente meno che i piani di mobilitazione della flotta britannica mi parve perlomeno di comprendere che si trattava di qualche cosa di simile e in ogni caso di un documento della più alta importanza ma il 15 giugno altri personaggi dovevano trovarsi a londra sui quali non potevo che far congetture scudder si limitava a disegnarli col nome collettivo di pietra nera essi non rappresentavano i nostri alleati ma i nostri nemici mortali e il documento destinato alla francia doveva finire nelle loro mani ora questo documento è necessario non dimenticarlo 8 o 15 giorni più tardi nelle tenebre della notte d'estate era destinato a tradursi in colpi di cannone e in torpediniere veloci questa era la storia che era riuscito a decifrare in una rustica stanza d'albergo che guardava su un orto coltivato a cavoli questa era la storia che mi rombava nel cervello mentre lanciavo di valle in valle la pesante vettura da turismo il mio impulso iniziale era stato quello di scrivere una lettera al primo ministro ma una breve riflessione mi aveva rivelato l'inutilità del tentativo chi poteva credere al mio racconto era necessario che io mostrassi un segno una prova e dio solo sa se io fossi in condizioni di farlo prima di tutto dovevo badare a me stesso e cercare di trovarmi pronto quando il momento di agire fosse venuto questo compito non mi pareva troppo agevole mentre i rappresentanti della polizia delle isole britanniche suonavano l'allarme dietro di me e i settari della pietra nera correvano sulle mie tracce invisibili e rapidi in mancanza di uno scopo ben chiaro dirigevo la mia corsa verso est regolandomi con il sole poiché la carta mi diceva che proseguendo verso nord sarei andato a finire in una regione di miniere di carbone di città industriali ben presto lasciai l'alta brughiera e penetrai in una larga vallata per alcuni chilometri costeggiai velocemente il muro di un parco oltre il quale attraverso un diradarsi di alberi scorsi un grande castello passai per vecchi villaggi di case col tetto di stoppie sopra tranquilli corsi d'acqua e dinanzi a giardini fioriti di biancospino una pace così profonda avviluppava la terra che mi pareva assurdo ci fossero dietro di me in qualche luogo persone che si accanivano contro la mia vita e più assurdo ancora che di lì a un mese a meno che un'inaudita fortuna non ci favorisse le tranquille facce rotonde dei contadini che incontravo potessero essere alterate disfatte alla vista dei cadaveri disseminati per le campagne dell'inghilterra verso mezzogiorno arrivai a un lungo villaggio isolato e pensai di fermarmi per far colazione a metà della strada principale c'era l'ufficio postale sui gradini di questo vidi la gerente chinata in compagnia di un poliziotto su un telegramma vedendomi costoro ebbero un sussulto il poliziotto alzò il braccio e mi gridò di fermarmi per poco non commisi la sciocchezza di obbedire ma come in un lampo intui che il telegramma mi riguardava che i miei buoni amici dell'albergo si erano uniti e intesi col nobile scopo di fare una più ampia conoscenza di me e che doveva essere stato loro molto facile telegrafare i miei connotati e quelli dell'automobile ai 30 villaggi per i quali dovevo passare lasciai i freni appena in tempo il poliziotto si era grappato alla macchina e non abbandonò la presa dopo aver ricevuto il mio pugno sinistro nell'occhio capì che il mio posto non era sulle vie maestre e che mi conveniva adattarmi ai viottoli trasversali l'impresa senza una carta particolareggiata non era facile c'era il pericolo di andare a finire in qualche stradina privata che mi avrebbe portato in uno stagno per le anitre o nella corte di qualche fattoria e io non potevo permettermi i ritardi del genere mi accorsi finalmente ma purtroppo tardi dell'errore fatto rubando l'automobile quella grossa vettura verde era il mezzo più sicuro per farmi segnalare in tutta l'estensione della scozia se poi l'avessi abbandonata per continuare a piedi a essa sarebbe stata ritrovata ben presto e tutto il vantaggio di quella lunga corsa se sarebbe ridotto a nulla la prima cosa da farsi era scegliere le strade più deserte queste strade mi si fecero ben presto incontro quando ebbi scavalcato l'affluente di un grande fiume e mi fu infilato in una gola serrata fra pareti rocciose donde uscì una strada zigzag che si arrampicava lungo un colle essa era deserta ma siccome minacciava di condurmi troppo a nord mi diressi verso est lungo un pessimo sentiero e incontrai finalmente una grande linea ferroviaria doppio binario dietro la quale ai piedi scoprì un'altra vallata molto larga pensai che traversandola mi sarebbe stato forse possibile trovare un albergo isolato per passarvi la notte cadeva la sera e la fame mi torturava poiché sin dalla mattina non avevo mangiato nulla eccetto due panini acquistati da un fornaio in quel preciso momento un rombo mi fece levare il capo era l'infernale aeroplano che volando a bassa quota una decina di chilometri verso sud avanzava rapidamente verso di me ebbi la presenza di spirito di ricordarmi che sulla strada nuda ero alla mercedo un veivolo e che la mia sola salvezza era quella di potermi mettere al coperto sotto gli alberi della vallata filai perciò come un fulmine dalla cima ai piedi della collina voltando la testa ogni volta che mi era possibile farlo senza pericolo per sorvegliare quella dannata macchina volante arrivai ben presto su una strada bordata da siepi che sprofondava verso il corso incassato di un fiume poi venne la volta di un folto boschetto e lì rallentai la mia andatura e improvvisamente alla mia sinistra udì l'ululato della sirena di un'altra automobile e mi avvidi con terrore che stavo per giungere all'altezza di un cancello attraverso il quale un viottolo privato sbuccava sulla via maestra il mio clacson emise un gemito disperato ma era troppo tardi bloccai i freni ma la forza della velocità acquistata mi trasportò e dinanzi a me un'altra automobile sfrecciò attraverso la strada un secondo e lo scontro sarebbe stato inevitabile feci allora la sola cosa possibile mi gettai cioè nella siepe di destra sperando di trovare qualche cosa di cedevole dietro di essa vana speranza la mia vettura entrò nella siepe come se questa fosse stata burro e andò a capofitto con un salto vertiginoso vedendo quello che stava per accadere saltai sul sedile per buttarmi fuori dall'automobile ma un ramo di biancospino mi afferrò in pieno petto mi sollevò e mi trattenne nel momento preciso in cui una tonnellata di metallo prezioso fuggiva sotto di me si capovolgeva e cadeva con un rumore formidabile da un'altezza di 50 metri nel letto del fiume a poco a poco il ramo cedette e mi depose delicatamente prima sulla siepe poi sul giaciglio di ortiche mentre cercavo di rialzarmi una mano mi afferrò il braccio una voce spaventata mi chiese se mi fossi ferito mi trovai in presenza di un giovanotto piuttosto alto che indossava un pastrano di cuoio e aveva sulla fronte un paio di occhiali da automobilista costui si profondeva in scuse e malediceva la sua poca destrezza da parte mia appena mi fui rimesso dallo spavento provai piuttosto una gioia singolare non era forse questa una maniera come un'altra di sbarazzarsi dell'automobile e colpa mia signore risposi e mi felicito di non aver aggiunto un omicidio alle altre mie follie ecco la fine del mio giro della scozia in automobile ma per poco non è stata anche la fine dei miei giorni l'altro levò di tasca l'orologio e fece qualche calcolo a voi siete un tipo di quelli che mi vanno a genio mi disse posso perdere ancora un quarto d'ora e la mia casa è a due passi da qui mi prodigherò affinché possiate cambiare abito mangiare e riposare in un letto dov'è il vostro bagaglio se non sono indiscreto è forse piombato in fondo al fiume no ce l'ho in tasca dissi mostrandogli il mio spazzolino da denti sono un vecchio coloniale e non mi piace portare pesi inutili un coloniale dio degli dei esclamò il mio interlocutore ma allora voi mi siete stato mandato dal cielo sareste anche per caso propenso al libero scambio certamente risposi senza la minima idea di dove volesse andare a parare quello strano giovanotto questi mi battè sulla spalla amichevolmente mi spinse sulla sua automobile tre minuti dopo ci fermammo dinanzi a un padiglione di caccia d'aspetto grandioso e nascosto tra i pini entrammo il mio nuovo amico mi accompagnò in una camera da letto e sciorinò dinanzi a me mezza dozzina di abiti il mio era ridotto a brandelli ne scelsi uno comodo di panno turchino che differiva assolutamente da quello che avevo indossato sino a quel momento e accettai anche un colletto duro poi mi lasciai condurre sino alla sala da pranzo ove i resti di un pasto copioso adornavano piacevolmente la tavola il mio ospite mi avvertì che non avevo che cinque minuti per sfamarmi sarà meglio che prepariate un panino imbuttito da mangiare strada facendo troveremo da pranzare a ritorno è necessario che per le otto mi trovi sul posto se mancassi il mio agente elettorale mi tirerebbe le orecchie mentre ascoltavo il mio ospite che chiacchierava in piedi presso il caminetto ingurgitai una tazza di caffè dopo una fetta di prosciutto voi mi trovate in un bell'imbarazzo signor a proposito non mi avete detto il vostro nome twidson bene parente del vecchio twidson del 1860 no ebbene sappiate che io sono candidato liberale per questa parte del mondo ho assistito nel pomeriggio a una riunione a battleburn la città capitale del mio circondario e l'odiosa fortezza del partito tory avevo ottenuto che clamperton l'ex ministro delle colonie venisse a parlare per me questa sera egli ha fatto annunciare la sua presenza dappertutto e ha preparato magnificamente il terreno ora nel pomeriggio ricevo un telegramma nel quale mi si annuncia che il bravo uomo si è buscato un malanno a blackpool voi capite sono a terra e obbligato a fare tutto da solo avevo l'intenzione di parlare dieci minuti al massimo ed è come invece a sgolarmi almeno per tre quarti d'ora ma ho avuto un bel torturarmi le meningi per circa tre ore per trovare qualcosa da dire ho dovuto convincermi che non sono all'altezza della situazione ma voi sarete tanto gentile da aiutarmi i tipi come voi hanno la lingua sciolta cosa che di me disgraziatamente non si può dire ebbene voi mi aiuterete e vi sarò riconoscente per l'eternità avevo idee molto limitate sul libero scambio sia in un senso che nell'altro ma non vedevo altro mezzo per giungere al mio scopo oltre quello di assecondare il mio ospite il mio giovane gentiluomo era troppo preso dalle sue preoccupazioni per rendersi conto dell'incongruenza che c'era nel pregare uno sconosciuto il quale era appena sfuggito alla morte per un vero miracolo e aveva perduto un'automobile da mille guinee di prendere la parola in una vece dinanzi a una riunione elettorale senza essere preparato ma la necessità mi vietava tanto di rivelare questa e altre incongruenze quanto di scegliere i miei alleati d'accordo risposi non sono un grande oratore ma racconterò ai vostri elettori qualche cosa di interessante sull'australia parve che le mie parole liberassero le sue spalle da un grande peso i suoi ringraziamenti furono entusiastici mi prestò un ambio pastrano di pelo da automobilista nemmeno per un istante gli passò per la mente di chiedermi perché avesse intrapreso un periplo in automobile senza munirmi di un soprabito e mentre filavamo sulle strade polverose mi intrattenne con l'ingenuo racconto della sua esistenza orfano era stato allevato da uno zio ho dimenticato come si chiamasse ma siccome questo zio ha fatto parte di parecchi ministeri sarà facile trovare il suo nome sui giornali dopo essere uscito da cambridge il mio nuovo amico aveva fatto il giro del mondo poi siccome cercava quale carriera potesse convenirgli suo zio gli raccomandò quella politica mi confessò candidamente di non avere preferenza di partito c'è della brava gente tanto nell'uno quanto nell'altro mi disse con tono cordiale e ci sono anche molti mascalzoni io sono liberale perché tutti nella mia famiglia sono stati wigs tuttavia a onta della sua indifferenza politica egli aveva idee personali su altri argomenti accortosi infatti che mi intendevo un poco di cavalli cominciò a parlare dei concorrenti del derby poi mi confidò i suoi progetti per il miglioramento della classe lavoratrice e in fondo era un giovanotto onestissimo e un po ingenuo mentre attraversavamo un villaggio due poliziotti ci fermarono e alzarono verso di noi le loro lanterne scusate sir harry disse uno dei due abbiamo ricevuto ordine di ricercare un'automobile il cui tipo somiglia pressa poco al vostro niente male esclamò il mio ospite mentre io ringraziavo la provvidenza che per vie traverse mi aveva ancora una volta salvato dopo questo episodio il mio compagno cessò di parlare e il discorso che tra poco avrebbe dovuto pronunziare cominciava a preoccuparlo fortemente le sue labbra si agitavano senza riposo il suo sguardo era fisso nel vuoto tanto che mi attendevo da un momento all'altro una nuova catastrofe cercai di pensare a quel che avrei detto in quella riunione ma il mio cervello era più arido di un sasso a un tratto mi accorsi che eravamo in una via fermi dinanzi a una porta ossequiati da signori rappresentativi e notevolmente decorati entrammo in una sala che conteneva 500 persone circa tra cui molte donne una collezione di crani calvi e due o tre dozzine di giovanotti il presidente che era un pastore dall'aria sorniona e dal naso rubicondo deplorò l'assenza di clamperton si intrattenne alquanto sull'influenza da cui l'insigne uomo del governo era stato colpito e finì col darmi un vero e proprio attestato di maestro incontestato nel campo del pensiero australiano c'erano alla porta due agenti di polizia e io mi lusingai che essi prendessero atto di questa importante testimonianza dopodiché sir harry cominciò il suo discorso non mi era mai capitato di udire niente di simile il mio ospite ignorava persino i rudimenti dell'arte oratoria teneva dinanzi a sé una montagna di note e ne leggeva passaggi quando rinunciava a questo metodo il suo dire si tramutava in un balbettio confuso di tanto in tanto una frase imparata a memoria gli balenava nel cervello ed egli declamando gonfiava il torace come avrebbe fatto harry irwing poi di improvviso si piegava in due borbottando tra le sue cartacce che cosa venisse fuori dalla sua bocca in quei momenti dio lo sa egli parlò della minaccia tedesca e disse che si trattava di una semplice invenzione dei tories per spogliare la povera gente per ricacciare indietro la vasta marea delle riforme sociali ma per fortuna il proletario cosciente organizzato se ne rendeva conto e rideva di queste spreggevoli teorie inoltre egli lanciò la proposta di ridurre la marina come prova della nostra buona fede e di spedire in germania un ultimatum in cui le fosse fatto obbligo di imitarci e mancanza di ciò noi non ci saremmo mossi affermò che senza i tories la germania e la gran bretagna avrebbero potuto lavorare insieme come sorelle in seno alla pace per il progresso e frattanto io pensavo al piccolo tacquino nero che tenevo in tasca si poteva ben dire che se ne infischiavano della pace del progresso gli amici di scudder tuttavia in qualche modo il discorso mi piacque era facile vedere la realtà di quel bravo giovane brillare attraverso le sciocchezze di cui gli avevano imbottito il cranio inoltre ascoltandolo mi sentì notevolmente rassicurato come oratore io non volevo granché ma contavo almeno mille è rimessi insieme così che venuto il mio turno me la cavai discretamente vale a dire che raccontai semplicemente tutto quello che potrei ricordarmi dell'australia non saprei dire se parlai anche del libero scambio ma credo di poter asserire che fu un vero successo quando risalimmo in vettura il mio ospite non stava più nella pelle per la gioia di aver terminato la sua fatica il vostro discorso è stato veramente all'altezza della situazione twidson mi disse e ora voi ritornerete a casa con me sono solo e se vorrete farmi compagnia per un giorno due vi insegnerò a pescare ci fu servito un pranzo squisito del quale io sentivo il più gran bisogno dopodiché bevemmo numerosi grog in un gaio e vasto salotto da fumo dinanzi a un fuoco di legna crepitante giudicai che fosse venuto il momento di mettere le carte in tavola gli occhi di quest'uomo mi dicevano che potevo fidarmi di lui ascoltatemi sir harry ho qualche cosa da dirvi voi siete un bravo figliolo e io sarò franco con voi ditemi un po dove avete appreso le sciocchezze che avete declamato questa sera i suoi lineamenti si contrassero vi pare veramente che fossero tali chiesi addolorato io avrei giudicato tutt'al più il mio discorso un po nebuloso la maggior parte l'ho presa dai volumi che il mio agente elettorale mi invia continuamente ma voi non crederete spero che la germania abbia intenzione di muoverci guerra fatemi la stessa domanda tra sei settimane e vi giuro che non avrete bisogno di risposta dissi se sarete così gentile da prestarmi la vostra attenzione per mezz'ora vi racconterò una storia credo di vedere ancora quella stanza chiara con le pareti adorne di trofei di caccia sir harry in piedi e trepidante davanti al camino e me stesso sprofondato in una poltrona intento del mio racconto mi pareva di essere sdoppiato in piedi accanto a me ad ascoltare la mia voce come quella di un estraneo e chiedendomi con perfetta imparzialità che grado di credulità meritasse il mio discorso era la prima volta che dicevo a qualcuno l'esatta verità come appariva a me e la cosa mi faceva un bene enorme poiché dava una maggior consistenza a quel che pensavo non trascurai il minimo particolare il mio ospite seppe tutto quanto riguardava scadder il lattaio il tacquino e le mie gesta nel galloway il mio racconto si impadroniva sempre più di lui egli camminava su e giù senza fermarsi dinanzi al fuoco come vedete terminai voi avete aiutato l'uomo che la polizia ricerca come colpevole dell'assassinio di portland place e il vostro dovere è quello di mandare la vostra automobile a prendere la polizia per farmi arrestare non credo che i miei capelli diventeranno bianchi in prigione perché guarda caso mi buscherò una coltellata tra le costole un'ora o due dopo il mio arresto non di meno questo è il vostro dovere nella qualità di cittadino rispettoso della legge può darsi che tra un mese lo rimpiangerete ma per ora non avete ragione alcuna di titubare egli mi scrutava con i suoi occhi brillanti e scuri qual era il vostro impiego in rodesia signor henway ingegnere minerario risposi ho messo insieme laggiù una discreta fortuna e il misterio mi piaceva è una professione che non ramollisce molto i nervi non è vero mi misi a ridere per questo i miei nervi sono abbastanza solidi presi un coltello da caccia da un trofeo appeso alla parete ed esegui l'esercizio ben noto dei mashuana che consiste nel gettare in alto un'arma da taglio per riafferrarla con i denti è uno scherzo che richiede un cuore abbastanza saldo se rarri mi guardava sorridendo non ho bisogno di prove può darsi che io dalla tribuna non sia che un bestione ma so valutare un uomo voi non siete né un assassino né un idiota e sono convinto che mi avete detto la verità voglio aiutarvi vediamo un po quel che posso fare per voi primo desidero che scriviate una lettera vostro zio è necessario che mi metta in contatto con persone del governo prima del 15 giugno se rarri si arricciò i baffi non credo che ciò possa servirvi a granché questa faccenda riguarda il foreign force e mio zio rifiuterà di occuparsene d'altronde voi non riuscireste a convincerlo no farò qualche cosa di meglio scriverò al segretario del foreign office è il mio padrino il miglior uomo del mondo che cosa devo dirgli si sedette al tavolino e scrisse sotto la mia dettatura e in sostanza io dicevo che se un uomo a nome twidson tanto valeva conservare lo pseudonimo si fosse presentato a lui prima del 15 giugno conveniva fargli una buona accoglienza il nominato twidson avrebbe provato la propria identità annunciando la parola d'ordine pietra nera e fischiettando l'aria annie lorry bene disse sir harry e lo stile che occorre si ha detto tra parentesi il mio padrino che si chiama walter ballivant passerà le feste di pentecoste nella sua casa in campagna che è vicina ad hanswell sopra kennett e poi voi avete pressa poco la mia statura prestatemi il più vecchio dei vostri vestiti non importa quale quello che conta è che la tinta sia molto diversa da quella dell'abito che ho indossato sino a poco fa poi mostratemi una carta della regione e spiegatemi la configurazione del paese e infine se la polizia si spingesse a cercarmi sin qui non dovete fare altro che mostrare la vettura in fondo al burrone se sono invece gli altri raccontate loro che dopo avervi visto ho preso l'espresso del sud egli promise di fare tutto ciò quanto a me rasai quei pochi baffi che mi restavano indossai un vecchio abito del colore che si usa chiamare se non sbaglio pepe e sale la carta mi diede un'idea della mia posizione geografica e mi istrui sulle cose che volevo sapere come fosse possibile raggiungere la grande strada afferrata del sud e quali fossero le regioni selvagge più prossime alle due il mio ospite mi strappò dal sonno che mi aveva colto sulla poltrona del fumo ar e mi condusse ancora mezzo addormentato sotto la cupa notte senza stelle scovata in un capannone di ferri vecchi una vecchia bicicletta me la offrì prima strada a destra in fondo la betaia mi raccomandò al sorgere del giorno vi troverete in piena montagna la vi consiglio di buttare la bicicletta in un fosso e di raggiungere a piedi la brughiera voi potete passare otto giorni tra i pastori sicuro come nell'estremo lembo della papuasia pedalai attivamente sulle orrende strade della montagna sino al momento in cui l'alba fece impallidire il cielo quando il sole si liberò dalle brume mi trovai in un vasto mondo di verzura dove torrenti scorrevano da ogni parte e che era chiuso da un lontano orizzonte azzurro giudicai che in quel luogo avrei potuto essere rapidamente avvertito dell'avvicinarsi dei miei nemici capitolo 5 l'avventura dello spaccapietre con gli occhiali mi sedetti proprio in cima allo spartiacque per rendermi esattamente conto della mia posizione dietro di me la strada si innalzava entro un lungo crepaccio montano che formava la vallata superiore di qualche importante corso d'acqua dinanzi c'era una distesa piatta di un chilometro circa tutta segnata da cavità palustri e irta di ciuffi d'erba di là dalla quale la strada discendeva scoscesa entro un alto burrone sino a un'altra pianura e in fondo alla quale si fondevano in una nuvola azzurra a destra e a sinistra si elevavano verdi cime rotonde si intravedevano più lontane altre sommità coperte di vegetazione nelle quali riconobbi la grande catena di montagne che secondo le indicazioni della carta avevo scelto come rifugio mi trovavo sulla sommità centrale di una vasta regione sopraelevata e potevo vedere per parecchi chilometri intorno a me il più piccolo oggetto mobile nelle praterie poco al di sopra della strada dietro di me fumava il camino di una capanna ma era questo l'unico indizio di vita umana erano quasi le sette mentre me ne stavo lì immobile intesi ancora una volta il rombo aereo di cattivo augurio ed ecco vidi l'aeroplano apparire sull'orizzonte a sud volava alto ma giunto vicino si abbassò di parecchie centinaia di metri e cominciò a descrivere cerchi sempre più stretti intorno alla montagna così come un falco gira prima di abbattersi sulla preda discesi così per parecchio e ben presto l'osservatore di bordo mi scorse vidi uno dei due passeggeri puntare un binocolo poi d'improvviso l'aeroplano si allontanò tutto ciò mi ispirò riflessioni sconfortanti i miei nemici mi avevano ritrovato e certo non avrebbero tardato molto a circondarmi ignoravo di quali forze disponessero ma queste forze non potevano non essere più che sufficienti l'aviatore aveva visto la mia bicicletta e doveva quindi aver concluso che io intendessi fuggire per la strada in questo caso non avevo che una probabilità di salvezza la brughiera a destra o a sinistra portai la bicicletta qualche centinaio di metri da dove mi trovavo sulla strada e la gettai in una palude dove sprofondò tra canne e fiori acquatici poi mi arrampicai su un albero dal quale si vedeva tutta la vallata sul lungo nastro bianco che vi serpeggiava nulla si muoveva ho già detto come non vi fosse in tutto il paese di che nascondere un topo man mano che il giorno cresceva la limpida luce lo inondava ad uno splendore sempre più caldo a un punto tale da ricordarmi il veld sudafricano e i suoi solleoni profumati in un'altra occasione questo paese mi sarebbe andato a genio ma in questa mi ci sentivo molto a disagio la libera brughiera non era per me che una prigione sbarrata e l'area viva delle montagne l'atmosfera di un carcere getta in alto una moneta testa a destra croce a sinistra la moneta ricadde mostrando la testa e io mi diressi verso nord ben presto giunsi sull'orlo di una cresta che formava la muraglia estrema dell'altipiano di lì scoprì la via maestra per una lunghezza di almeno 10 chilometri e laggiù lontanissimo mi parve di vedere un oggetto che si muoveva e che presi per un'automobile oltre la cresta si stendeva ondulata la verde prateria che si perdeva alla fine di una valle boscosa ora siccome la via del veld mi ha dato occhi di lince per cui vedo cose che la maggior parte degli uomini non vedono che con l'aiuto del cannocchiale scorsi in fondo al pendio parecchi uomini che avanzavano allineati come cacciatori arretrai sino a nascondermi alla loro vista quella direzione mi era interdetta era dunque necessario che io tentassi a di riparare sulle nere montagne del sud di là dalla strada maestra l'automobile avvistata si avvicinava ma aveva ancora molta strada da percorrere resa difficile da alcune pendenze notevoli mi misi a correre velocemente stando curvo non ratrizzandomi che nelle cavità e correndo non smettevo di sorvegliare il declivio della montagna dinanzi a me illusione o realtà credevo di scorgere alcune persone una forse più che si muovevano in un burrone di là dal torrente quando in una zona di terreno si è bloccati da tutte le parti non c'è che una cosa da fare per sfuggire all'accerchiamento si deve rimanere fermi al proprio posto e lasciare che i nemici cerchino in vano ecco quel che mi diceva il buonsenso ma come avrei potuto sfuggire alle ricerche in quella dannata prateria non avrei esitato un momento a seppellirmi sino al collo nelle melma o a rimanere sott'acqua o ad arrampicarmi sul più alto ramo di un albero ma non c'era nulla di tutto ciò intorno a me anche le paludi non erano che minuscole pozzanghere il torrente un semplice filo d'acqua e non c'era un albero neanche a pagarlo oro nulla al di fuori dell'erba bassa del fianco nudo della montagna e della via maestra bianca fu allora che a una svolta nascosta della strada dinanzi a un mucchio di ciottoli incontrai uno spaccapietre era appena arrivato e batteva svogliatamente il suo martello mi guardò con occhio apatico e sbadigliò si ha maledetto il giorno in cui ho lasciato l'agricoltura esclamò come se si rivolgesse all'universo almeno non dipendevo da nessuno allora invece adesso sono lo schiavo del governo sollevò il martello e spezzò un ciottolo poi buttò in terra l'utensile bestemmiando e si coprì le orecchie con le mani madonna mia la mia povera testa scoppia gridò era un irsuto individuo persa poco della mia corporatura ma molto curvo con la barba lunga di otto giorni il suo naso sosteneva un paio di grossi occhiali di corno non ne posso più esclamò di nuovo se anche l'ispettore farà rapporto bene in fischio torno a letto lo interrogai sulla natura del suo male benché la causa ne fosse abbastanza chiara il mio male che ho bevuto mia figlia maria si è sposata ieri abbiamo ballato sull'aia fino alle 4 del mattino io ho bevuto con gli amici ed ecco vorrei non aver mai saputo che cos'è il vino riconobbi anch'io che avrebbe fatto meglio a tornarsene a letto è facile a dirsi gemette ma ho ricevuto ieri sera l'avviso che il nuovo ispettore dei ponti e delle strade avrebbe fatto un giro di ispezione proprio oggi se capita qui e non mi trovo o se mi trovo ubriaco sono a posto sapete che cosa faccio torno a letto e dirò che sono ammalato ma ho una gran paura che non attacchi si sa bene che specie di malattia sia la mia mi venne un'ispirazione ditemi un po il nuovo ispettore vi conosce domandai lui neanche per sogno non sono neanche otto giorni che è qui corre da tutte le parti con la sua automobile ed è capace di scovare un uomo anche sottoterra dov'è la vostra casa domandai mi mostro con un gesto incerto la capanna sulla sponda del torrente ebbene ritornate a letto gli dissi e dormite tranquillo prenderò io il vostro posto per un momento e aspetterò l'ispettore mi guardò intontito poi quando l'idea fu penetrata nel suo cervello annebbiato un sorriso ebete d'ubriaco distese il suo volto siete un buon diavolaccio voi esclamò tutto si accomoda magnificamente e siccome ho finito questo mucchio di ciottoli non dovrete più picchiare per oggi basterà che prendiate la carretta e dovrete portare lassù un po di pietre della cava per preparare il lavoro di domani io mi chiamo alexander turnbull sono sette anni che faccio questo mestiere e prima sono stato vent'anni coltivatore delle sponde dell'aned water gli amici mi chiamano bevi senza sete e qualche volta quattro occhi perché porto gli occhiali per corpa della mia pessima vista non dovrete che parlare educatamente all'ispettore e chiamarlo sir egli non vi chiederà di più quanto a me tornerò a mezzogiorno mi feci dare i suoi occhiali e il suo vecchio sudicio cappello mi tolsi giacca panciotto colletto e lo pregai di portarseli a casa poi mi feci dare da lui il suo disgustoso mozzicone di pipa di terracotta per completare il mio travestimento egli mi indicò ancora quelle che dovevano essere le mie modeste funzioni e senza perdere altro tempo si avviò al trotto verso casa benché egli avesse il letto come principale obiettivo sospettai che ci fosse di mezzo anche un vecchio fondo di bottiglia feci voti più ferventi perché giungesse senza inciampo sotto il suo tetto prima che entrassero in scena i miei nemici dopodiché mi diedi da fare per rendere la mia toilet più adatta alla parte che dovevo recitare aprì il collo della camicia una volgare camicia quadri bianchi e azzurri come ne portano i contadini e misi allo scoperto un collo più scuro di quello di uno stagnaio ambulante arrotolai le maniche sino al gomito mettendo così in mostra due avambracci degni di un fabbro bruciati dal sole segnati da vecchie cicatrici mi impolverai abbondantemente le scarpe e i pantaloni rialzando questi ultimi e legandoli con pezzi di spago al di sopra del ginocchio poi mi occupai della mia faccia con un pugno di polvere tracciai una linea di demarcazione di sudiciume intorno al collo all'altezza cui verosimilmente dovevano fermarsi le abluzioni domenicali del signor tumble e spalmai ugualmente di un discreto strato di polvere il mio volto abbronzato siccome gli occhi di uno spaccapietre non possono non essere infiammati ebbi cura di introdurre della polvere nei miei e diedi loro un aspetto cisposo stropicciandoli vigorosamente i panini imbottiti di cui mi aveva provisto sir harry erano rimasti nelle tasche della mia giacca ma la colazione dello spaccapietre avvolta in un fazzoletto rosso era lì a mia disposizione mangiai con grande appetito parecchie grosse fette di pane bigio e di formaggio e bevvi un po di tè freddo il fazzoletto conteneva anche avvolto da una fascetta con l'indirizzo di turnbull un giornale locale evidentemente destinato a rendere più dolci i momenti della siesta rifeci l'involto e sopra bene in vista misi il giornale le mie scarpe non mi soddisfacevano ma con qualche calcio ai sassi della strada riuscì a procurar loro quelle screpolature che caratterizzano le calzature di uno spaccapietre poi con i denti mi ruppi le unghie affinché apparissero rovinati dal mestiere nessun particolare poteva sfuggire a persone come quelle con cui ero costretto a lottare spezzai uno dei lacci delle mie scarpe e riunì i due capi con un nodo grossolano poi slacciai l'altra scarpa in modo che le mie grosse calze fossero visibili la strada era sempre deserta l'automobile che avevo scorto mezz'ora prima doveva essere tornata indietro terminata la mia toletta impugnai le stanghe della carretta e cominciai a fare la spola sino alla cava situata un centinaio di metri più in giù un vecchio vagabondo che in altri tempi avevo conosciuto in rodesi e che durante la sua vita aveva fatto un po' di tutto mi aveva detto più di una volta che il vero mezzo per recitare bene una parte è quello di credere di essere divenuto realmente il personaggio che si deve rappresentare fedele a questo principio mi liberai di ogni pensiero per assorbirmi in quelli che riguardano la conversazione delle strade nella piccola capanna di là dal torrente vidi la mia casa evocai gli anni durante i quali ero stato coltivatore sulle rive del layton water costrenzi il mio spirito a desiderare amorosamente il lungo sonno in un letto ad armadio e una bottiglia di whisky a poco prezzo la lunga via bianca era sempre deserta di tanto in tanto un montone si allontanava dalla prateria per venire a contemplarmi un aerone poco lontano da me discese su una pozza del torrente si mise a pescare senza occuparsi della mia persona neanche fosse stato un paracarro seguitava a trasportare le mie carrettate di ciottoli con la pesante irregolarità dell'uomo abituato a non fare altro ben presto cominciai a sudare e la polvere sul mio volto si mutò in uno strato solido e tenace contavo già le ore che dovevano passare prima che la notte venisse a porre fine alla monotona necessità del signor tunball ed ecco che improvvisamente una voce sferzante mi interpellò dalla strada alzai gli occhi e vidi una piccola vettura a due posti e un giovanotto con la faccia rotonda e un cappello duro siete voi alexander turnball mi chiese io sono il nuovo ispettore dei punti e delle strade della contea voi abitate a black room foot e avete in consegna la sezione compresa tra laid low e riggs bene un bel tratto di strada turnball è tenuto discretamente forse un po molle a un chilometro da qui i bordi hanno bisogno di essere ripuliti occupatevene arrivederci e la prossima volta che ci incontreremo sarà la seconda la mia simulazione era evidentemente abbastanza buona per il temuto ispettore mi misi a lavorare e verso la fine della mattinata ebi un po di distrazione per il frequente passaggio di persone sulla strada una carretta da fornaio affrontò la montagna e mi vendette un sacchetto di pampepato che per ogni evenienza mi ficca in tasca poi passò un greggio seguito dal pastore e quest'ultimo mi preoccupò alquanto chiedendomi e di quattro occhi che diavolo ne è stato e a letto con la colica risposi il greggio si allontanò verso mezzogiorno una grossa automobile discese dalla montagna mi passò dinanzi e si fermò cento metri più in là le tre persone che c'erano a bordo discesero come se volessero sgranchirsi le gambe e vennero passo passo verso di me riconobbi due di quegli uomini per averli veduti dalla finestra dell'albergo del bellway uno era bruno alto e sottile l'altro grassoccio e sorridente quest'ultimo portava un paio di pantaloni da ciclista i suoi occhi sprofondati nelle orbide splendevano attenti come quelli di una gallina buongiorno disse l'uomo grasso non è un mestiere comodo il vostro non avevo levato gli occhi mentre si avvicinavano ma a queste parole alzai lentamente e penosamente il dorso come fanno gli spaccapietre sputai vigorosamente come gli scozzesi di bassa estrazione guardai un momento i tre individui prima di rispondere affrontai così tre paia di occhi cui nulla doveva sfuggire ci sono mestieri buoni e mestieri cattivi dissi perentoriamente certo io preferirei fare come voi restare seduto comodamente tutto il santo giorno sopra i cuscini morbidi di un'automobile siete voi che rovinate le strade con le vostre dannate macchine se le cose del mondo andassero come dovrebbero andare vi obbligherebbero a riaggiustare quel che rovinate l'uomo dagli occhi scintillanti gettò uno sguardo sul giornale presso l'involto di turnbull vedo che ricevete i giornali assai presto disse diedi al giornale un'occhiata negligente poi dissi vi pare presto dato che quel numero è uscito sabato passato l'ho avuto con sei giorni di ritardo lui lo raccolse esaminò l'indirizzo e lo rimise a posto uno dei suoi compagni guardava le mie scarpe e con una parola in tedesco richiamò su di esse l'attenzione del mio interlocutore avete buon gusto per quanto riguarda le vostre calzature disse si vede bene che quelle che portate non sono state fabbricate da un ciabattino di paese avete indovinato risposi prontamente sono state fabbricate a londra me le regalate un signore che l'anno scorso venne qui per la caccia come diavolo si chiamava e mi grattai la testa con aria preoccupata il magro parlò di nuovo in tedesco andiamocene disse quest'uomo è sincero tuttavia mi fecero un'ultima domanda avete visto passare qualcuno stamattina presto un uomo a piedi forse in bicicletta per poco non caddi nel tranello e non fabbricai per loro uso e consumo la storia di un ciclista passato a tutta velocità all'alba ma ebbe abbastanza intelligenza da vedere il pericolo feci finta di riflettere profondamente vedete dissi poi è che non mi sono alzato troppo presto mia figlia si è sposata ieri e quindi sono andato a letto tardi sono uscito di casa verso le sette in quel momento sulla strada non c'era anima viva da quando sono qui ho visto passare un fornaio il pastore di rochiel oltre a voi signori uno dei tre mi offrì un sigaro che annusai rispettosamente e ficcai nell'involto di turnbull poi risalirono tutti in vettura e io in capo a tre minuti li persi di vista il mio cuore palpitò sollevato tuttavia continuai a trasportare pietre e non ebbi torto poiché dopo dieci minuti l'automobile ripassò e uno dei suoi occupanti mi fece un segno di saluto con la mano quelle brave persone non lasciavano nulla al caso terminai di mangiare il pane e il formaggio di turnbull e non tardai a completare il mucchio di pietre l'avvenire mi preoccupava non potevo certamente fare sempre lo spaccapietre una provvidenza misericordiosa aveva trattenuto sino a quel momento turnbull in casa ma se avesse pensato di ritornare in scena probabilmente sarebbe accaduto qualche grosso guaio supponevo che il cordone d'assedio si stesse stringendo attorno alla valle che qualunque direzione avessi deciso di prendere avrei finito con l'imbattermi in qualche persona troppo curiosa ad ogni modo bisognava uscirne non credo che vi sia qualcuno con i nervi tanto forti da sopportare per più di un giorno di essere così crudelmente spiato rimasi al mio posto sin verso le 5 del pomeriggio avevo deciso di raggiungere al calar della notte la capanna di turnbull e di tentare di passare le montagne col favore dell'oscurità ma improvvisamente una nuova automobile apparve sulla strada e rallentò qualche metro da me il vento del tramonto si levava il conducente voleva accendere una sigaretta era una vettura da turismo ingombra di un vero assortimento di bagagli la occupava un solo uomo e per uno strano caso era un uomo che conoscevo si chiamava manaduke jopley e si poteva affermare che fosse l'obbrobrio della creazione si trattava di una specie di sinistro agente di cambio la specialità del quale consisteva nel coltivare i figli minorenni i giovani e ricchi pari e le vecchie dame senza giudizio manny a quanto si diceva era un individuo ben conosciuto nella buona società che balla gioca a polo e passa lunghi mesi in campagna ma questo abile ricattatore avrebbe fatto un chilometro trascinandosi sul ventre per fare un piacere a qualcuno che possedeva un titolo o un milione all'epoca in cui ero giunto a londra avevo dovuto trattare con lui per certi affari egli mi aveva gentilmente invitato a pranzo al suo circolo alla frutta aveva attaccato il capitolo delle confidenze e mi aveva riempito le orecchie delle sue duchesse così a lungo che il suo snobbismo aveva finito col disgustarmi più tardi chiesi a qualcuno che lo conosceva come mai non ci fosse nessuno che lo prendesse a pedate mi fu risposto che gli inglesi rispettavano il sesso debole ebbene quell'uomo io lo avevo ora dinanzi a me tutto azimato in una bella automobile nuova e sulla strada evidentemente per recarsi a fare qualche visita a uno dei suoi amici aristocratici un lampo di pazzia mi colse e in un batter d'occhio saltai sull'automobile afferrai il brav'uomo per le spalle ed esclamai salute joe play che bell'incontro vecchio mio egli fu preso da una terribile paura e mi guardò con la bocca spalancata chi diavolo siete balbettò mi chiamo enney risposi non ricordate quello che è tornato dalla rodesia madonna mia l'assassino mormorò con voce strozzata proprio lui e sono disposto a commettere un secondo assassino amico mio se tu non fai quello che voglio togliti il pastrano e dalla me adesso il berretto annientato dal terrore l'uomo obbedì e infilai il suo elegante pastrano sui miei pantaloni sudici e sulla mia camicia grossolana e lo abbottonai bene per nascondere il collo mi calai in testa il berretto e completai il mio abbigliamento con i guanti ed ecco il polveroso spaccapietre in un batter d'occhio trasformato in uno dei turisti più eleganti della scozia sulla testa del signor joe play calcai l'indescrivibile copricapo di turnbull e gli proibì in modo assoluto di toccarlo poi senza fatica voltai la vettura avevo il progetto di rifare la strada che il signor joe play aveva già fatto speravo che i miei sorveglianti lasciassero passare senza l'obiezione l'automobile che avevano già visto la testa di manny offriva qualche analogia con la mia e ora mio caro tu te ne starai qui sulla macchina con me buono buono non ho alcuna intenzione di farti male mi limito a prendere in prestito da te questa caffettiera per un oro due ma se tenti di farmi qualche brutto scherzo e soprattutto se apri la bocca ti do la mia parola che ti torco il collo hai capito questa passeggiata vespertina mi piacque molto per circa 8 chilometri discendemmo la vallata attraversammo un villaggio o due e io non potei fare a meno di notare parecchi individui dall'area poco rassicurante che ozziavano nelle vie certo erano quelli sorveglianti che si sarebbero interessati assai più alla mia persona se mi avessero visto in un altro abbigliamento in altra compagnia essi infatti mi guardarono senza notarmi uno di essi toccò la visiera del berretto in segno di saluto e gli risposi educatamente al calar della notte entrai in una vallata trasversale che secondo i miei ricordi doveva condurre verso una zona deserta della montagna ben presto i villaggi si fecero più rari poi scomparvero le fattorie e infine anche le capanne eravamo ormai in una landa solitaria sulla quale la notte spegneva poco a poco il tramonto che faceva luccicare le pozzanghere fangose qui ci fermammo fece girare la macchina e restituì i suoi indumenti al signor giuplay mille grazie gli dissi voi siete stato più utile di quel che credessi e ora correte ad avvertire la polizia mi sedetti sull'erba e mentre guardavo rimpicciolirsi l'automobile che si allontanava riflettei sui generi di delitti che ero venuto collezionando contrariamente all'opinione generale non era un assassino ma ero divenuto uno spreggevole bugiardo uno sfrontato impostore è un ladro da strada specializzato in automobili di lusso capitolo 6 l'avventura dell'archeologo calvo trascorsi la notte ricoverato sotto una roccia su una terrazza del versante della montagna dove l'erba cresceva molle e folta ricovero piuttosto freddo poiché non avevo né giacca né panciotto questi due indumenti si trovavano sotto la guardia del signor turnbull così come il piccolo tacquino di scadder il mio orologio e disgraziatamente la mia pipa e la mia borsa da tabacco solo il denaro chiuso nella mia cintura era rimasto addosso a me e insieme a questo un pezzo di pan pepato nella tasca dei miei pantaloni ne mangiai una buona metà poi affondando nell'erba alta cercai di riscaldarmi un po avevo ripreso coraggio e cominciava a divertirmi in questa folle corsa al rimpiattino fino a quel momento una fortuna prodigiosa mi aveva favorito il lattaio l'albergatore letterato sir harry lo spaccapietra e quell'idiota di manny tutto ciò era l'opera di una protezione immeritata e questi primi successi mi davano in qualche modo l'impressione che tutto sarebbe andato a finir bene il mio tormento più grande era la fame mi torturavo poiché il pan pepato non aveva fatto che stuzzicarmi l'appetito con le reminiscenze di tutti i buoni bocconi che avevo disprezzato a londra nei giorni di inappetenza per esempio le salsicce fritte di paddock e i suoi intingoli al lardo e le sue squisite uova in bianco quante volte avevo rifiutato sdegnosamente tutto ciò e le costolette che erano la specialità del mio circolo il meraviglioso prosciutto che figurava sempre sulla lista dei piatti freddi o come in quell'istante la mia anima si raccoglieva nel loro ricordo il mio desiderio ondeggiava tra le innumerevoli varietà di commestibili esistenti e fini col fissarvi definitivamente sopra una bistecca d'osteria un bicchiere di birra scura un arrosto e del formaggio nell'attesa e nella speranza di tutte queste delizie mi addormentai mi svegliai un'ora prima dell'alba intirizzito e gelato mi alzai sui gomiti e gettai un'occhiata nella valle laggiù a meno di 300 metri c'erano alcuni uomini quali procedendo verso il versante di monte in ordine sparso battevano la brughiera manny non aveva tardato a vendicarsi abbandonai la terrazza su cui avevo passato la notte e strisciando e nascondendomi dietro una roccia mi arrampicai sino alla cima dello spartiacque nascosto dietro la cresta del monte corsi per circa mezzo chilometro poi mi mostrai e fui subito scoperto da uno dei battitori questi avvertì i suoi colleghi udi risonare i richiami e vidi la linea della ricerca modificare la sua direzione feci finta di fuggire lungo la cresta ma invece ritornai sui miei passi e in 20 minuti fui di nuovo dietro la linea dello spartiacque e dominai il posto in cui avevo dormito da questa posizione ebbi il piacere di vedere i miei inseguitori lanciati su una falsa traccia arrampicarsi per la montagna e fuggì conoscevo molto poco il paese e non avevo alcuna idea di quel che mi sarebbe convenuto fare mi affidavo al vigore delle mie gambe ma mi rendevo benissimo conto del come quelli che mi inseguivano conoscessero bene la topografia dei luoghi il che insieme con la mia ignoranza mi metteva in condizioni di notevole svantaggio il mio stratagemma mi aveva dato un discreto anticipo forse 20 minuti e mi ero già lasciato alle spalle la larghezza di un burrone quando vidi sorgere le prime teste dei miei inseguitori la polizia doveva avere senza dubbio chiamato in aiuto la gente del paese perché gli uomini che scorsi avevano l'apparenza di pastore o di guardia caccia costoro vedendomi lanciarono un grido io li salutai con un gesto della mano due si precipitarono in fondo al burrone di lì cominciarono a scalare la cresta su cui mi trovavo mentre gli altri rimanevano dall'altra parte ma il gioco non tardò a diventare più serio e i giovanotti che mi inseguivano erano robusti e quel che più conta operavano sul suolo natale volgendomi vidi che tre soli di essi si dirigevano verso di me in linea retta e immaginai subito che gli altri facessero un giro per tagliarmi la strada la mia ignoranza dei luoghi poteva essere la mia rovina per cui decisi di abbandonare questo labirinto di burroni e di vallate per la vicina landa che avevo scorto dalla cima del monte feci un grande sforzo e abbandonai la cresta per sprofondare nella landa prima che una testa umana spuntasse dalla cima dietro di me scavalcai un torrente e giunsi su una grande strada che metteva in comunicazione due vallate dinanzi a me si stendeva un largo spazio di brughiera in pendenza la cima del quale era coronata da un misero pennacchio di alberi nella scarpata fiancheggiante la strada si apriva un varco attraverso il quale un sentierino invaso dall'elbacce conduceva verso la prima ondulazione della landa scavalcai la scarpata e seguì il sentiero questo in capo a cento metri diveniva una stradina rispettabile conservata con molta cura nessun dubbio che esso s'avviasse verso una casa e io ebbi voglia di non fare come lui presi la rincorsa scavalcai un'alta scarpata e mi trovai sotto i piedi di un tratto un'aiuola abbandonata uno sguardo indietro mi convinse che ormai i miei inseguitori non potevano più vedermi la muta non aveva ancora oltrepassato la prima ondulazione della landa una casa mi stava di fronte una di quelle fattorie comuni che si trovavano in quei luoghi ma a essere stato appiccicato un annesso più pretenzioso imbiancato con calce questa ala era prolungata da una veranda a vetri e dietro di essa scorsi un signore di età avanzata che mi guardava tranquillo allora mi decisi ed entrai nella veranda attraverso la porta aperta all'interno c'era una graziosa camera con una vetrata da una parte e chiusa dall'altra da una parete di libri altri libri si intravedevano nella camera vicina sul pavimento a guisa di mobili vi erano alcune vetrine come quelle che si vedono nei musei piene di monete e bizzarri utensili di pietre nel centro della stanza c'era una vasta scrivania all'americana e seduta a quella scrivania stava il paterno vecchio signore che avevo scorto dal giardino il quale aveva dinnanzi molti libri e molte cartacce il suo volto era tondo e lucido un paio di grossi occhiali stavano in equilibrio sulla punta del naso e la cima del suo cranio era liscia e nuda come il fondo di una bottiglia al mio entrare egli non fece neppure un movimento ma alzò le sue placide sopracciglia e attese che parlassi non era molto facile avendo solo cinque minuti disponibili spiegare a uno sconosciuto chi io fossi che cosa desiderassi e ottenere il suo aiuto perciò non ci provai nemmeno l'occhio di quell'uomo mi parve tanto vive per spicace che fui incapace di trovare una sola parola rimasi lì immobile a contemplarlo balbettando avete l'aria da avere molta fretta giovanotto disse il vecchio con calma con un segno del capo indicai la finestra essa permetteva di vedere la landa attraverso un'apertura del boschetto ed era possibile scorgere a un chilometro di distanza numerosi individui che avanzavano ah capisco disse il vecchio e impadronintosi di un binocolo esaminò tranquillamente la brughiera si scappa dinanzi alla giustizia ebbene vuol dire che esamineremo il caso con comodo in attesa di ciò io mi oppongo a vedere il mio domicilio invaso da questi rustici poliziotti di campagna entrate nel mio gabinetto vedete due porte in faccia voi aprite quella di sinistra e chiudetevi dentro sarete assolutamente tranquillo e quest'uomo straordinario si rimise a scrivere seguì le sue istruzioni e mi trovai in una piccola camera nera che puzzava di ingredienti chimici e illuminata unicamente da una stretta finestra posta molto in alto la porta si era chiusa dietro di me con uno scatto metallico come la porta di una cassaforte una volta di più incontravo un asilo inaspettato tuttavia non mi sentivo tranquillo c'era in quel vecchio signore qualche cosa che mi turbava e quasi mi metteva paura era stato troppo amabile ospitale si sarebbe potuto credere che mi aspettasse e il suo sguardo mi era sembrato terribilmente penetrante in quella camera oscura non mi giungeva alcun rumore nulla di strano che i poliziotti stessero frugrando la casa se le cose stavano così essi avrebbero voluto certamente sapere che cosa vi fosse dietro la porta del mio rifugio cercai di armarmi di pazienza e di dimenticare la fame che mi tormentava poi considerai la cosa da un punto di vista più piacevole il vecchio signore non poteva negarmi un po di cibo per cui mi misi a immaginare il mio prossimo pranzo un piatto di uova al lardo avrebbe potuto bastarmi ma sarebbero stati necessari una gran fetta di lardo e una mezza dozzina di uova ed ecco che mentre questa prospettiva mi faceva venire l'acquolina in bocca si udì uno scatto e la porta si spalancò mi ritrovai in piena luce e vidi nella stanza che egli chiamava il suo gabinetto l'uomo che mi fissava con aria singolare se ne sono andati domandai se ne sono andati li ho persuasi che voi avevate passato la montagna ma mi piace che la polizia si interponga tra me e una persona della quale ho un gran desiderio di fare la conoscenza ecco un mattino fortunato per voi signor richard enney mentre parlava le sue palpebre tremavano e sembravano avanzarsi un po sopra gli occhi penetranti mi ricordai in un lampo la espressione di cui si era servito scadder quando mi aveva descritto l'uomo che egli temeva più di qualunque altro al mondo quell'uomo secondo la sua descrizione poteva incappucciare i suoi occhi a modo uno spardiero e capì allora che mi ero gettato a capofitto nel quartiere generale del nemico il mio primo pensiero fu quello di strangolare il vecchio miserabile di rimettermi di nuovo in fuga ma parve che egli indovinasse questo mio pensiero poiché sorrise gentilmente con un segno del capo mi indicò la porta dietro di me mi volsi e vidi due servitori che tenevano puntate su di me le loro rivoltelle il vecchio sapeva il mio nome ma di vista non mi conosceva questo pensiero mi diede una debole speranza non so che cosa vogliate dire risposi rudemente con chi credete di parlare e perché mi chiamate richard enney io mi chiamo ainsley guarda guarda disse sempre sorridendo si capisce avete parecchi nomi non litigheremo perché pretendete di averne uno di più io mi ero ripreso e giudicavo che il mio vestiario non avevo né giacca né panciotto né colletto perlomeno non dovesse denunciare chi ero assunsi dunque l'aria più rustica del mondo e alzai le spalle ho capito che volete consegnarmi alla polizia tanto per finirla vi confesso che questo è un ignobile scherzo ah vi giuro che non avrei mai voluto vedere quella maledetta automobile ecco questo è il denaro è che il diavolo se lo porti e voi con lui e così dicendo gettai sul tavolo quattro sovrane il vecchio aprì un po gli occhi no non temete non ho alcuna intenzione di consegnarvi alla giustizia i miei amici e io abbiamo un piccolo conto da regolare con voi ecco tutto voi sapete troppe cose signor richard enney la vostra abilità come attore è grande ma dovete ancora perfezionarvi egli parlava con sicurezza ma io vedevo il dubbio far capolino nei suoi occhi o per l'amor di dio basta con le chiacchiere esclamai tutto si mette contro di me da quando sono sbarcato a late non ho avuto che disgrazie che male c'è se un povero diavolo che ha il ventre vuoto raccoglie un po di denaro che trova in un'automobile fracassata ecco tutti quei poliziotti che mi inseguono su queste sudice montagne vi giuro che ne ho abbastanza potete fare di me quel che volete vecchio mio ned ensley non ha più voglia di lottare mi resi conto che il dubbio cresceva volete per cortesia farmi il reso conto delle vostre ultime gesta mi chiese il vecchio non mi è possibile padron mio piagnucolae col tono di chi chiede la mlemosina sono due giorni che non mangio datemi prima qualche cosa da mettere sotto i denti e poi saprete la verità la fame doveva leggersi sul mio volto perché il vecchio fece segno a uno dei due uomini che stavano sulla porta mi furono messe dinanzi un pezzo di pasticcio freddo e un bicchiere di birra e io li inghiotti con un'avidità bestiale o meglio con l'avidità di ned ensley poiché recitavo la mia parte stavo mangiando quando il vecchio mi rivolse d'improvviso la parola in tedesco ma io alzai verso di lui un volto inespressivo come un muro di pietre poi gli inventai la mia storia come fossi cioè sbarcato una settimana prima a late da un bastimento proveniente da arcangelo e avessi pensato di dirigermi a migtown dove risiedeva mio fratello ero a corto di denaro ne avevo sciupato parecchio al gioco e in luoghi equivoci così lasciai intendere e mi trovavo proprio agli estremi quando avevo veduto un buco in una siepe guardando attraverso questo buco avevo scorto una grande automobile caduta nel torrente ero disceso per vedere di che cosa si trattasse e trovai tre sovrane sul sedile e una sul pavimento della vettura non c'era anima viva né dintorni per cui avevo intascato il denaro ma dio solo sapeva come la polizia mi avesse identificato quando avevo voluto cambiare una sovrana nella bottega di un fornaio la proprietaria si era messa a gridare al ladro e un po più tardi mentre stavo lavandomi il viso in un torrente per poco non mi ero lasciato acciuffare e me l'ero potuta cavare soltanto abbandonando la giacca e il panciotto siete un magnifico impostore signor hennie mi disse il vecchio allora mi arrabbiai alla fin fine mi seccate per giove vi ripeto che mi chiamo hensley e che non ho mai sentito parlare in tutta la mia vita di qualcuno che si chiamasse hennie vi giuro che preferirei avere a che fare con la polizia piuttosto che col vostro hennie e i vostri due pupazzi con la rivoltella ma no scusatemi padron mio vi ringrazio del cibo e vi ringrazierò ancora di più se mi lascerete andare per i fatti miei ora che la via è libera era evidente che il vecchio si trovava imbarazzato bisognava pensare che egli non mi aveva mai visto e che il mio aspetto doveva differire alquanto dalle mie fotografie ammesso che egli ne possedesse una a londra io ero correttissimo ed elegantemente vestito qui non ero che un volgare vagabondo non ho alcuna intenzione di lasciarvi andare se voi siete realmente quel che pretendete di essere avete ben presto un'occasione di dimostrarlo se invece siete quel che credo io dubito che vedrete ancora per molto la luce del giorno sono un campanello e un terzo servitore apparve nella veranda l'automobile fra cinque minuti disse saremo tre a pranzo poi cominciò a fissarmi e questa prova fu senza dubbio la più dura di tutte c'era qualche cosa di spaventevole di diabolico in quegli occhi freddi cattivi inumani pieni della più infernale malizia mi affascinavano come quelli di un serpente per un attimo fui tentato di arrendermi e di offrirgli di passare ai suoi ordini ma se penso ai sentimenti che mi ispirava tutta la faccenda sarà facile comprendere come questa tentazione fosse solo fisica debolezza di un cervello ipnotizzato e dominato da una volontà più forte tuttavia riuscì a mantenermi calmo e a singhiozzare la prossima volta ci intenderemo meglio padron mio carl disse lui in tedesco uno dei suoi uomini metterete questo individuo nel magazzino sino al mio ritorno e risponderete di lui fui accompagnato fuori della stanza con una canna di rivoltella poggiata su ciascuna tempia il magazzino era una stanza umida situata nella parte antica della casa che in altri tempi doveva essere una fattoria non c'era tappeto sul pavimento di pietre sconnesse per sedermi non trovai che un banco da scolaro era buio come in un forno poiché le finestre erano chiuse da imposte massicce a tastoni mi resi conto che lungo le muraglie erano ammucchiate casse barili e sacchi di una materia densa l'ambiente sapeva di muffa e di abbandono i miei carcerieri girarono la chiave nella serratura e li senti passeggiare innanzi indietro montando la guardia mi sedetti in quelle tenebre glaciali terribilmente depresso il vecchio era partito in automobile per cercare i due mascalzoni che mi avevano interrogato il giorno prima ora essi mi avevano visto sotto le apparenze dello spaccapietre per cui non potevano non riconoscermi tanto più che ero vestito nello stesso modo e che cosa poteva fare uno spaccapietre a 20 chilometri dal suo cantiere e inseguito dalla polizia una domanda o due sarebbero state sufficienti a metterli sulla buona strada probabilmente essi avevano visto il signor Turnbull forse anche Manny quasi certamente sarebbero risaliti sino a Sir Henry e l'imbroglio sarebbe diventato chiaro come acqua disorgente quale speranza mi rimaneva in questa casa sperduta nella landa alla mercè dei banditi e dei loro servitori armati pensai col rimpianto ai poliziotti che certo stavano ancora correndo per la regione alla mia ricerca almeno essi erano miei compatrioti e persone oneste in ogni modo sarebbero stati più misericordiosi di questi vampiri stranieri quel vecchio demonio delle palpebre di uccello da preda non aveva avuto bisogno di molto tempo per sbarazzarsi di loro sicuramente era in ottimi rapporti col commissario e aveva raccomandazioni ministeriali che gli permettevano di cospirare contro l'Inghilterra e i tre uomini dovevano essere di ritorno per il pranzo non avevo dunque che un paio di ore d'attesa e ciò equivaleva ad attendere la morte poiché non vedevo un modo di uscire da quell'imbroglio invidiavo la forza d'animo di scadder perché debbo confessare senza indugi che non mi sentivo molto forte la sola cosa che mi sosteneva era il furore ardevo di rabbia pensando al modo con cui questi spioni mi avevano preso al lamo e mi auguravo di poter torcere il collo a uno di loro prima di soccombere più ci pensavo più cresceva la mia rabbia alla fine non mi tendi più e mi alzai per fare il giro della stanza tentai le imposte ma esse erano chiuse ermeticamente per cui non riuscì nemmeno a scuoterle dal di fuori mi giungeva un pigolare di galline che razzolavano nel sole non era possibile aprire le imposte i sacchi parevano pieni di biscotti odorosi di cannella ma nel mio girovagare nella stanza trovai in una cavità del muro una maniglia che mi parve meritasse un po di attenzione era la porta di un ripostiglio chiusa a chiave la scossi e mi sembrò poco resistente e in mancanza di altre occupazioni impiegai il mio vigore contro questa porta e ottenni una presa maggiore sulla maniglia torcigliando intorno a essa le mie bretelle finalmente la porta cedette con uno scricchiolio che avrebbe dovuto almeno così pensai attirare l'attenzione dei miei guardiani dopo una breve attesa mi misi a esplorare i vari ripiani del ripostiglio questo conteneva una quantità di oggetti bizzarri ritrovai nelle tasche dei miei pantaloni un paio di cerini e ne accesi uno esso si spense subito ma la sua luce mi diede il tempo di scorgere in un angolo un mucchio di lampadine elettriche portatili ne presi una funzionava munito di questa lampada continuai le mie investigazioni c'erano bottiglie e casse di una sostanza dall'odore sospetto certamente prodotti chimici destinati a esperimenti c'erano anche rotoli di filo di rame sottile e moltissime pezze di una leggera sete impermeabile una scatola di detonatori e una provvista di miccia poi proprio in fondo uno dei reparti trovai una scatola di grosso cartone entro cui era una cassetta di legno di cui riuscì a strappare il coperchio conteneva mezza dozzina di piccoli blocchi grigiastri che avevano due dita di larghezza in tutti i sensi ne presi uno e constatai che era friabile si polverizzava facilmente tra le dita poi lo annusai e lo assaggiai con la punta della lingua fatto ciò mi sedetti per riflettere non ero stato ingegnere minerario per nulla al primo colpo d'occhio avevo riconosciuto la che dite con uno di quei blocchetti potevo far saltare la casa in mille pezzi avevo trattato esplosivo erodesia e ne conoscevo la forza ma disgraziatamente le mie conoscenze in materia non erano precise poiché non avevo mai manipolato io stesso le mine ad ogni modo era una via di salvezza e la sola possibile il pericolo era grande ma d'altra parte non c'era che la certezza assoluta della mia perdita se mi fossi deciso a usare quel mezzo le probabilità di saltare con la casa erano secondo il mio giudizio 5 contro 1 ma se non mi fosse servito dell'esplosivo secondo tutte le probabilità prima di sera avrei occupato una fossa di 2 metri nel giardino la prospettiva era abbastanza lugubre da ambo le parti ma c'era in fondo una probabilità per me e per il mio paese il ricordo di scadder mi spronò conobbi allora forse il più terribile momento della mia vita perché in fondo queste risoluzioni a sangue freddo non sono il mio forte riusci in ogni modo a trovare l'energia per serrare i denti e respingere gli infimi terrori da cui ero invaso mi vietai semplicemente di pensarci e cercai di convincermi che stavo per tentare un semplice esperimento pirotecnico presi un detonatore e lo fissai a un paio di metri di miccia poi presi il quarto di un blocchetto di che dite adattai adesso il detonatore e lo cacciai sotto uno dei sacchi che erano presso la porta in una fessura del pavimento avevo il sospetto che una buona metà delle casse contenesse dinamite perché non avrebbe dovuto essere così dato che il ripostiglio nascondeva esplosivi tanto potenti se le mie supposizioni erano esatte io i due servi tedeschi e un buon tratto del terreno circostante avremmo fatto un meraviglioso viaggio aereo inoltre dato che avevo dimenticato quasi tutte le proprietà della che dite poteva darsi che l'esplosione facesse deflaglare anche gli altri blocchi del ripostiglio ma pensare a tutte queste possibilità non serviva a nulla i pericoli erano terribili ma dovevo affrontarli mi rannicchiai sul davanzale della finestra e accesi la miccia poi attesi un minuto o due c'era intorno un silenzio di morte turbato solo da uno strascicare di passi nel corridoio e dal tranquillo pigolio dei polli in cortile raccomandai la mia anima al creatore e mi chiesi se tra cinque secondi un'ondata enorme di fuoco parve scaturire dal pavimento e mi avvolse per un istante in un'atmosfera da fornace poi il muro che avevo di fronte si illuminò di un giallo dorato e crollò con un rumore di tuono che mi spezzò il cervello qualche cosa cadde su di me e mi colpì alla spalla destra e credo veramente di essere svenuto la mia sincope durò al massimo qualche secondo mi sentivo come asfissiato da pesanti vapori giallastri liberandomi dai rottami che mi gravavano sopra mi alzai in piedi attraverso uno squarcio dietro di me scorsi l'aria libera il quadrato della finestra era caduto e per quella breccia irregolare i vapori finivano nel sole di mezzogiorno scavalcai il davanzare crollato e mi trovai in un cortile pieno di nebbia densa e acre mi sentivo male sul punto di svenire ma potevo ancora muovermi e mi allontanai dalla casa alla cieca brancolando un piccolo canale proveniente dal mulino scorreva entro argini di legno dall'altra parte del cortile mi lasciai cadere dentro l'acqua fresca che mi rianimò alquanto recuperate le forze pensai a fuggire risali il canale sguazzando nel fango viscoso del fondo e giunsi presso la ruota del mulino qui riuscì a insinuarmi attraverso un pertugio nell'interno di esso ove crollai letteralmente su un mucchio di sacchi vuoti nel cadere i miei pantaloni si impigliarono in un chiodo che si lacerò così che lasciai dietro di me un brandello di stoffa color pepe e sale il mulino era inutilizzato da molto tempo le scale crollavano per la vecchiaia e i topi avevano fatto grandi buchi nel pavimento del granaio sentivo mentre facevo queste osservazioni un grande malessere in possessarsi di me una specie di vertigine tubinarmi nella testa e il braccio e la spalla sinistri colpiti quasi da paralisi guardai dalla finestra e vidi la casa ancora sormontata dal fumo che usciva da una finestra dio mi perdoni avevo appiccato il fuoco alla casa dall'altra parte della quale mi giungevano grida confuse ma non potevo attardarmi perché il mulino era evidentemente un cattivo nascondiglio non appena si fossero accorti che nello sgabbuzzino non c'era il mio cadavere i miei inseguitori avrebbero ripreso la caccia e sicuramente avrebbero cercato nel canale da una seconda finestra vidi che dall'altra parte del mulino si alzava una vecchia colombaia di pietra se mi fosse stato possibile giungere sin là senza lasciare tracce forse vi avrei trovato un rifugio giustamente i miei nemici pensandomi in condizioni di muovermi avrebbero certo immaginato che mi fossi affrettato a prendere il largo le loro ricerche si sarebbero quindi spostate verso la brughiera bene o male discesi per la scala sconnessa e debbi cura di sparpagliare dietro di me della vena trovata in un sacco per nascondere le mie tracce altrettanto feci sul pavimento del mulino sulla soglia contro cui la porta era appoggiata sostenuta appena da due cardini malfermi sporsi prudentemente la testa e vidi che tra il punto in cui mi trovavo e la colombaia si stendeva un tratto di terreno arido e trascurato sul quale i miei passi non avrebbero potuto lasciare impronte di sorta inoltre chi lo attraversava era ottimamente nascosto dal mulino attraversai cautamente questo terreno raggiunsi il lato posteriore della costruzione di pietra e cominciai ad arrampicarmi lungo il muro credo di avere assai raramente intrapreso qualche cosa di più arduo la spalla e il braccio mi facevano un male infernale lo stato di vertigine in cui mi trovavo minacciava ogni istante di farmi cadere tuttavia ci riuscì servendomi delle pietre sporgenti e dei buchi tra mattone e mattone utilizzando anche un solido tronco di edera finico raggiungere la cima un piccolo parapetto la circondava dietro il quale trovai lo spazio sufficiente per coricarmi sul dorso poi continua i miei esercizi con uno svenimento classico ritornai in me con un forte mal di testa il sole mi bruciava il volto per un po di tempo rimasi immobile mi pareva che quelle orribili esalazioni mi avessero indebolito e annebbiato il cervello dalla casa mi giunsero scoppi di voci gutturali e il rumore del motore di un'automobile che si arrestava nel parapetto c'era una piccola breccia mi trascinai sì là e il mio sguardo poté spaziare su una buona metà del cortile due persone apparvero un servitore con la testa fasciata e un notto vestito da ciclista costoro parevano cercare qualche cosa e si diressero verso il mulino a un tratto uno di essi vide il brandello di stoffa appeso al chiodo e chiamò il compagno rientrarono entrambi in casa e ne uscirono di nuovo con due altri individui per esaminare quel cencio riconobbi la faccia rotonda dell'uomo che mi aveva catturato al mattino e credetti di riconoscere anche l'uomo che strascicava la esse erano tutti armati di rivoltella per circa mezz'ora misero il mulino sottosopra senti che tiravano calci alle botti e sollevavano le assi del pavimento dopodiché uscirono e si radunarono proprio ai piedi della colombaia a discutere vivacemente il servitore ferito fu aspramente rimproverato qualcuno tentò di aprire la porta del mio nascondiglio e per un momento pensai con terrore che potessero salire ma ci ripensarono e rientrarono in casa per tutto quel lungo pomeriggio ardente di sole rimasi ad arrostire sulla mia piattaforma soffrivo la sete la mia lingua era arida come un pezzo di legno e a peggiorare la mia situazione il ruscello del mulino mormorava ai piedi della colombaia seguivo con gli occhi il piccolo corso d'acqua che serpeggiava attraverso la landa e risalivo idealmente lungo il suo cammino sino all'alta valle dove certamente scaturiva la sua gelida sorgente bordata di felci e di muschio avrei dato mille sterline per potervi immergere la faccia dall'alto della colombaia scorgevo la maggior parte della landa vidi l'automobile allontanarsi rapidamente con due passeggeri e un uomo a cavallo galoppare verso est pensai che mi cercassero e augurai loro di divertirsi ma vidi poi qualche cosa di più interessante la casa si trovava sulla cima di una gobba coronata da una specie di spianata e il solo punto più elevato nei dintorni era la grande montagna che distava presso a poco sei chilometri la cima di questa gobba come ho già detto era coperta da un vasto gruppo di alberi per la maggior parte abeti con qualche frassino qualche faggio io ero quasi all'altezza delle vette degli alberi sì che potevo vedere quel che c'era dietro il boschetto non era folto ma formava un semplice anello in mezzo al quale si stendeva uno spazio ovale erboso che avrebbe potuto essere un buon terreno da cricket non mi ci volle molto per indovinare che cosa servisse era un aerodromo un aerodromo segreto il luogo era stato scelto magnificamente e infatti chiunque avesse visto un aeroplano di scendere dietro gli alberi avrebbe supposto che il volo continuasse di là della lieve elevazione e siccome il luogo si trovava in cima a un pendio e in mezzo a un vasto anfiteatro qualunque fosse stato l'osservatore in qualsiasi posizione si fosse trovato egli avrebbe dovuto concludere che l'apparecchio aveva proseguito il suo viaggio soltanto chi fosse stato vicino avrebbe potuto rendersi conto che l'aeroplano senza oltrepassare la collina era sceso tra gli alberi anche un osservatore munito di cannocchiale posto sulla grande montagna avrebbe forse scoperto la verità ma lassù non si recavano che i pastori che certo non portavano nella loro bisaccia né cannocchiali né binocoli dall'alto della colombaia distinguevo lontanissima una linea azzurra che sapevo essere il mare e un grande furore mi prese al pensiero che i nostri nemici possedessero questo posto di vedetta per spiare le nostre acque pensai altresì che se l'aeroplano fosse tornato era molto probabile che mi scoprisse rimasi perciò tutto il giorno sdraiato pregando il dio che calasse al più presto l'oscurità e immensa fu la mia gioia quando finalmente vidi il sole sparire dietro i monti dell'ovest e la bruma della sera stendersi sulla landa l'aeroplano era in ritardo il crepuscolo era già molto avanzato quando di il rombo dell'elica poi lo vidi scendere a motore spento verso il suo ricovero tra le piante qualche luce si agitò per poco poi ci fu un grande andirivieni tra il bosco e la casa e infine la notte discese e con essa il silenzio grazie al cielo era una notte cupa la luna nell'ultimo quarto non doveva levarsi che tardi verso le nove almeno a quanto potevo giudicare non resistendo più alla sete discesi la cosa non fu facile inoltre quando fui a metà strada o di aprirsi la porta dietro la casa e vidi la luce di una lanterna sul muro del mulino per alcuni terribili minuti rimasi appeso all'edera e pregai dio che la persona della lanterna non venisse verso di me finalmente la luce scomparve e io mi lasciai cadere più silenziosamente possibile nel cortile di lì strisciai dissimulandomi dietro la diga di pietre sin verso il sipario di alberi che circondava la casa se ne fossi stato capace avrei messo in azione il motore dell'aeroplano ma mi resi conto che qualunque tentativo del genere sarebbe stato vano siccome non dubitavo minimamente che la casa fosse sorvegliata mi addentrai nel bosco strisciando sulle mani e sui piedi e tastando ogni centimetro di terreno dinanzi a me e agì saggiamente perché ben presto giunsi a un fil di ferro teso a 20 centimetri dal suolo certo se avessi urtato quel filo esso avrebbe fatto squillare qualche suoneria 100 metri più in là trovai un altro filo ingegnosamente disposto sul bordo di un ruscello più in là era la landa cinque minuti dopo ero sprofondato tra le felci della brughiera e giravo intorno alla collina nascosto nel piccolo avvallamento entro cui scorreva il ruscello del mulino non erano passati dieci minuti che immergevo il volto nella sua corrente gelata e assorbivo litri e litri d'acqua squisite ma non mi fermai che dopo aver messo una dozzina di chilometri tra me e quella casa maledetta capitolo 7 l'avventura del pescatore sedetti sulla cima di una collina e considerai la mia situazione ero soddisfatto ma non troppo poiché la gioia della mia evasione era offuscata da un violento malessere fisico e il gas della che dite mi aveva mezzo avvelenato e le ore di insolazione sulla colombaia non avevano certo migliorato le mie condizioni anche la mia spalla era assai malconcia in principio avevo pensato che si trattasse solo di un'ecchimusi ma la zona cominciava a gonfiarsi e non mi era più possibile servirmi nel braccio sinistro mi ero messo in testa di ritrovare la capanna del signor turnbull per prendere i miei indumenti e soprattutto il taccuino di scadder dopodiché avrei raggiunto la strada maestra e mi sarei diretto a sud pensavo che prima mi fossi messo in relazione col funzionario del foreign office sir walter ballivant meglio sarebbe stato non mi pareva possibile ottenere un numero di prove maggiore di quelle che avevo già sir walter avrebbe accettato e respinto la mia storia ma in ogni modo con lui sarei stato più al sicuro che con quei dannati tedeschi sentivo crescere in me una grande benevolenza per la polizia inglese era una magnifica notte illuminata dalle stelle per cui non faticai molto a trovare la via buona la carta di sir harry mi aveva dato un'idea generale della regione non dovevo fare altro che dirigermi verso ovest sud ovest per arrivare al fiume presso cui avevo incontrato lo spaccapietre e in tutte queste peregrinazioni ignoravo i nomi delle località ma credo che questo fiume fosse niente meno che il corso superiore del tweed fiume che costituisce la frontiera tra scozia e inghilterra secondo i miei calcoli dovevo essere a circa 18 chilometri dal fiume il che mi impediva di giungervi nella mattinata era dunque necessario trascorrere la giornata in qualche posto poiché non era possibile che nelle mie condizioni attuali mi facessi vedere in pieno giorno non avevo né giacca né panciotto i pantaloni cadevano a brandelli il viso e le mani erano aneriti dall'esplosione supponevo inoltre di avere altri simili elementi di bellezza poiché mi sentivo gli occhi terribilmente innittati di sangue e insomma la mia persona non costituiva uno spettacolo da potersi offrire lo sguardo di pacifici cittadini timorati di dio poco prima del sorgere del sole cerca di lavarmi nell'acqua di un torrente poi mi diressi verso una capanna di contadini avevo bisogno di nutrirmi a qualunque costo il padrone di casa era uscito c'era solo sua moglie e nessun vicino nei paraggi ecco una vecchietta bruna evidentemente coraggiosa perché malgrado il terrore che doveva ispirarle la mia vista trovò la forza di armarsi di una cette capì che non avrebbe esitato a servirsene contro di me sono caduto le dissi senza troppe spiegazioni e la vide dal mio aspetto che ero stremato senza farmi domande di sorta quell'onesta samaritana mi diede una scodella di latte insieme con un bicchiere di whisky e mi offrì di riposare un poco dinanzi al camino della cucina poi volle medicarmi la spalla ma questa mi doleva un punto tale che non le permisi di toccarla non saprei dire per chi la mia ospite mi prendesse forse per un ladro pentito poiché quando per pagare il latte non avendo più moneta le offrì una sovrana scosse la testa mormorando che avrei fatto meglio a dare quel denaro a chi meritava di averlo allora protestai così energicamente che ella fu costretta a convincersi che era un uomo onesto accettò il denaro e in cambio mi diede oltre a un vecchio cappello di suo marito una coperta calda e nuova mi insegnò il modo di drappeggiare la coperta attorno alle spalle cosicché quando uscì dalla capanna tutti mi avrebbero potuto credere uno scozzese autentico ed ero infatti lo scozzese tipo che figura nell'illustrazione dei poemi di burns comunque ero vestito e questo era già molto fu un bene infatti verso mezzogiorno il tempo cambiò la pioggia cominciò a cadere a rovesci cercai un rifugio nell'anfratto di un burrone sotto una roccia dove le foglie secche accumulate dal vento formavano un giaciglio passabile mi abbandonai al sonno e non mi risvegliai che al calare della notte terribilmente dolorante tormentato dalla mia spalla come da un mal di denti mangiai il pane di segale il formaggio che la vecchia mi aveva dato e mi rimisi in marcia prima che scendesse l'oscurità non dirò niente delle sofferenze di questa notte passata tra le montagne e mancanza di stelle che potessero guidarmi dovetti cercare di cavarmela alla meno peggio aiutandomi con i ricordi della carta di harry per due volte sbagliai la strada e feci un paio di pessime cadute dentro buche di torba non avevo da fare più di 10 chilometri in linea retta ma a causa dei miei sbagli finico il farne più di 20 verso la fine della marcia camminavo con i denti stretti e con la testa vuota e rombante tuttavia arrivai all'alba picchiavo alla porta del signor turnbull la nebbia era densa e opaca così che dalla capanna non si poteva scorgere la via maestra mi aprì turnbull in persona era completamente sobrio chissà perché me lo immaginavo sempre ubriaco era anzi elegante e azimato come un damerino vestito di nero e con la barba rasata si era messo il colletto e aveva in mano la bibbia lì per lì non mi riconobbe chi siete voi per venire a vagabondare qui la domenica mattina mi chiese avevo interamente perduto il conto dei giorni domenica era questa dunque la spiegazione di quell'abbigliamento elegante la testa mi girava così violentemente che mi fu impossibile formulare una risposta coerente ma lui mi riconobbe e si rese conto che ero malato mi avete riportato gli occhiali mi domandò li levai dalla tasca dei pantaloni gli elitesi venite senza dubbio per ritirare il vostro panciotto e la vostra giacca entrate perbacco amico mio avete l'aria di stare in equilibrio per miracolo aspettate che vi dia una sedia capì che ero in preda a un accesso di malaria mi rimaneva ancora un po di malaria nel sangue l'umidità della notte l'aveva ridestata in più il male della spalla e gli effetti del gas si allearono per abbattermi del tutto senza darmi il tempo di protestare il signor turnbull mi aiutò a svestirmi e mi cacciò a letto accanto ai due armadi che adornavano le pareti della cucina bisogna proprio dire che quel bravo spaccapietre non abbandonava gli amici nel momento del bisogno sua moglie era morta parecchi anni prima e dal giorno del matrimonio di sua figlia egli viveva da solo per circa dieci giorni ebbe per me tutte le cure rudimentali che il mio stato esigeva in verità non avevo bisogno che di riposo ed essere lasciato in pace sino a che la febbre non fosse passata quando il mio corpo riprese la temperatura normale mi accorse che l'attacco di malaria aveva concorso a far guarire la mia spalla ma era stato molto male per cui alzandomi dal letto di lì a cinque giorni ero debolissimo e mi ci volle ancora parecchio tempo per mettermi completamente in piedi turnbull se ne andava ogni mattina mi lasciava il latte per la giornata e chiudeva la porta a chiave dietro di sé la sera tornava tranquillamente a sedersi all'angolo del camino non un'anima si avvicinò mai alla casa quando fui guarito il mio ospite non mi fece domande importune varie volte mi procurò lo scotsman arretrato di due giorni e potei notare che l'interesse sollevato dell'assassino di portland place si era decisamente calmato nessuno ne parlava più un giorno turnbull levò da un cassetto chiuso la mia cintura c'è un bel po di denaro qua dentro mi disse fareste bene a contarlo per vedere se manca nulla non gli venne mai in mente di informarsi sul mio nome gli chiesi se qualcuno fosse venuto a chiedere di me dopo il giorno in cui avevo lavorato sulla strada sicuro rispose un uomo in automobile voleva sapere che avesse preso il mio posto quel giorno e gli risposi che non sapevo di che giorno parlasse ma siccome non accennava ad andarsene finico il dirgli che certamente egli si riferiva al mio cognato di clench che qualche volta viene a darmi una mano aria sentimentale molto popolare scozia aveva l'aria di un uomo del sud e non riusciva a capire neppure metà del suo inglese negli ultimi giorni la mia impazienza aumentò e non appena mi sentì un po in forze decisi di partire era il 12 giugno e come se la fortuna volesse favorirmi un venditore di buoi passò quella mattina diretto a moffat con le sue bestie si chiamava high slope ed era amico di turnbull entro a far colazione con noi mi propose di fare la strada insieme forzai turnbull ad accettare cinque sterrile per il mio mantenimento di quei giorni ma dovetti insistere a lungo credo di non aver mai trovato sulla mia strada un essere più indipendente e generoso quando gli feci violenza perché accettasse il denaro divenne persino villano e alla fine lo intascò senza dire neppure niente quando poi gli parlai di quel che gli dovevo borbottò confusamente che una mano lava l'altra chi avesse veduto come ci separavamo avrebbe giurato che fossimo in collera high slope era un gaio compagno chiacchierò durante tutta la salita sino alla valle d'annan gli parlai dei mercati del galway e del prezzo dei montoni così bene che egli si persuase che io fossi un pastore di quei paesi la mia coperta il mio vecchio cappello mi davano l'aria come ho già detto di un autentico scozzese da teatro ma è un lavoro lungo quello di condurre quel bestiame e ci volle tutta una giornata per fare una dozzina di chilometri se il mio spirito fosse stato meno inquieto avrei goduto di quelle ore di pace ma l'avvicinarsi del fatidico 15 giugno mi spaventava con tutte le difficoltà della mia disperata impresa dopo aver fatto colazione in un'osteria di moffat fece a piedi gli ultimi due chilometri sino alla bifurcazione della strada ferrata il direttissimo della notte diretto a sud non doveva passare che verso mezzanotte per cui salì sul versante della collina per passare un po di tempo e là stanco per la lunga marcia mi addormentai ma dormì un po troppo al mio risveglio dovetti correre alla stazione riuscì ad afferrare il treno solo due minuti prima della partenza scesi a crevi che era notte fonda e dovetti attendere sino alle 6 un treno per birmingham nel pomeriggio arriva a reading e mi trasferì in un vagone secondario che strisciava tra i bassi fondi del berkshire mi trovava in una grossa contrada di praterie sommerse di lenti fiumi invasi da canneti verso le 8 di sera sfinito e sudicio per il viaggio con la coperta a scacchi bianchi e neri sul braccio poiché non avrei mai osato drappeggiarmi in essa a sud della frontiera scozzese discesi alla piccola stazione di artiswell sulla banchina c'era molta gente e io preferì uscire per chiedere che mi si indicasse la strada questa attraversava un bosco di grandi faggi poi costeggiava una vallata poco profonda dalla quale si scorgevano le sommità verdi delle dune al di sopra degli alberi lontani un pescatore risaliva dalla sponda del fiume verso la strada era un uomo robusto vestito con un vecchio abito di flanella poco pulito recava una bandoliera un cestino per il pesce mi salutò con un cenno del capo e guardandolo pensai che mai avevo veduto una fisionomia più fine più simpatica egli appoggiò contro il parapetto del ponte la sua sottile e lunghissima canna da pesca e guardò l'acqua insieme a me è limpida vi pare disse gentilmente guardate quel grosso luccio pesa almeno quattro chili ma il buon momento è passato e non c'è più modo di farlo abboccare non lo vedo dissi guardate laggiù a un metro dal canotto proprio sotto quella radice ah ora lo vedo si direbbe che c'è una pietra nera proprio disse e si misi a fischiettare vi chiamate twidson se non sbaglio chiese al di sopra della sua spalla senza smettere di guardare l'acqua no dissi cioè sì avevo assolutamente dimenticato il mio pseudonimo un saggio cospiratore non dovrebbe dimenticare il suo nome osservò rivolgendo un largo sorriso a un gallo di brughiera che emergeva dall'ombra del ponte rimasi lì a guardarlo e la sua mascella ferma e quadrata la sua fronte larga e rugosa mi fecero capire che avevo finalmente trovato un alleato di primo ordine si sarebbe detto che i suoi occhi azzurri e strani vedessero profondamente a un tratto aggrottò le sopracciglia è vergognoso disse alzando la voce vergognoso che un uomo ben piantato come voi osi chiedere l'elemosina ha consento a farvi mangiare ma non avrete un soldo da me un carretto passava guidato da un giovanotto che alzò la frusta per salutare il pescatore il quale quando quegli fu sparito riprese la canna ecco la mia casa disse indicandomi un portone bianco a cento metri di distanza aspettate cinque minuti poi avvicinatevi alla porta di servizio detto questo se ne andò feci come egli mi aveva ordinato in capo a un viottolo chiuso entro una vera giungla di palle di neve e di lilla trovai un grazioso padigliole fronteggiato da un prato che scendeva verso il fiume la porta di servizio era aperta e un maestoso maggiordomo mi aspettava da questa parte signore mi disse e mi condusse attraverso un corridoio sino a una camera elegantissima le cui finestre davano sul fiume lì trovai a mia disposizione un ricco e vario guardaroba un abito da società con tutti gli accessori un vestito di flanella marrone colli cravate rasoie spazzole per i capelli e anche un paio di scarpe di gran marca sir walter ha pensato che gli indumenti del signor reggi vi dovessero andar bene signore disse il maggiordomo egli ha qui un piccolo guardaroba poiché passa regolarmente la domenica da noi la stanza da bagno è lì vicino ho già fatto scaldare l'acqua tra mezz'ora si pranza signore d'altronde sentirete il gong l'imponente uomo se ne andò e io mi lasciai cadere profondamente sorpreso in una poltrona e il passaggio dalla più squallida mendicità a questa vita ordinata e comoda mi dava la sensazione di vivere in una fiaba evidentemente per un motivo che mi sfuggiva sir walter credeva in me mi guardai in uno specchio e vidi un individuo bruciato dal sole il sudo e feroce con una barba di otto giorni con gli occhi pieni di polvere ricoperto da una camicia senza colletto da indumenti in formi di vecchia stoffa e con ai piedi scarpe che non erano state lucidate da almeno un mese chiunque mi avrebbe preso per un povero vagabondo ed ecco che un maggiordomo distinto mi introduceva in questo grazioso tempio del lusso e la cosa strana era che il mio ospite non sapeva neppure il mio nome decisi di non tormentarmi oltre per risolvere questo problema ed accettare con riconoscenza i doni che mi inviavano gli dèi mi feci la barba e con vera delizia mi infilai in una bella camicia frusciante nell'abito da sera che non mi stava troppo male quando ebbe finito lo specchio mi rimandò l'immagine di un giovanotto abbastanza presentabile sir walter mi attendeva nella penombra di una sala da pranzo nella quale una piccola tavola rotonda era rischiarata da candele infisse in candelabri d'argento scorgendo quest'uomo tanto rispettabile posato e sicuro di sé incarnazione della legge del governo e di tutte le forme di convenienza sociale quasi arretrai e sentii d'essere un intruso era impossibile che egli sapesse la verità su di me diversamente non mi avrebbe trattato in questo modo mi resi conto che non potevo accettare la sua ospitalità poiché si basava sulla menzogna vi sono più riconoscente di quanto mi sia possibile esprimere ma sono costretto a mettere le cose in chiaro gli dissi benché io sia innocente la polizia è alla mia ricerca desidero che lo sappiate non mi sorprenderò se mi farete mettere alla porta egli sorrise va benissimo ma non sciupiate il vostro appetito per questo ne riparleremo dopo pranzo mai un pranzo mi fece tanto piacere poiché durante tutta la giornata non avevo mangiato che qualche panino imbottito comperato ai caffè delle stazioni sir walter mi trattò con distinzione mi offrì uno squisito spumante seguito da un porto prelibato nel vedermi seduto a quella tavola servito da un cameriere guantato ricordando che avevo vissuto per circa tre settimane come un bandito per poco non fui preso da un accesso nervoso di pianto parlai con sir walter del pesce tigre dello zambesi che potrebbe asportare tutte le dita di una mano con un morso e i nostri discorsi furono soprattutto volti alla caccia perché egli era stato gran cacciatore in gioventù sorbimmo il caffè in uno studio elegante pieno di libri e adorno di trofei dissi a me stesso che nel caso fossi riuscito a sopravvivere a quell'affare e avessi un giorno l'altro posseduto una casa mia mi sarei organizzato una camera come quella poi scomparse le tazze del caffè e accesi i sigari il mio ospite passò le sue lunghe gambe al di sopra del bracciolo della sua poltrona e mi pregò di cominciare il mio racconto ho obbedito alle istruzioni di harry aggiunse egli in cambio mi ha promesso che mi avreste raccontato qualche cosa di interessante vi ascolto signor enney a sentirmi chiamare col mio vero nome sobalzai poi cominciai dal principio raccontai la mia storia di londra e parlai della sera in cui tornando a casa scadder mi aveva fermato dinanzi alla mia porta gli ripetei tutto quello che mi aveva raccontato relativamente a carolidea alla conferenza del foreign office al che si morse le labbra sorridendo poi venne all'assassinio ed egli si rifece serio seppe tutto quanto riguardava il lattaio il mio viaggio a galloway la mia lettura delle note di scadder all'albergo le avete con voi mi chiese con vivacità ed ebbe un sospiro di sollievo quando trassi di tasca e gli porsi il tacquino non parlai del suo contenuto ma gli raccontai il mio incontro con harry e gli ripetei i discorsi della famosa riunione ciò lo fece scoppiare a ridere harry ha dunque fatto sfoggio delle peggiori assurdità non mi è difficile crederlo è il miglior ragazzo del mondo ma quello stupido di suo zio gli ha insuppato il cervello di sciocchezze continuate signor enei la mia giornata da spaccapietre eccitò il suo interesse mi fece meticolosamente descrivere i due individui dell'automobile e parve interrogare la sua memoria poi ritrovò la sua allegria apprendendo l'avventura di quell'imbecille di joy play ma l'episodio del vecchio della casa della landa lo rese pensieroso anche qui volle conoscere nei particolari connotati dell'uomo mellifluo e calvo con gli occhi simili a quelli di un uccello da preda un vero uccello di cattivo augurio e voi avete fatto saltare la sua baracca dopo essere stato da lui sottratto alle ricerche della polizia ecco una bella azione arrivai finalmente alla fine del racconto delle mie peregrinazioni egli si alzò lentamente stando in piedi dinanzi al camino abbassò lo sguardo verso di me potete escludere la polizia dalle vostre preoccupazioni disse non avete più niente da temere dalla giustizia del vostro paese grandio esclamai hanno dunque trovato l'assassino no ma da una quindicina di giorni nessuno pensa più a incolparvi e perché domandai sorpreso prima di tutto perché ho ricevuto una lettera di scadder lo conoscevo un po perché aveva lavorato parecchie volte per me era un po pazzo un po geniale ma profondamente onesto e il guaio quando si trattava con lui era che egli aveva una certa tendenza a condurre da solo gli affari ciò lo rendeva pressoché inutile nell'ambito dei servizi segreti cosa veramente spiacevole perché possedeva qualità straordinarie era credo l'uomo più coraggioso del mondo perché pur tremando sempre di paura non arretrava dinanzi a nulla e a nessuno ho ricevuto una sua lettera il 31 maggio ma era morto da otto giorni la lettera era stata scritta e impostata il 23 evidentemente egli non prevedeva una fine così vicina la sua corrispondenza impiegava ordinariamente una settimana a aggiungermi poiché veniva spedita con doppia busta in spagna e di là a newcastle sapete bene che aveva la mania di nascondere le sue tracce che cosa diceva balbettai nulla semplicemente che era in pericolo ma che aveva trovato rifugio in casa di un amico sicuro e che avrei ricevuto sue notizie entro il 15 giugno non mi dava indirizzo ma diceva che alloggiavano i dintorni di portland place credo che la sua intenzione fosse di discolparli nel caso che gli fosse accaduto qualche cosa appena ricevuta questa lettera mi recai a scottla yard ripassai i particolari dell'inchiesta e conclusi che l'amico in questione eravate voi signor enney prendemmo sul vostro conto informazioni che risultarono favorevoli credetti di comprendere che la vostra scomparsa aveva per causa non solo la polizia ma un altro timore e ricevendo il biglietto di harry indovinai il resto sono otto giorni che vi aspetto è facile immaginare quale peso queste parole mi togliessero dal cuore mi sentì di nuovo un uomo libero poiché non avevo più da lottare che contro i nemici del mio paese e ora vediamo questo piccolo tacquino disse sir walter l'esame dello stesso ci occupò per un'ora circa ancor prima della fine della lettura il volto di sir walter si fece serissimo alla fine restò per un po in silenzio non so cosa fare disse poi egli ha ragione su un punto e cioè su quello che accadrà dopo domani come ciò abbia potuto venire a sua conoscenza dio solo lo sa e questo è già un guaio ma tutto quello che riguarda la guerra e la pietra nera mi dà l'impressione di un pessimo melodramma voi mi chiederete perché io non abbia una maggiore fiducia nel giudizio di scader è che l'inconveniente del trattare con lui stava appunto nel fatto che egli era troppo romanzesco aveva un temperamento da artista e voleva abbellire la nuda verità inoltre aveva qualche bizzarra mania gli ebrei per esempio lo facevano arrabbiare gli ebrei e l'alta finanza la pietra nera riprese der schwarstein tutto ciò all'aria del contenuto di certi romanzi a dispense da due soldi e tutte le sciocchezze relative a carolide questo è il lato debole della storia poiché io so con certezza che il virtuoso carolide ci seppellirà tutti nessun paese d'europa voglia di vederlo morire inoltre ha fatto proprio recentemente la sua comparsa a berlino e a vienna e ha procurato al mio capo molte difficoltà no in questo scader ha perso la bussola vi confesso francamente enney che questa parte della sua storia non è credibile ser walter tacque un istante poi riprese certo si sta preparando qualche brutta faccenda scader ne aveva intuita una gran parte forse una parte troppo grande e ci ha rimesso la pelle lo ammetto ma sono pronto a scommettere che si tratta semplicemente di spionaggio c'è una grande potenza europea che ha la mania dello spionaggio e bisogna dire che i suoi metodi non sono tra i più scrupolosi siccome paga bene è certo che i suoi emissari non si tireranno indietro per un assassino o due essi vogliono le nostre mosse navali per le collezioni del loro ministero della marina ma queste istruzioni saranno rubricate con altre ecco tutto a questo punto il maggiordomo entrò vostra eccellenza è desiderata al telefono da londra è il signor hilt che vuole parlare con vostra eccellenza personalmente il mio ospite uscì per telefonare ritornò cinque minuti dopo pallidissimo faccio le mie scuse alla memoria di scader disse caro l'idea è stato ucciso con un colpo di rivoltella questa sera poco prima delle sette capitolo 8 l'apparizione della pietra nera l'indomani dopo otto ore di sonno senza sogni discesi per la colazione e trovai ser walter dinanzi al tavolo imbandito intento a decifrare un telegramma il colore vivace del suo volto che avevo notato il giorno prima mi parve attenuato dopo che vi siete coricato ho passato un'ora al telefono mi disse ho spinto il mio capo a parlare al primo ministro e al segretario della guerra hanno deciso di far arrivare royer un giorno prima egli sarà a londra alle 5 è strano che la parola del codice per vice capo di stato maggiore sia porcaio mi indicò le vivande calde riprese d'altronde non credo che tutto ciò serva a granché se i vostri buoni amici sono stati abbastanza abili da scoprire il primo piano è probabile che riescano anche a scoprire le modificazioni che verranno apportate a esso darei un anno di vita per sapere da che parte escono le informazioni credevamo che non ci fossero in il terra che cinque persone al corrente della visita di royer e potete essere certo che in francia ve ne sono di meno poiché dall'altra parte della manica prendono meglio le loro precauzioni mentre mangiavo continuava a parlare con mia grande sorpresa mi rese partecipe di una confidenza non si potrebbero cambiare le disposizioni domandai si potrebbe rispose ma se fosse possibile vorremmo evitarlo essesso nel risultato di un enorme lavoro e nessun surrogato varrebbe altrettanto d'altronde per certi particolari qualunque cambiamento è impossibile a ogni modo se fosse proprio necessario qualche cosa si potrebbe fare ma voi vedete la difficoltà annai i nostri amici non saranno così stupidi da aggredire royer o da tentare qualche scherzo puerile del genere sanno che ciò farebbe rumore ci metterebbe in guardia quello che vogliono è ottenere i particolari a nostra insaputa in modo che royer ritorni a parigi persuaso che tutta la faccenda è un segreto se essi non possono giungere a questo risultato possono considerare il colpo andato a monte poiché sanno che il giorno in cui noi avessimo qualche sospetto tutti i piani sarebbero cambiati vuol dire che dobbiamo stare alle costole del francese sino al giorno in cui se ne tornerà in patria osservai se essi credessero di poter fare il loro lavoro a parigi avrebbero disposto tutto per fare il tentativo là e insomma bisogna pensare che essi abbiano preparato a londra qualche piano macchiavellico nel quale sperano molto royer pranza col mio capo dopodiché verrà da me dove quattro persone lo vedranno white taker dell'ammiragliato io sir arthur drew e il generale wine stanley il primo ministro un po sofferente è partito per sheringham in casa mia royer riceverà da white taker un certo documento dopodiché sarà trasportato in automobile a portsmouth da dove una torpediniera lo condurrà a ivr e il suo viaggio è troppo serio perché egli si possa servire di un piroscafo ordinario non lo si perderà di vista un minuto sino a che non sarà sbarcato sano e salvo in francia altrettanto si dica di white taker sino al suo incontro con royer è tutto quello che possiamo fare di meglio e non vedo come tuttavia devo confessare che non sono affatto tranquillo questo assassino di carolidè farà un baccano del diavolo nelle cancellerie d'europa dopo pranzo mi chiese se fossi capace di guidare un'automobile ebbene mi servirete da autista per oggi e porterete la livrea di alzon avete pressa poco la sua statura avete preso parte alla faccenda e noi abbiamo il dovere di non abbandonare niente al caso i nostri avversari sono uomini disposti a tutto che non rispetterebbero nemmeno il ritiro campestre di un uomo di stato esaurito dal lavoro all'epoca del mio arrivo a londra aveva acquistato un'automobile con la quale mi ero divertito a percorrere il sud dell'inghilterra di modo che ero abbastanza pratico del paese condusse sir walter in città facendo la strada di bath e corsi parecchio era una mattina di giugno tiepida e senza un soffio che prometteva di riscaldarsi in seguito ma intanto era delizioso correre attraverso le piccole città che avevano le vie ennaffiate di fresco e lungo i giardini della vallata del temigi lasciai sir walter al suo palazzo di queen hands gate alle undici e mezzo precise il maggiordomo seguiva in treno con i bagagli la prima cosa che fece il mio ospite fu di condurmi a scontragliarde un signore corretto faccia rasa da notaio ci ricevette vi porto l'assassino di portland place questa fu la presentazione di sir walter la risposta fu un sorriso di traverso il regalo in altri tempi sarebbe stato il benvenuto si tratta se non erro di quel signor richard enney che per qualche giorno ha tanto interessato il mio servizio il signor enney vi interesserà ancora ha molte cose da raccontarvi ma non oggi per alcune ragioni d'ordine superiore la sua storia deve attendere ancora 24 ore allora la racconterà e vi posso garantire che troverete in essa un grande interesse e ne sarete edificato per ora ci tengo a che voi confermiati al signor enney che non ha più da temere noi e di sorta questa assicurazione mi fu subito data potete andare dove volete mi dissero il vostro appartamento che forse non desiderate occupare più vi aspetta ed è in consegna al vostro cameriere siccome non siete mai stato incolpato ufficialmente noi crediamo che non ci sia alcun bisogno di pubblica riabilitazione ma su questo punto farete come meglio credete avremo forse ancora bisogno del vostro aiuto mcgillivray disse sir walter salutando dopodiché mi rese la mia libertà venite da me domani enney non credo ci sia bisogno di raccomandarvi di stare assolutamente tranquillo se fossi in voi me ne andrei a letto tanto più che dovreste avere parecchi arretrati di sonno da recuperare farete bene a non mostrarvi perché se uno dei vostri cari amici della pietra nera vi vedesse potreste avere qualche noia mi sentì piuttosto sbalestrato da principio trovai molto gradevole essere nuovamente un uomo libero e poter andare dove volevo senza alcun timore quell'unico mese passato al bando della società mi era bastato andai al savoy e ordinai un pranzo dei più prelibati dopo il quale fumai il miglior sigaro che mi fu dato trovare ma la mia inquietudine persisteva quando una persona del ristorante mi guardava non potevo evitare il sospetto che egli pensasse di assassinarmi più tardi presi un'automobile pubblica e mi feci condurre a parecchi chilometri da londra me ne tornai a piedi fra i campi e le ville alle quali seguirono slums e strade che trasudavano miseria questo ritorno mi occupò per non meno di due ore tuttavia la mia inquietudine non faceva che peggiorare sentivo che gravi e formidabili avvenimenti erano sul punto di verificarsi e che io il vero perno di tutto non ero escluso royer stava per sbarcare a dover sir walter stava per fare progetti importanti con le poche persone inglesi che erano a parte del segreto mentre in qualche luogo nell'ombra la pietra nera lavorava avevo la sensazione del pericolo e della catastrofe imminenti e stranamente ero convinto che io solo potessi sostenere la lotta ma adesso ero ormai fuori dal gioco ed altronde niente di più naturale non c'era davvero da sperare che i ministri ufficiali dell'ammiragliato e generali pensassero ad ammettermi ai loro consigli ben presto finì col considerare un incontro con uno dei miei nemici qualche cosa sarebbe accaduto provavo una gran voglia di potermi spiegare con quei signori certo nel corso delle rivelazioni avrei potuto colpirne e demolirne qualcuno così a poco a poco divenne di pessimo umore non avevo alcuna voglia di tornare al mio appartamento eppure un giorno l'altro avrei pur dovuto decidermi tuttavia constatato che avevo ancora denaro sufficiente decisi di rimandare la cosa alla mattina seguente e di andare a dormire all'albergo la mia irritazione persistette durante tutto il pranzo in un ristorante di germain street non avevo più fame e rifiutai più arrecchie pietanze senza assaggiarle neppure bevi quasi una bottiglia di vino ma questa non riuscì a rimettermi il buon umore una terribile agitazione si era impadronita di me era un giovanotto come tanti altri senza qualità eccezionali nonostante ciò la convinzione che ci fosse bisogno di me per terminare bene la faccenda non mi abbandonava ero convinto che in mia assenza tutto sarebbe andato per il peggio mi ripetevo che questa era da parte mia una sciocca presunzione che tre o quattro persone scelte tra le più abili del mondo politico le quali avevano a loro disposizione tutte le risorse dell'impero britannico si occupavano della cosa non riuscivo a persuadermi mi pareva che una voce mi parlasse all'orecchio non smettessi un momento di esortarmi all'azione sentivo che se non avessi ascoltato quella voce avrei dovuto pentirmene la cosa finì in questo modo verso le nove e mezzo mi decisi ad andare a queen hands gate era probabile che non mi si ricevesse nemmeno ma il solo fatto di tentare mi avrebbe messo la coscienza in pace mi avviai verso german street all'angolo di duke street incontrai un gruppo di giovanotti in abito da sera che dopo aver cenato si avviavano a qualche teatro di varietà tra costoro c'era il signor manneduke joe play il quale vedendomi si fermò di botto per giove è l'assassino esclamò a me amici afferratelo è enney l'autore dell'assassino di portland place mi afferrò per il braccio i suoi compagni mi circondarono benché la cosa non potesse procurarmi nessuna seccatura il mio pessimo umore mi spinse a comportarmi stupidamente arrivò un poliziotto sarebbe stato logico che io dicessi a lui come stavano le cose e se non mi avesse creduto mi facessi accompagnare a scott laiardo perlomeno al più vicino posto di polizia ma in quel momento ogni ritardo mi parve insopportabile dinanzi alla faccia stupida di mani non seppi trattenermi gli sferrai un pugno in pieno viso e debbi la soddisfazione di vederlo cadere lungo disteso sul marciapiede quella che seguì fu una tremenda colluttazione tutti si scagliarono contro di me il poliziotto mi assalì da dietro distribuì qualche colpo discreto sono certo che in un leale combattimento li avrei mandati tutti a fare compagnia a mani ma il poliziotto mi stringeva alla cintura un altro individuo ne approfittò per prendermi alla gola in preda un furore terribile udì l'uomo della polizia chiedere di che si trattasse e mani dichiarare tra i denti spezzati che io ero l'assassino enney oh basta per giove esclamai fatelo star zitto quanto a voi agente vi consiglio di lasciarmi tranquillo scolta la yard sa esattamente tutto e voi avrete una bella lavata di testa se vi occupate di me bisogna che mi seguiate giovanotto disse la gente vi ho visto colpire questo signore con inaudita brutalità e siete voi che avete cominciato poiché egli non vi faceva niente vi ho visto io se non mi seguirete tranquillamente sarò obbligato a mettervi le manette la mia esasperazione unita all'idea fissa che per nulla al mondo dovevo perdere tempo mi diede la forza di un elefante inferocito feci capitombolare il poliziotto scaraventai in mezzo alla strada all'uomo che mi teneva per il collo e mi scagliai a tutta velocità a lungo duke street udì un fischio dietro di me seguito da uno scalpiccio di persone in corsa sono piuttosto veloce quella sera poi mi sentivo le ali e non batter d'occhio fui in pole mall e svoltai verso saint james park evitato il poliziotto di guardia dinanzi al portone del palazzo mi insinuai tra due file di carrozze all'entrata del mall e mi diressi verso il ponte e tutto ciò prima che i miei inseguitori avessero attraversato la strada nei viali del parco mi slanciai a una velocità folle per fortuna i viali erano quasi deserti e nessuno cercò di fermarmi io non volevo che una cosa arrivare a queen hands gate quando penetrae in quella tranquilla strada essa mi parve deserta di fronte al palazzo di sir walter dove la via si stringeva vidi tre o quattro automobili ferme rallentai la mia andatura qualche metro in là e andai dritto alla porta se il maggiordomo mi avesse impedito di entrare o se anche avesse tardato ad aprire sarei stato fritto invece non tardò affatto avevo appena suonato che la porta si aprì devo vedere sir walter subito disse ansioso è una cosa di grande importanza sir walter è occupato signore io ricevuto ordine di non far entrare nessuno da lui dovrete quindi attendere il maggiordomo era un gigante senza che un muscolo del suo volto si muovesse mi tenne aperto il battente e lo chiuse le mie spalle il palazzo era antiquato con un grande vestibolo nel quale davano le stanze poste tutte intorno e in fondo si scorgeva uno sgabuzzino col telefono occupato da due sedie qui il maggiordomo mi offrì da sedere sentite mormorai sono nei guai ma sir walter ne al corrente ed è per lui che io lavoro se qualcuno vi venisse a chiedere di me rispondete che non mi avete visto fece un segno d'assenso e quasi subito un rumore di voci si alzò nella strada poi il campanello venne suonato violentemente il maggiordomo fu ammirevole aprì la porta e con aria impassibile attese le domande poi rispose appuntino disse a chi apparteneva il palazzo ripete gli ordini che aveva ricevuto e respinse decisamente gli invasori dalla soglia dal mio nascondiglio vedevo tutto e mi divertivo come a teatro da parecchio tempo era in attesa quando il campanello squillò di nuovo il maggiordomo non fece difficoltà e introdusse un nuovo visitatore mentre si levava il sobravito vidi chi era a quell'epoca non si poteva aprire un giornale senza incontrare quel volto la barba grigia tagliata a punta le dure mascelle da lottatore il naso con la punta quadrata e gli occhi azzurri e penetranti era il primo lord del mare l'uomo che aveva quel che si dice riorganizzato la marina britannica passò davanti al mio sgabbuzzino ed entrò in una sala in fondo al vestibolo come la porta si aprì potei udire un suono di voci basse poi la porta si richiuse e fui di nuovo solo per 20 minuti rimasi lì senza sapere che cosa dovessi fare provavo ancora l'assoluta convinzione di essere necessario ma quando e come lo ignoravo non smettevo di consultare il mio orologio e quando le lancette si avvicinarono alle 10 e mezzo pensai che la conferenza dovesse approssimarsi alla fine di lì a un quarto d'ora royer avrebbe dovuto essere sulla strada di portsmouth in quel mentre un altro campanello squillò il maggiordomo apparve la porta della sala di fondo si riaprì e il primo lord del mare ne uscì mentre mi passava vicino gettò uno sguardo nella mia direzione e per un attimo ci guardammo fissi non fu che un secondo ma bastò perché il mio cuore avesse un balzo io non avevo mai visto prima il grande uomo né egli mi conosceva ma durante quell'attimo una luce apparve nel suo sguardo mi aveva riconosciuto impossibile ingannarsi non era che un lampo una scintilla un nulla ma quel nulla significava una cosa e una sola fu da parte sua una cosa involontaria e scomparve subito egli continuò la sua strada preso in un turbine di folli idee udì la porta che si chiudeva alle sue spalle afferrai l'annuario del telefono e cercai il numero del domicilio del primo lord la comunicazione mi fu data subito e intesi la voce di un servitore sua signoria è in casa domandai milord è rientrato da mezz'ora disse la voce è già a letto perché questa sera è indisposto volete lasciare detto qualcosa riappesi il ricevitore mi lasciai cadere su una sedia la mia parte in questo affare non era proprio finita avevamo corso un bel pericolo fortunatamente ero arrivato in tempo ma non c'era un istante da perdere mi diressi verso la porta della sala in fondo ed entrai senza bussare cinque persone erano attorno a un tavolo rotondo alzarono verso di me gli occhi sorpresi c'era lì sir walter il ministro della guerra drew che conoscevo per averne visto le fotografie un omino di una certa età doveva essere wittaker il capo dell'ammiragliato identificai anche il generale winstaley per la sua lunga cicatrice in fronte il quinto era un ometto grassoccio con i baffi color pepe e sale con le sopracciglia folte quando io entrai improvvisamente quest'ultimo si fermò nel bel mezzo di una frase i lineamenti di sir walter esprimevano la sorpresa e l'irritazione vi presento il signor enney di cui vi ho parlato dissi a tutti come scusandosi mi pare signor enney che la vostra visita sia intempestiva io recuperai a poco a poco il mio sangue freddo è una cosa che converrà esaminare risposi io credo invece di giungere proprio al momento giusto per l'amor di dio signori miei ditemi chi è uscito or ora da qui capitolo 9 i 39 scalini lord alloa disse sir walter divenendo scarlatto per la collera non era lui esclamai era la sua immagine vivente ma non era lord alloa era qualcuno che mi ha riconosciuto qualcuno che ho visto il mese scorso aveva appena avarcato la soglia quando ho telefonato al palazzo di lord alloa mi hanno risposto che era tornato a casa da mezz'ora per andare subito a letto ma chi chi balbetto qualcuno la pietra nera esclamai e mi lasciai cadere nella poltrona lasciata libera da poco in mezzo ai cinque personaggi intentiti è assurdo dichiarò il capo dell'ammiragliato sir walter si alzò e uscì dalla camera lasciandoci pensierosi e con gli occhi bassi ritornò in capo a dieci minuti col volto preoccupato ho parlato con alloa disse l'ho fatto alzare egli è tornato direttamente a casa dopo aver pranzato in casa maros ma è una cosa pazzesca interruppe il generale winstelle voi vorreste farmi credere che quell'uomo ha potuto venire qui e rimanere al mio fianco per mezz'ora senza chi mi accorgessi della sostituzione bisogna credere che alloa abbia perduto la testa non vedete dunque di quanta abilità essi abbiano dato prova disse io eravate troppo preoccupati da altre cose per pensare a ciò l'identità di lord alloa era per voi una cosa ovvia se si fosse trattato di qualcun altro forse lo avreste guardato più attentamente ma la sua presenza qui era troppo naturale e questo vi ha chiuso gli occhi allora il francese parlò molto tranquillamente in inglese questo giovanotto ha ragione e le sue osservazioni psicologiche sono giuste e i nostri nemici sono stati abilissimi poi volse verso i presenti la fronte meditabonda vi racconterò una storia disse è una faccenda che mi è accaduta molto tempo fa in senegal ero distaccato in una località sperduta e per distrarmi avevo preso l'abitudine di pescare nel fiume in cui abbondavano grossi barbi una piccola cavalla araba originaria delle dune saline che si trovavano una volta a timbuktu portava abitualmente il paniere contenente il mio pranzo ora una mattina nella quale la mia pesca era notevolmente fortunata la cavalla si dimostrò agitata in modo strano la sentivo nitrire lamentarsi e scalpitare senza abbandonare la pesca la calmai con la voce non la perdevo di vista la vedevo con la coda dell'occhio attaccata a un albero che distava 20 metri in capo a un paio d'ore ebbi voglia di mangiare un boccone riuni il mio pesce in un sacco di tela impermeabile andai verso la bestia lungo la riva giunto presso la cavalla si interruppe e ci guardò fu l'odore che mi insospetti girai la testa e vidi a tre passi da me un leone che mi guardava della cavalla non rimaneva che un ammasso sanguinoso d'osse e di pelle dietro il quale era nascosto lui e come andò a finire chiesi io poiché era abbastanza pratico di caccia per riconoscere che si trattava di una storia vera gli piantai la mia canna da pesca in gola non avevo con me la rivoltella poi arrivarono proprio al momento buono i miei servitori con i fucili ma la belva mi ha lasciato il ricordo e ci mostrò la mano cui mancavano tre dita riflettete disse la cavalla era già morta da più di un'ora e la belva non aveva smesso di sorvegliarmi io ignoravo la morte della mia cavalla perché ero abituato alla sua agitazione e non mi accorsi della sua assenza perché la notavo come una macchia fulva e il leone ne teneva il posto ebbene signori se fu possibile che io mi lasciassi ingannare così in un paese nel quale i sensi sono sempre allerta perché pensate che noi cittadini tutt'altre faccende affacendati non ci si possa ingannare ugualmente sir walter approvò nessuno pensava contraddirlo tuttavia non capisco riprese wine stelle il loro scopo era quello di ottenere queste informazioni a nostra insaputa ora sarebbe bastato per scoprire l'inganno che qualcuno di noi richiamasse alla memoria di lord allò a questo incontro sarebbe stato facile sir walter rise seccamente la scelta di allò approva la loro intelligenza chi di noi sarebbe andato a riparlargli di questa sera e credete che a lui sarebbe passato per la testa di toccare quest'argomento il primo lord del mare era infatti noto per la sua scarsa loquacità e il suo umore poco allegro rimane da sapere disse il generale quale profitto pensino di trarre le spie da questa visita è probabile che il loro inviato non abbia potuto tenere a memoria un numero notevole di pagine piene di nomi straniere e di cifre non è poi difficile rispose il francese una buona spia deve esercitarsi per giungere a possedere una memoria fotografica notate che il nostro spione non ha detto nulla ma ha scorso più volte queste carte dobbiamo ammettere che egli ne abbia portato i particolari impressi nella mente quando ero più giovane anch'io ero capace di questi piccoli sforzi in questo caso non ci rimane che una cosa sola da fare cambiare le nostre disposizioni disse con tristezza sir walter whittaker pareva molto seccato avete raccontato allora dallo a quello che è successo chiese no ebbene non potrei affermarlo ma credo che per fare cambiamenti seri sarebbe necessario modificare la geografia dell'inghilterra vi devo dire un'altra cosa aggiunse royer io ho parlato liberamente quando quell'uomo era qui mi sono anche lasciato sfuggire qualche parola sulle disposizioni militari del mio paese era autorizzato a farlo ma questa informazione ha per i nostri avversari un prezzo inestimabile no amici miei io non vedo che un mezzo per risolvere questa faccenda l'unno che è venuto qui e tutti i suoi associati debbono essere presi immediatamente dio mio esclamai ma come possiamo fare senza l'ombra di un indizio aggiungete che c'è la posta disse whittaker al momento in cui parliamo le notizie sono forse già in strada no disse il francese voi non conoscete i metodi delle spie la spia riceve la sua ricompensa personalmente e personalmente comunica quello che sa abbiamo ancora una possibilità amici miei questi messeri debbono viaggiare per mare bisogna far perquisire le navi e sorvegliare i porti credetemi è un caso gravissimo tanto per la francia quanto per l'inghilterra il perfetto buonsenso di royer ci confortò egli rappresentava l'uomo di azione tra gli indecisi ma io non vedevo da alcuna parte un barlume di speranza come era possibile tra 50 milioni di abitanti delle isole britanniche e in 12 ore mettere le mani sulle più abili canaglie d'europa a un tratto ebbi un'idea dov'è il taccuino di scadder chiesi a sir walter presto datemelo ora mi ricordo che nelle sue pagine c'è qualche cosa egli aprì un cassetto chiuso a chiave mi passò il taccuino trovai il punto all'essi 39 scalini li ho contati alta marea alle 22 e 17 l'uomo dell'ammiragliato mi guardava come se mi credesse pazzo ma non capite che è un indizio esclamai scadder conosceva il rifugio di quella gente ha tenuto per sé il nome del luogo ma sapeva da dove essi sarebbero partiti per abbandonare l'inghilterra domani è il giorno stabilito quanto al posto è quello in cui l'alta marea è alle 22 e 17 forse sono già partiti questa sera disse qualcuno no certamente non hanno alcun motivo di affrettarsi poiché hanno una maniera segreta di andarsene conosco bene i tedeschi hanno la mania di lavorare seguendo un piano prestabilito dove potrei procurarmi un prontuario delle maree wittaker riprese coraggio in fin dei conti è un mezzo da tentare andiamo fino all'ammiragliato salimmo su due automobili scelte tra quelle che aspettavano a eccezione di sir walter che si recò a scontro ai yard per mobilitare mc galloway secondo quanto disse giunti all'ammiragliato dopo aver percorso interminabili corridoi e sale vuote arrivamo in una piccola camera piena di libri e di carte fu cercato l'impiegato che prese subito dalla biblioteca il prontuario ufficiale delle maree mi installai dinanzi a una scrivania gli altri mi stavano attorno in piedi poiché avevo preso in qualche modo il comando delle operazioni mi accorsi subito che non c'era niente da fare vi erano centinaia di rubriche e quell'ora 22 e 17 poteva riferirsi a 50 luoghi bisognava trovare un modo per restringere il campo delle investigazioni mi presi la testa fra le mani per riflettere ci doveva pur essere un modo per decifrare questo enigma che cosa voleva dire scadder con i suoi 39 scalini io pensavo che si trattasse degli scalini di qualche banchina ma se si fosse trattato di ciò egli non avrebbe menzionato il numero si doveva trattare di un luogo in cui c'era più di una scalinata e una di queste si distingueva per il fatto di essere composta di 39 scalini finalmente mi venne un'ispirazione mi misi a studiare tutte le partenze dei piroscafi nessuno partiva alle 22 e 17 che importanza aveva la marea alta se si trattava di un porto doveva essere un piccolo porto nel quale era necessario attendere la marea alta oppure si trattava di un grosso vapore che pescava molto ma nessun vapore dei servizi regolari partiva a quell'ora ed altronde non mi passava neppure per la testa che essi potessero viaggiare su una grande nave in partenza da un porto di prim'ordine dunque si trattava di un piccolo porto nel quale la marea aveva una grande importanza ma nel caso di un piccolo porto non riuscivo a capire che cosa significassero i gradini nessuno che io sapessi presentava una serie di scale si doveva piuttosto trattare di un luogo caratterizzato da una determinata scala dove l'alta marea raggiungeva il massimo alle ore 22 e 17 e insomma le mie congetture mi spingevano a pensare a una costa senza riparo ma l'affare della scala continuava a turbarmi ritornai a considerazioni più generali da dove era probabile che partisse per la germania un uomo che aveva fretta e desiderava fare una traversata rapida e segreta certamente non da un grande porto e nemmeno dalle coste della manica dell'ovest o della scozia dato che quest'uomo partiva da londra misurai la distanza sulla carta e mi sforzai di mettermi nei panni del mio avversario al suo posto io avrei raggiunto ostenda andersa o rotterdam e sarei partito da qualche punto della costa tra cromer e dover tutte queste congetture erano assai vaghe e non pretendevo che fossero ingegnose o scientifiche ma mi affidava una specie di istinto della cui sicurezza avevo già avuto una prova non so se mi spiego mi sforzavo di spremere dalla mia ragione tutto quello che poteva darmi e quando essa urtava contro un ostacolo mi affidavo all'istinto e le mie intuizioni si dimostravano quasi sempre esatte scrissi dunque tutte le mie deduzioni su un foglio di carta dell'ammiragliato eccole certezze assolute 1 luogo in cui esistono parecchie scale quella in questione si distingue per il fatto che a 39 scalini 2 marea alta alle 22 17 preparativi di partenza possibili soltanto ad alta marea 3 gli scalini non sono scalini di una banchina il luogo non è dunque molto probabilmente un porto 4 nessun piroscafo notturno regolare alle 22 17 il mezzo di trasporto deve essere una nave di capodaggio poco probabile uno yacht o un battello da pesca i miei ragionamenti non andavano più in là feci un'altra lista che intitolai congetture ma alla quale attribuivo la stessa certezza che attribuivo all'altra congetture 1 il luogo non è un porto ma una costa aperta 2 battello piccolo yacht o canotto a motore 3 è il luogo in qualche punto sulla costa tra cromer e dover il fatto di troneggiare dinanzi a quella scrivania sotto gli occhi di un ministro di un maresciallo dell'esercito britannico di due alti dignitari del governo e di un generale francese è intento a cercare di trarre qualche senso dagli scarabocchi del povero scadder per una questione di vita e di morte mi sembrava strano sir walter ci aveva raggiunti e mc gillivray non tardò a seguirlo aveva già inviato ordine affinché tutti i porti in tutte le stazioni fossero ricercati tre uomini di cui avevo dati connotati a sir walter d'altronde anche egli era convinto come gli altri che ciò non potesse servire a granché ecco tutto quello che posso dire annunciai è necessario scoprire un luogo nel quale parecchie scale scendono verso la riva una di queste scale deve essere formata da 39 scalini questo luogo mi pare situato su una costa deserta dove gli scogli sono molto elevati tra walsh e la manica inoltre in questo luogo la marea è alta alle 22 e 17 poi mi venne un'idea e aggiunsi non c'è un ispettore dei guardacoste o qualcuno che valga quanto lui e che conosca la costa orientale wittaker ne conosceva uno che abitava a clapham montò in automobile per andare a cercarlo e noi restammo nella piccola stanza ad attenderlo chiacchierando del più e del meno io accesi la pipa e riflettei sui vari punti della faccenda fino a farmi scoppiare la testa verso l'una del mattino l'uomo di cui avevamo bisogno arrivò era un bel vecchio che somigliava a un ufficiale di marina che ci testimoniava un rispetto quasi eccessivo lasciai che il ministro della guerra lo interrogasse direttamente poiché sentivo che sarebbe stato presuntuoso parlare per primo vorreste enumerarci i posti sul mare che conoscete della costa est dove ci siano scogliere e molte scale che scendono al mare quello riflette un momento di che genere di scale intendete parlare ci sono molti luoghi nei quali passaggi sono scavati nella scogliera e molti di questi passaggi posseggono gli scalini o intendete parlare di vere scale di scale se posso esprimermi così fatte tutte di scalini ser walter si rivolse verso di me noi parliamo di scale normali dissi quello riflette ancora mi sembra di non conoscerne ma aspettate c'è un posto del norfolk bretteslam vicino a un campo di golf nel quale ci sono scale per permettere ai giocatori di andare a raccattare le palle perdute no non è quel che cerchiamo dissi ci sono anche molti moli se questo che cercate ogni stazione di bagni ne ha feci un cenno negativo in fede mia signore non vedo altro a meno che forse il roof che cos'è il roof chiesi io è un grande promontorio nel kent vicinissima a bradgate vi hanno costruito sopra una quantità di ville parecchie delle quali hanno uno o più scale che scendono verso un tratto riservato della spiaggia è un luogo molto elegante la gente che vi abita ama essere lasciata tranquilla in casa propria aprì in fretta il prontuario delle maree cercai bradgate al 15 giugno l'alta marea era alle 22 e 27 siamo sulla buona strada dissi con citazione come si potrebbe sapere l'ora dell'alta marea al raf ve lo dico subito signore disse l'uomo io ho abitato in una casa in quei paraggi in altra epoca ma in questo stesso mese ogni sera uscivo per andare a pescare la marea avviene con dieci minuti di anticipo su bradgate richiusi il libro e guarda i miei compagni signori dissi se una delle scale del raf è composta di 39 scalini abbiamo risolto il problema vorrei che mi prestaste la vostra automobile sir walter e una carta topografica se il signor mcgillivray vuole accordarmi dieci minuti potremmo forse combinare qualche cosa per domani sentivo la ridicolaggine di prendere così la direzione dell'affare ma mi pare che gli altri non se ne accorgessero ed altronde dato che ero stato io a dare lo spunto in fin dei conti avevo qualche familiarità con le imprese difficili e questi grandi personaggi erano troppo intelligenti per non riconoscerlo fu il generale royal che mi diede tutto il potere per quel che mi riguarda rimetto volentieri la faccenda nelle mani del signor haney alle tre e mezza filavo a tutta velocità sotto il chiaro di luna tra le siepi del kent col miglior poliziotto di mcgillivray seduto al mio fianco capitolo 10 ultimo incontro in un mattino di giugno rosa e azzurro mi trovai a breadgate dominavo dal griffin hotel un mare d'olio sul quale il battello faro del banco di coke appariva ridotto alle dimensioni di una boa di salvataggio un paio di chilometri più in là a sud ma assai più vicino alla costa una piccola torpediniera aveva gettato l'ancora nella sua qualità di antico marinaio scafie l'uomo di mcgillivray riconobbe la nave e mi disse il suo nome e quello del suo comandante potei dunque telegrafare a sir walter dopo colazione scafie ottenne da un agente le chiavi che aprivano le sei o sette scale del roth ci avviamo insieme a piedi lungo la spiaggia e mentre egli esplorava l'una dopo l'altra le scale io rimasi nascosto in un buco della scogliera perché non volevo correre il rischio di farmi vedere ma a quell'ora i dintorni erano assolutamente deserti e per tutto il tempo che rimasi sulla riva non vidi che gabbiani scafie impiegò più di un'ora a terminare il suo compito e quando lo vidi ritornare verso di me consultando un pezzetto di carta mi sentì molto commosso tutto infatti rispondeva all'esattezza delle mie supposizioni mi lesse ad alta voce il numero degli scalini di ogni scala 34 33 39 42 47 poi dove la scogliera si abbassava 24 per poco non gettai un grido mentre balzavo in piedi tornammo rapidamente in città per telegrafare a mcgillivray gli chiesi di avere a disposizione sei uomini che dovevano alloggiare in diversi alberghi già stabiliti dopo di che scafie si decise a dare un'occhiata alla casa dalla quale dipendeva la scala di 39 scalini le notizie che mi portò mi impensierirono e rassicurarono al tempo stesso la casa chiamata trafalgar lodge apparteneva a un vecchio signore di nome appleton agente di cambio in pensione il signor appleton che passava nella villa a gran parte dell'estate vi si trovava in quel momento per circa otto giorni scafie non poter accogliere molti particolari sul signor appleton se non che questo vecchio signore era un uomo per bene pagava regolarmente le fatture che gli pervenivano e aveva sempre un biglietto da 5 sterline a disposizione per le opere pie locali tuttavia scafie riuscì a penetrare nella casa dalla porta di servizio facendosi passare per un rappresentante di macchine da cucire le domestiche erano tre solamente una cuoca una serva e una cameriera e somigliavano a tutte le persone di servizio che si trovano in un'onesta casa borghese la cuoca non era chiacchierona e ci mise poco a mettere la porta a schefi ma a costui credette di poter affermare che ella non sapeva niente la casa vicina era in costruzione e offriva un ottimo ricovero per l'osservazione dall'altro lato c'era una villa da affittare circondata da un giardino incolto mi feci dare il binocolo di schefi e me ne andai a fare una passeggiata su ruff rimasi sempre dietro la fila delle ville trovai un buon posto sul bordo del terreno da golf di là scorgevo la striscia di prato che bordava la cima della scogliera e sulla quale c'erano piccole sporgenze quadrate provviste di balaustre circondate dai uole donde le scale scendevano alla spiaggia scorgevo anche interamente trafalgar lodge che era una villa di pietre rosse fornita di una veranda situata tra un campo da tennis sul retro e davanti il classico giardinetto delle stazioni balneari pieno di margherite e di gerani da un'antenna altissima la bandiera inglese ricadeva in pieghe inerti sull'immobilità dell'aria non passò molto tempo che vi riuscire qualcuno dalla casa per passeggiare sulla scogliera quando riuscì a inquadrarlo nel campo visivo del mio binocolo riconobbi che si trattava di un vecchio signore che portava un paio di pantaloni di flanella una giacca di panno turchino e un cappello di paglia e che teneva in mano un arnese simile al mio e un giornale costui si sedette sul prato e si misi a leggere di tanto in tanto posava il giornale dirigeva il binocolo verso il mare esaminò a lungo la torpediniera quando l'ebbi sorvegliato per circa mezz'ora si alzò e rientrò in casa certamente per la colazione allora tornai all'albergo non avevo grandi speranze quell'onesta e banale casa non rispondeva alle mie aspettative poteva quel vecchio essere l'archeologo calvo dell'odiosa casa sulla landa impossibile dirlo egli somigliava sotto tutti i punti di vista quei bravi e beati vecchi che si incontrano immancabilmente ai bagni di mare o nei soborghi della città sarebbe stato difficile trovare un esemplare più perfetto di individuo inoffensivo tuttavia dopo colazione ripresi coraggio vedendo apparire mentre stavo seduto sulla terrazza dell'albergo il preciso oggetto che attendevo e che avevo temuto di non vedere uno yacht giunse da sud e gettò l'ancora di fronte al roof era una nave di circa 150 tonnellate e la sua bandiera bianca mi dimostrò che apparteneva alla squadra e in conseguenza di ciò io e schefi assoldammo un barcaiolo per farci condurre a pesca era un pomeriggio caldo e calmo catturammo una ventina di pesci e l'ondulazione del mare azzurro mi fece considerare le cose da un punto di vista più favorevole in cima alle bianche scogliere del roof scorgevo il rosso e il verde delle ville particolarmente l'alta antenna della bandiera di trafalgar lodge verso le quattro quando fummo stanchi di pescare diedi l'ordine al barcaiolo di girare attorno allo yacht che pareva posato sul mare come un bianco uccello pronto a spiccare il volo schefi mi dichiarò che si trattava di una nave assai veloce e che doveva avere macchine potentissime si chiamava arianna come appresi dal berretto di un uomo intento a lucidare gli ottoni gli rivolsi la parola ed egli mi rispose nel dolce dialetto dell'essex un altro marinaio che arrivò subito dopo scambiò con me qualche parola in un inglese perfetto il nostro barcaiolo iniziò con uno dei due una conversazione relativa al tempo e restammo così per qualche minuto a dondolare alla distanza di un remo da tribordo ma improvvisamente gli uomini si disinteressarono di noi e si curvarono sul loro lavoro sul ponte un ufficiale si avvicinava era un giovanotto simpatico ci fece qualche domanda sulla nostra pesca in ottimo inglese ma non poteva sussistere dubbio di sorta su di lui i suoi capelli ricci e il taglio del colletto della cravatta non erano certamente di origine inglese tutto ciò concorreva a rassicurarmi ma mentre vogavamo verso blade gate i miei dubbi tornarono ostinatamente la mia preoccupazione nasceva dal fatto che i miei nemici sapevano come le mie informazioni venissero da scadder e come fosse stato proprio lui a mettermi sulla pista per trovare quel posto se avessero saputo che scadder aveva posseduto questo indizio non avrebbero modificato le loro disposizioni davano troppa importanza la riuscita del loro piano per lasciare qualcosa in balia del caso rimaneva dunque da sapere sino a che punto essi fossero informati di quanto sapeva scadder la sera prima io avevo asserito con sicurezza che i tedeschi non deviano mai dalla linea che hanno tracciato ma se avessero minimamente sospettato che ero sulle loro tracce non avrebbero certo commesso la sciocchezza di non cambiare il loro piano mi chiedevo per esempio se l'uomo della sera prima si fosse reso conto che io l'avevo riconosciuto non lo credevo e mi attaccavo a questa persuasione ma la faccenda non mi era mai sembrata tanto difficile come in quel pomeriggio proprio quando cioè avrei dovuto rallegrarmi di un successo sicuro all'albergo incontrai il comandante della torpediniera al quale scafi mi presentò e con cui scambiai qualche parola dopodiché ritenni prudente consagrare un oro due a sorvegliare trafalgar lodge trovai un altro luogo adatto nel giardino di una casa vuota di là potevo scorgere assai bene il prato sul quale due persone giocavano a tennis uno era il vecchio signore di cui ho già parlato l'altro era più giovane aveva la vita serrata dalla sciarpa colori di qualche società i due giocavano con un'attività frenetica come fanno gli abitanti delle città che cercano il moto violento per rendere elastiche le membra non sarebbe stato possibile immaginare uno spettacolo più innocente si udivano risa e richiami i due giocatori si interruppero per bere quando la cameriera recò loro due bicchieri su un vassoio non credevo ai miei occhi e mi domandavo se non fossi per caso il più grande imbecille del mondo un mistero profondo circondava gli uomini che mi avevano inseguito sulla landa di scozia in aeroplano in automobile un poco di questo mistero si riversava sul diabolico antiquario era logico attribuire a costoro tanto la coltellata che aveva inchiodato scadder dal pavimento quanto i progetti che dovevano essere fatali per la pace del mondo ma questi due impeccabili cittadini si divertivano innocentemente si preparavano a mettersi a tavola per pranzare discutendo banalmente di borsa di cricket e dei pettecolezzi locali avevo teso le reti per prendere i falchi ed ecco che ci trovavamo di fronte a due grosse pernici sopraggiunse poi una terza persona un giovanotto in bicicletta il quale aveva sul dorso un grosso astuccio contenente i bastoni per il golf costui si avviò verso il campo da tennis dove i due giocatori l'accolsero rumorosamente quella brava gente scherzava i loro scherzi suonavano terribilmente inglesi poi uno dei tre asciugandosi la fronte con un fazzoletto di seta dichiarò che andava a fare il bagno sentì che diceva parola per parola sono zuppo di sudore bob questo diminuirà il mio peso vedrete se domani non vi batto vi darò anzi un buon vantaggio sarebbe stato difficile trovare qualche cosa di più inglese rientrarono tutti in casa mentre io mi sentivo l'ultimo degli idioti per una volta tanto avevo preso lucciole per lanterne forse quegli uomini recitavano la commedia ma per chi dove era il pubblico essi non sapevano che ero a 30 metri da loro nascosto dietro i rododendri era veramente impossibile pensare che quei tre bravi amici non fossero quel che sembravano vale a dire tre banali inglesi noiosi se si vuole ma vergognosamente innocenti e tuttavia erano tre uno era vecchio l'altro grosso il terzo bruno e magro e la loro casa concordava con quel che diceva il tacquino di scadder e a un chilometro di distanza ondeggiavo uno yacht a vapore a bordo del quale c'era perlomeno un ufficiale tedesco io pensavo a carolidè assassinato all'europa minacciata da un cataclisma e a coloro che avevo lasciato a londra e che attendevano ansiosamente quel che sarebbe accaduto tra poche ore non c'era da dubitare che l'inferno stesse per scatenarsi tra qualche ora la pietra nera aveva vinto la partita e se sopravviveva a questa notte di giugno avrebbe certo deposto in banca il frutto del suo lavoro non mi rimaneva che una cosa da fare marciare avanti a fondo come avrei fatto se non avessi avuto dubbi anche a rischio di rendermi ridicolo mai nella mia vita avevo accettato un compito con più ripugnanza avrei preferito nella disposizione di spirito in cui mi trovavo entrare con la rivoltella in pugno in qualche rifugio di anarchici o attaccare un leone furioso con una pistola da tiro a segno piuttosto che penetrare nella dimora tranquilla di quei tre allegri inglesi per di loro che la partita era perduta che grosse risate si sarebbero fatti ma improvvisamente ricordai una cosa che mi aveva detto in rodesia il vecchio peter pinner ho già parlato di peter in questo racconto era il migliore esploratore che io abbia conosciuto e prima di convertirsi alla rispettabilità aveva spesso calpestato le aiuole della legge il che gli valse più volte il ruolo di ricercato dalla polizia un giorno in cui discuteva con me il capitolo dei travestimenti peter espose una teoria che mi colpì secondo lui all'infuori delle prove assolute quali le impronte digitali il semplice aspetto fisico era di ben poca utilità per l'identificazione di un fuggitivo che sapesse bene il fatto suo i capelli tinti e le barbe posticce lo facevano ridere come le altre puerilità dello stesso genere una sola cosa aveva l'importanza l'ammosfera così peter pronunziava questa parola colui che arriva a immergersi in un ambiente differente da quello che gli stava intorno quando è stato veduto la prima volta e che inoltre ed è la cosa più importante sa entrare in sintonia con questo ambiente comportandosi come se non ne fosse mai stato fuori costui è in condizioni di ingannare il più abile poliziotto e peter a soffragare la sua teoria raccontava questo aneddoto un giorno avendo preso in prestito un vestito nero andò in chiesa e assistette all'ufficio religioso a fianco dell'uomo che lo cercava se quest'ultimo avesse avuto occasione di vederlo in buona compagnia prima di quel giorno lo avrebbe certo riconosciuto ma egli non lo aveva mai visto che in un'osteria intento a spegnere le lampade a colpi di rivoltella il ricordo delle chiacchiere di peter mi diede il primo reale conforto di quel giorno avevo conosciuto in peter una vecchia volpe astutissima e gli uomini che inseguivo non erano forse le più astute di tutte le volpi perché non avrebbero dovuto giocare la partita secondo le teorie di peter uno sciocco si sforza di sembrare differente da quel che è un uomo abile sembra quel che è pur essendo differente peter aveva anche un'altra massima che io avevo adottato recitando la parte di spaccapietre se dovete rappresentare un personaggio non sarete mai all'altezza della situazione se non persuaderete voi stesso di essere realmente quel personaggio la partita di tennis trovava forse in ciò la spiegazione questa gente non aveva bisogno di recitare la commedia bastava che essi premessero un bottone per passare in un'altra vita nell'ambito della quale si muovevano tanto naturalmente quanto nella prima e peter non si stancava di ripetere che questo era il segreto di tutti i grandi delinquenti siccome le otto si avvicinavano andai a incontrare scafi per dargli le istruzioni necessarie mi intesi con lui sul modo di disporre i suoi uomini dopodiché uscì a fare una passeggiata costeggia il campo da golf poi raggiunsi un punto della scogliera posto più a nord dietro la fila delle ville nei piccoli viotto l'incontra i villeggianti che tornavano dal tennis o dalla spiaggia e un guardacosta del posto oltre ad alcuni asini insieme ai loro conducenti che tornavano a casa a largo nel crepuscolo azzurro vidi accendersi i fuochi sull'arianna e più a sud quelli della torpediniera e di là dal banco di coq i fuochi più possenti dei vapori che si dirigevano verso il tamigi tutto questo spettacolo era così tranquillo e normale che la mia fiducia diminuiva ogni minuto verso le nove e mezzo dovetti prendere il coraggio a due mani per andare verso trafar galloge lungo la strada ritrovai la fiducia vedendo un levriero che trottarellava con un passo elastico dietro una governante esso mi ricordò un cane che avevo posseduto in rodesia e l'epoca in cui me ne andavo con lui sui monti pali alla caccia dello stambecco grigio ora un giorno in cui ne inseguivamo uno questo scomparve a un tratto dinanzi a noi un levriero si fida della sua vista e anche io occhi a eccellenti ma quello stambecco era semplicemente svanito nel nulla più tardi mi ero reso conto della sua manovra sulla roccia grigia la bestia non spiccava più di un corvo su una nuvola d'uragano essa non aveva avuto bisogno di correre era bastato rimanere immobile per confondersi col terreno non appena questo ricordo mi ebbe attraversato il cervello lo applicai e ne trassi la conclusione che i complici della pietra nera non avevano bisogno di fuggire essi si lasciavano semplicemente assorbire dal paesaggio io ero sulla buona strada e piantandomi questa verità in testa giurai di non dimenticarla più gli uomini di schefi dovevano essere ormai al loro posto ma non si vedeva anima viva la casa era come una piazza pubblica per i passanti un muro alto due metri la separava dalla passeggiata della scogliera tutte le finestre un mormorio di voci indicavano che i proprietari stavano finendo di pranzare era veramente una casa di vetro allora con la sensazione di essere l'uomo più stupido del mondo aprì il portoncino e suonai un uomo come me che ha girato il mondo faticando va d'accordo con due categorie di persone che si potrebbero chiamare una inferiore e l'altra superiore egli le comprende come esse lo comprendono io mi trovavo nel mio ambiente con i contadini i vagabondi gli spaccapietre mi sentivo a mio agio anche con uomini come sir walter e quelli che avevo incontrato la sera prima ne ignoro le ragioni ma il fatto è questo ma ciò che un uomo del mio genere non capisce è il mondo beato e soddisfatto dell'alta borghesia il mondo della gente che abita nelle ville egli ignora il loro modo di vedere non ne condivide i pregiudizi ed è intimidito il loro cospetto quanto di fronte a un orso nero quando una gaia servetta venne ad aprirmi feci fatica a recuperare la parola chiesi del signor appleton e venne fatto entrare il mio piano era questo avviarmi subito alla sala da pranzo e provocare con la mia brusca apparizione in quegli uomini che mi dovevano conoscere lo scatto rivelatore necessario per confermare la mia ipotesi ma allorché mi trovai in quell'elegante vestibolo il suo aspetto mi smontò c'erano lì bastoni da golf e le racchette da tennis un assortimento di guanti portabastoni cappelli di paglia e i berretti che si trovavano in 10.000 case inglesi un cumulo di sopraviti ed impermeabili correttamente piegati stava su una cassa panca di quercia scolpita un orologio antico scandiva il tempo piatti di rame lucente ornavano le pareti assieme con un barometro e una litografia rappresentante il famosissimo cavallo di chiltern vincitore di un san legere insomma questo interno era ortodosso quanto quello di una chiesa anglicana quando la cameriera mi chiese il mio nome macchinalmente glielo diedi lei mi fece entrare nel fumoir quel luogo era anche peggio non ebbe il tempo di esaminarlo nei particolari ma potei vedere al di sopra del camino varie fotografie incorniciate e avrei giurato che i gruppi in esse raffigurati rappresentassero collegi e università inglesi però non gettai loro che un'occhiata perché essendo riuscito a dominarmi seguì la cameriera ma era troppo tardi era già entrata nella sala da pranzo aveva detto il mio nome al suo padrone perdetti così l'occasione di vedere che effetto esso facesse sui tre uomini al mio apparire il vecchio che era all'altro capo del tavolo si alzò per venirmi incontro era i smoking e cravatta nera come l'altro che io ormai chiamavo il grosso quanto al terzo individuo il giovanotto bruno era vestito di turchino aveva il colletto floscio e portava i colori di un club o di un collegio l'accoglienza del vecchio fu perfetta il signor n disse con qualche esitazione desiderate parlare con me un momento amici miei torno subito volete passare nel salotto benché non avessi la più piccola certezza mi sforzai di giocare la partita sino in fondo senza badare al suo invito presi una sedia e mi sedetti ho l'impressione che ci siamo già incontrati dissi e che voi dobbiate conoscere la faccenda per la quale sono qui la camera era poco rischiarata non di meno potei vedere dalla fissionemia dei tre uomini che essi recitavano meravigliosamente la sorpresa all'incomprensione può darsi può darsi rispose il vecchio non ho una grande memoria per cui vi pregherei caro signore di espormi il motivo della vostra visita poiché in verità lo ignoro e bene sia ripresi con la sensazione esatta di raccontare sciocchezze sono venuto a dirvi che la partita è perduta e che ho in tasca un mandato d'arresto per voi tre signori un mandato d'arresto disse il vecchio con un'aria autenticamente scandalizzata un mandato d'arresto santo cielo e per quale delitto per l'assassinio di franklin scadder avvenuto a londra il 23 del mese scorso ma è la prima volta che sento questo nome asserì il vecchio con aria intontita uno dei suoi compagni prese la parola è quell'uomo che fu assassinato a portland place ora ricordo di aver letto ma buon dio signore una cosa da matti chi può avervi indotto a pensare scott la yard risposi ci fu allora un minuto di silenzio profondo il vecchio con gli occhi sul piatto giocava con una noce era la vera incarnazione dell'innocenza poi il grosso parlò esitava un po come se cercasse le parole non prendetevela caro zio disse si tratta di un assurdo equivoco ne accadono spesso ma non ci vorrà molto a ristabilire la realtà dei fatti a dimostrare la nostra innocenza io posso dimostrare che il 23 maggio non ero in inghilterra che bob era in sanatorio quanto a voi eravate a londra questo è vero ma potrete dire quel che facevate quel giorno naturalmente persi niente di più facile il 23 era il giorno dopo quello del matrimonio di agata che cosa facevo vediamo sono arrivato al mattino da walking e ho fatto colazione al circolo con charlie simons dopo ah sì ho pranzato dai fishmongers me ne ricordo perché il punch era pessimo e il giorno dopo mi sono sentito male e guardate un po neanche a farla apposta ecco la scatola di sigari che i fishmongers mi hanno regalato dopo pranzo e con una breve risata nervosa indico la scatola che era sul tavolo io credo signore disse il giovanotto volgendosi a me con deferenza che riconoscerete il vostro errore come ogni buon inglese noi non chiediamo che di aiutare la giustizia ma non vogliamo che a scottoliard si rendano ridicoli non è vero zio parve che il vecchio recuperasse la parola certo bob certo faremo tutto quel che potremo per aiutare la giustizia ma tutto ciò è un po esagerato non riesco a rimettermi dalla sorpresa come riderà nelli disse il grosso lei sostiene che voi finirete col morire di noia perché non vi accade mai niente si può dire che questa volta siete servito al di là dei vostri desideri e si misi a ridere come se si divertisse molto è vero per macco se ci penso che storia per il circolo davvero signor henney dovrei arrabbiarmi invocare la mia innocenza ma la cosa è troppo buffa vi perdono quasi per la paura che mi avete fatto a vedervi così funebre mi chiedevo se per caso non avessi ucciso qualcuno in stato di sonnambulismo era troppo sincero per supporre che recitasse la commedia il coraggio mi stava abbandonando il primo impulso fu quello di chiedere scuse e di svignarmela ma mi ripetei che dovevo andare sino in fondo anche a costo di diventare lo zimbello di tutto il regno unito le candelle della tavola mi davano una luce insufficiente allora per dominare il mio turbamento mi alzai mi avvicinai alla porta e girai l'interruttore la brusca invasione della luce li abbagliò tutti e ne approfittai per esaminare i tre volti uno era vecchio e calvo l'altro rotondo il terzo magro e bruno a considerare le loro fisionomie nulla provava che questi uomini fossero quelli che mi avevano inseguito e scozia ma nulla poteva provare che fossero sinceri ancora oggi mi chiedo per quale mistero dopo che camuffato da spaccapietre avevo scrutato due di quelle tre paia di occhi e sotto il nome di ned ensley il terzo non abbia potuto in quel momento farmi una certezza malgrado la mia buona memoria e i miei discreti doni di osservatore relativamente all'identità di quei tre uomini tutti e tre parevano esattamente quel che pretendevano di essere e io non sapevo più che pesci pigliare in questa allegra sala da pranzo con le sue acque forti alle pareti e il ritratto di una vecchia signora tutta in gingheri al di sopra del camino non riuscivo a scorgere nulla che potesse rammentarmi i banditi della landa sull'astuccio delle sigarette posato presso di me sulla tavola potevo leggere come esso fosse stato vinto da percival appleton del circolo same bade per un concorso di golf mi dovetti aggrappare forte a peter pinner per non scappare da quella casa a gambe elevate ebbene signore disse gentilmente il vecchio siete soddisfatto del vostro esame mi fu impossibile articolare una parola spero riconoscerete che vostro dovere abbandonare questa stupida faccenda non sporgerò querela ma voi saprete comprendere quale seccatura debba essere tutto ciò per della gente onesta feci un segno negativo corpo di bacco esclamò il giovanotto questa è grossa avreste forse l'intenzione di accompagnarci al posto di polizia chiese il grosso sarebbe forse il miglior pezzo per farla finita ma suppongo che il commissario locale non possa soddisfarvi io ho il diritto di richiedervi i documenti ma non ho alcuna intenzione di procurarvi noie dopo tutto fate il vostro dovere ma ammetterete con ben poca abilità quali sono le vostre intenzioni non mi rimaneva che un'alternativa o chiamare i miei uomini per fare arrestare i tre abitanti della casa o riconoscere il mio errore e andarmene mi sentivo come magnetizzato dall'ambiente dall'innocenza evidente e non solo dall'innocenza ma anche dalla sorpresa e dall'ingenua contrarietà che esprimevano quei tre volti onesti oh peter pinner gemetti nel mio intimo e ancora per un istante fui sul punto di fare ammenda e far le mie scuse bene mentre aspettiamo proporrei di fare una partita bridge propose il grosso essa darà tempo per riflettere al signor henney d'altronde avevamo proprio bisogno di un quarto voi sapete giocare signore accettai come se si fosse trattato di un banale invito al circolo ripeto che tutto l'insieme mi aveva ipnotizzato passammo nel fumar dove era preparata un tavolo da gioco e dove mi fu offerto da bere da fumare presi posto al tavolo come in un sogno attraverso la finestra aperta si vedeva la luna che bagnava con la sua bianca luce le scogliere il mare i tre uomini avevano recuperato il loro sangue freddo e conversavano placidamente intercalando con quelle frasi gergali che sono inevitabili in una casa di giocatori di golf io dovevo avere una faccia davvero cretino e certamente questo ispirava loro una sempre maggiore tranquillità mio compagno di gioco era il giovanotto bruno in genere io gioco bene a bridge ma quella sera dovetti essere detestabile quanto agli altri essi mi sentivano assolutamente fuori strada ma i loro lineamenti non mi rilevavano nulla non solo avevano l'aria di non essere quelli che io cercavo ma erano altri e io mi aggrappavo disperatamente alle massime di peter pinner fu un piccolo incidente ad aprirmi gli occhi il vecchio tese una mano per prendere il sigaro ma invece di sceglierlo subito lasciò ricadere la mano si appoggiò un momento alla poltrona mentre le sue dita tamburellavano su un ginocchio lo avevo visto fare quel gesto nella fattoria della landa nel momento in cui ero stato dinanzi a lui sotto la minaccia di due rivoltelle fu un nulla che durò un secondo appena c'erano mille probabilità contro una che mi sfuggisse ma invece lo sorpresi e in un batter d'occhio l'atmosfera parve farsi più chiara la nebbia che avviluppava il mio cervello si dissipò e fu con piena assoluta certezza che riconobbi tre uomini la pendola del cammino suonò in quel momento le dieci mi parve che i loro visi si trasformassero sotto i miei occhi sino a rivelarmi i loro più riposti segreti il giovane era l'assassino scorgevo ora una spietata crudeltà ovvero poco prima non avevo veduto che buon umore era stato il suo pugnale non ne dubitavo più che aveva inchiodato scaddere al pavimento era un suo simile che aveva abbattuto con un proiettile di rivoltella caro l'idea mi sembrava che i lineamenti dell'uomo grosso si dissociassero ricomponessero continuamente sotto i miei occhi egli non possedeva un viso solo ma cento maschere diverse che poteva mutare a suo piacimento quel giovane sarebbe stato un eccellente attore ignoravo che fosse stato lui il lord allo della sera precedente ma la cosa aveva poca importanza era lui lo indovinavo che aveva ritrovato scadder e lasciato il suo biglietto da visita per lui secondo quello che mi aveva detto scadder era lui che strascicava le esse e bastava poco a immaginare come questa affermazione dovesse contribuire a renderlo spaventevole ma il vecchio li sorpassava tutti freddo impassibile matematico sfietato come il destino ora che avevo aperto gli occhi non vedevo più in lui affabilità di sorta la sua mascella pareva d'acciaio temprato e i suoi occhi avevano la fosforescenza che hanno quelli degli uccelli da preda frattanto continuavo a giocare a ogni istante un odio più grande inondava il mio cuore quest'odio mi soffocava tanto che non riuscivo più a rispondere al mio compagno di gioco la compagnia di quegli uomini diventava sempre più insopportabile ehi là bob guardate un po' l'ora disse il vecchio farete bene a pensare al vostro treno bob deve andare in città questa sera rivolgendosi a me il suo tono era adesso ad una infernale falsità mi spiace ma dovrà rinunziare a questa passeggiata dichiarai ah basta disse il giovanotto credevo che non pensaste più a queste sciocchezze sono proprio costretto ad andarmene se lo desiderate vi lascerò il mio indirizzo insieme con quelle garanzie che riterrete necessarie no bisogna che restiate risposi dovettero capire che la partita era perduta la loro unica speranza era quella di persuadermi che mi ingannavo grossolanamente e questa speranza svaniva ma il vecchio prese di nuovo la parola offro cauzione per mio nipote questo dovrebbe bastarvi signor henney forse era una mia impressione ma credetti di scorgere un po' di imbarazzo nella pacatezza del suo tono e ce n'era certamente in lui poiché quando lo guardai le sue palpebre ricaddero con quell'incappucciamento da sparviero che il terrore mi aveva fissato nella memoria allora diedi un fischio stridente nel medesimo istante la luce si spense due braccia vigorose mi circondarono il corpo vietandomi di raggiungere con le mani la tasca nella quale abitualmente si porta la rivoltella presto franz il battello il battello gridò in perfetto tedesco una voce mentre io vedevo due dei miei uomini apparire sul prato illuminato dalla luna il giovanotto bruno si slanciò e saltando attraverso la finestra scavalcò il basso muricciolo prima che una mano potesse afferrarlo mi aggrappai al vecchio e la camera si riempì di persone vidi arrestare l'uomo grosso ma io non mi occupavo che di quello che avveniva fuori dove franz correva verso l'inizio della scala che conduceva alla spiaggia un uomo lo inseguì ma senza successo la porta della scala si chiuse dietro il fuggiasco io rimasi lì intontito stringendo sempre la gola del vecchio giusto il tempo necessario a compiere la discesa dei gradini sino al mare d'improvviso il prigioniero mi scappò e si lanciò verso la parete si udì uno scatto come di una maniglia che si chiude poi risonò un brontolio lontano molto al di sotto del livello del suolo e dalla finestra aperta vidi una nube di gesso polverizzato salire dalla tromba delle scale qualcuno girò l'interruttore la stanza fu ancora piena di luce il vecchio mi guardava con occhi fiammeggianti è salvo gridò non lo prenderete è già lontano vittorioso la pietra nera è incastonata nella corona della vittoria i suoi occhi esprimevano qualcosa in più che la semplice gioia del trionfo essi splendevano di un feroce orgoglio la potente fiamma del fanatismo vi ardeva e io capì finalmente contro quale formidabile potenza avesse combattuto quell'uomo era più di una spia era a modo suo un patriota mentre le manette schiudevano attorno ai suoi polsi gli lanciai l'ultima freccia vi auguro che franz sopporti bene e il peso della sua vittoria però debbo dirvi che da un'ora la rianna è nostro potere sei settimane dopo come ognuno sa eravamo in guerra nei primi giorni mi arruolai nell'esercito e l'esperienza maturata in sud africa mi valse il grado di capitano ma credo di poter affermare che avevo fatto la mia vera campagna prima di indossare l'uniforme di ufficiale grazie 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 grazie